le cronache dei sassanidi antichi re di persia che avevano esteso il loro impero nelle indie e ben oltre il gange fino alla cina riferiscono che ci fu una volta un re di quella potente casa che fu il più eccellente principe del suo tempo era amato dai sudditi per la sua saggezza e prudenza e temuto dai vicini per la fama del suo valore e per la reputazione delle sue soldatesche bellicose e ben disciplinate egli aveva due figli il primo genito si chiamava shahriar e il secondo shahzaman ed erano entrambi degni eredi delle virtù paterne dopo un regno lungo e glorioso questo re morì e shahriar salì al trono shahzaman escluso per le leggi dell'impero dall'eredità paterna fu obbligato a vivere come un semplice privato ben lontano dal guardare con invidia la buona sorte del fratello maggiore egli mise invece tutto l'impegno a piacergli e durò poca fatica a riuscirvi shahriar il quale naturalmente amava molto questo principe fu contentissimo della sua compiacenza e per dargli una prova volle dividere con lui i suoi stati cedendogli il regno della grande tartaria shahzaman andò subito a prenderne possesso e si stabilì a samarcanda che ne era la capitale erano già trascorsi due anni da che questi principi vivevano separati quando shahriar desiderando rivedere il suo fratello risolse di spedirgli un ambasciatore per invitarlo a venirlo a trovare scelse per questa missione il suo primo visir il quale partì con un seguito consono alla sua dignità con la maggior rapidità possibile quando il visir giunse nelle vicinanze di samarcanda shahzaman che era stato informato della sua venuta gli andò incontro coi signori della sua corte i quali per onorare il ministro del sultano si erano vestiti con magnificenza il re di tartaria lo accolse con grandi dimostrazioni di gioia e gli domandò subito notizia del sultano suo fratello il visir appagò la sua curiosità e poi gli espose la cagione della sua venuta shahzaman ne fu profondamente commosso saggio visir gli disse il sultano mio fratello mi fa troppo onore né poteva propormi una cosa che mi fosse più gradita se lui desidera vedermi anch'io brucio dello stesso desiderio il tempo non ha diminuito il suo amore ma non ha neppure indebolito il mio il mio regno è tranquillo e non domando che dieci soli giorni per essere in condizioni di partire con voi sicché non è necessario che per così poco tempo entriate in città vi prego di fermarvi in questo luogo e di farvi alzare le vostre tende ordinerò che siano preparati abbondanti rinfreschi non solo per voi ma anche per le persone del vostro seguito ciò fu fatto all'istante e il visir vide tosto giungere una quantità prodigiosa di ogni sorta di provviste accompagnate da doni di grandissimo valore Shazaman prima di partire nominò un consiglio per governare il suo regno durante la sua assenza eleggendo a capo del medesimo un ministro la cui saggezza era nota e nel quale aveva assoluta fiducia allo scadere dei dieci giorni essendo pronto il suo equipaggio si congedò dalla regina sua moglie e uscì verso sera da Samarkand accompagnato dagli ufficiali che dovevano seguirlo nel viaggio andò al padiglione reale che aveva fatto innalzare vicino alle tende del visir si trattenne con quell'ambasciatore fino a mezzanotte e volendo ancora una volta abbrazzare la sposa che gli era molto cara ritornò solo al palazzo si recò direttamente all'appartamento della regina la quale non aspettandosi di rivederlo aveva introdotto nella sua camera uno degli ufficiali della casa il re entrò senza far rumore credendo di fare un'improvvisata alla moglie dalla quale si credeva teneramente amato ma quale non fu la sua meraviglia quando alla luce delle lampade che non si spegnevano mai nella regia vide un uomo nella stanza di lei restò immobile per qualche momento non sapendo se dovesse credere ai propri occhi ma non potendo dubitare esclamò come? sono appena uscito dal mio palazzo e già osi oltreggiarmi perfidi il vostro delitto non rimarrà impunito come re debbo castigare le scellerataggini che si commettono nei miei stati e come sposo offeso debbo sacrificare questi due esseri malvagi al mio giusto risentimento sguainata la sciabola si avvicinò ai due colpevoli e in un attimo li fece passare dal sonno alla morte prendendoli poi l'una dopo l'altro li gettò da una finestra nel fosso che circondava il palazzo quando si fu così vendicato uscì dalla città come vera entrato ritirandosi sotto il suo padiglione non appena vi fu giunto senza parlare di quanto gli era successo comandò che fossero levate le tende e che si partisse si mise subito in ordine ogni cosa e ancora prima di giorno tutti si misero in cammino al suono di timpani e di molti altri strumenti giunto col visire e il loro seguito vicino alla capitale delle indie vide venerdì incontro il sultano shahriar con tutta la sua corte figurarsi il giubilo di questi principi nel rivedersi cesero entrambi a terra per abbrazzarsi e dopo essersi scambiate molte espressioni di tenero affetto li salirono a cavallo ed entrarono in città accompagnati dalle acclamazioni del popolo il sultano condusse il re suo fratello al palazzo che aveva fatto preparare per lui e che per mezzo di un giardino comunicava col suo il giardino che era abitualmente magnifico poiché era destinato alle feste e ai divertimenti della corte era stato reso ancora più bello in quella circostanza shahriar lasciò il re di tartaria per dargli agio di lavarsi e mutarsi d'abito ma non appena seppe che era pronto tornò a trovarlo essi si sedettero sopra un sofà ed essendosi i cortigiani allontanati in segno di riverenza cominciarono a intrattenersi soprattutto ciò che i due fratelli uniti più dall'amore che dal sangue hanno da dirsi dopo una lunga assenza venuta l'ora di cena mangiarono insieme poi ripigliarono la loro conversazione che durò fino a tardi quando accorgendoci shahriar che era ormai notte avanzata si ritirò per lasciar riposare suo fratello l'infelice sasaman si mise a letto ma se la presenza del sultano suo fratello aveva potuto lenire per qualche tempo il suo dolore ora rimasto solo fu ripreso dall'angoscia tutti i particolari dell'infedeltà della regina si presentarono alla sua mente con tanto realismo che si sentiva quasi impazzire infine non potendo dormire si alzò era così profondamente assorbito dai suoi dolorosi pensieri che il volto ne portava i segni il sultano non mancò di notarlo chi ha mai il re di tartaria chi può avergli procurato tanto dispiacere può avere motivo di dolersi dell'accoglienza che gli ho fatto no io l'ho accolto come un fratello di letto e nulla ho da rimproverarmi a questo proposito forse rimpiange di essere lontano dai suoi stati o dalla regina sua moglie ah se è questo che l'affligge gli farò subito i regali che gli ho destinati perché possa partire alla volta di Samarkand quando lo desideri infatti la mattina seguente gli mandò quanto le Indie producono di più raro di più ricco e di più singolare non tralasciando di fare tutto il possibile per divertirlo con nuovi piaceri ma le feste più deliziose invece di rallegrarlo non facevano che aumentarne la pena un giorno avendo Shariar organizzato una battuta di caccia a due giorni di distanza dalla capitale in un paese dove abbondavano i cervi Shazaman lo pregò di dispensarlo dall'accompagnarlo adducendo come scusa che la sua malferma salute non gli permetteva di godere di un tale piacere il sultano non volendo contrariarlo lo lasciò libero e partì con tutta la corte per prendersi quel divertimento dopo la sua partenza il re della grande tartaria vedendosi solo si rinchiuse nel suo appartamento e si mise a una finestra che dava sul giardino quel luogo delizioso e il canto di un numero sterminato di uccelli che vi si trovavano mi avrebbero dato molto piacere se fosse stato capace di goderne ma lacerato dalla memoria del tradimento della regina fissava meno spesso lo sguardo sul giardino di quanto non lo alzasse al cielo per lamentarsi del suo infelice destino ciò nonostante qualcosa finì con l'attirare la sua attenzione una porta segreta del palazzo del sultano si aprì all'improvviso e ne uscirono venti donne in mezzo alle quali camminava la sultana questa principessa credendo che anche il re della grande tartaria fosse andato a caccia avanzò con le sue donne fin sotto le finestre del suo appartamento Chesaman volendo per curiosità osservarle si sistemò in modo da poter vedere tutto senza essere visto si accorse che le persone che accompagnavano la sultana per mettersi a loro agio si scoprivano il viso tenuto fino all'ora celato e si toglievano le lunghe vesti che portavano ma quello che più di ogni altra cosa lo meravigliò fu la scoperta che in quella compagnia che credeva composta di sole donne c'erano anche dieci mori ognuno dei quali si accompagnò con la sua innamorata la sultana dal canto suo non stette a lungo senza compagno e la batte le mani gridando Massoud Massoud e tosto un altro moro discese dalla sommità di un albero e corse da lei con monta premura non è necessario raccontare ciò che accadde allora basti dire che Shazaman ebbe modo di rendersi conto che suo fratello non era meno infelice di lui i trattenimenti di quella compagnia durarono fino a mezzanotte essi si bagnarono poi in una grande vasca d'acqua che formava uno dei più belli ornamenti del giardino dopodiché avendo ripreso le loro vesti rientrarono per la porta segreta del palazzo del sultano mentre Massoud che era venuto da fuori scavalcando il muro del giardino se ne ritornò per la stessa via a vista di tali cose suggerì al re della grande tartaria moltissime riflessioni quanta poca ragione avevo diceva di credere che la mia disgrazia fosse tanto eccezionale questa senza dubbio è l'inevitabile sorte di tutti i mariti perfino il sultano mio fratello il sovrano di tanti stati il più grande principe del mondo non ha potuto evitarla così stando le cose perché dovrei lasciarmi consumare dall'angoscia non se ne parli più la memoria di una disgrazia tanto comune non disturberà d'ora innanzi il riposo della mia vita infatti da quel momento non vi pensò più si fece servire la cena mangiò di buon appetito e tornò allegro come una pasqua quando seppe che il sultano era di ritorno gli andò incontro con Aria Giuliva Shaliar non notò subito il cambiamento e pensò solo ad esprimere il suo rimpianto per l'assenza del fratello poi passò a raccontargli del gran numero di cervi e di altri animali da lui uccisi Shazamà dopo averlo ascoltato con attenzione ricominciò a sua volta a parlare e poiché i dispiaceri non gli impedivano più di rivelare il suo spirito disse mille cose gradite e piacevoli il sultano che credeva di trovarlo nello stato in cui lo aveva lasciato restò meravigliato nel vederlo tanto allegro fratello mio gli disse ringrazio il cielo del felice cambiamento operato sin te durante la mia lontananza ne provo una vera gioia solo ti prego di volermene far conoscere la ragione a questo discorso il re della grande tartaria se ne stette per qualche tempo pensieroso come se stesse studiando la risposta finalmente cominciò a parlare tu sei il mio sultano e il mio padrone ma ti prego di dispensarmi dal risponderti no fratello soggiunse il sultano devi dirmelo io desidero sapere Shazamah non potendo resistere alle insistenze di Shariar rispose ebbene fratello da che me lo comandi voglio soddisfarti allora ti narrò l'infedeltà della regina di Samarkand e quando ebbe terminato il racconto questo proseguì era il motivo della mia tristezza giudica tu se avevo torto fratello mio esclamò il sultano che orrenda storia mi hai narrata ti lodo per aver castigato i traditori che ti hanno fatto un simile oltraggio non si potrebbe rimproverarti per questa azione e sei giusta e ti confesso che al tuo posto non avrei avuto forse la tua moderazione non mi sarei accontentato di togliere la vita a una sola donna credo che ne avrai sacrificate più di mille non mi meraviglio più dei tuoi dispiaceri la ragione era troppo giusta per non soccombervi oh cielo credo che un simile fatto non sia mai accaduto fuorché a te ma ora devi lodare il cielo che ti ha consolato come vedo e siccome non dubito che la tua gioia sia ben fondata raccontami tutto e abbi piena fiducia in me Shazaman ebbe maggiore difficoltà su questo punto e accampò molte scuse ma dovete cedere voglio dunque obbedirti disse al fratello già che assolutamente lo vuoi temo però che la mia obbedienza ti possa causare maggior rammarico di quel che ho avuto io dovrai allora prendertela solo con te stesso perché mi hai costretto a rivelarti una cosa che vorrei seppellire in un eterno oblio ciò che mi dici soggiunse Shariar non fa che stimolare la mia curiosità svelami subito questo segreto di qualunque natura sia il re di Tartaria non potendo più esimersi fece allora una esatta relazione di quanto aveva veduto del travestimento dei mori della libertà della sultana e delle sue donne e non tacque di Massud dopo essere stato testimonia di tali e tante infamie continuò ho concluso che tutte le donne vi sono naturalmente portate e che non possono resistere alla loro inclinazione avendo così riflettuto mi parve fosse una grande debolezza affidare la propria serenità alla loro fedeltà questa considerazione ne è suscita molte altre e finalmente giudicai che non potevo prendere miglior partito che consolarmi ciò mi è costato molti sforzi ma ho ottenuto l'intento e se mi presti fede seguirà il mio esempio questo consiglio prudente non piacqua però al sultano come disse la sultana delle indie è capace di prostituirsi in una maniera tanto indegna no fratello non posso credere a ciò che dici se non lo vedo coi miei propri occhi forse ti sei ingannato e si tratta di una cosa troppo importante per crederla senza prove fratello mio rispose Shazaman se vuoi esserne testimonio non è difficile non hai da ordinare una nuova partita di caccia e quando saremo fuori città con la corte ci fermeremo sotto ai nostri padiglioni e la notte torneremo soli nel mio appartamento sono sicuro che il giorno seguente potrai vedere quello che io pure ho visto il sultano approvò lo stratagemma e subito ordinò una nuova caccia cosicché nello stesso giorno furono alzati i padiglioni nel luogo fissato il giorno seguente i due principi partirono con tutto il loro seguito giunsero al luogo stabilito e vi si fermarono fino a notte Shariar allora chiamò il suo gran vizir e senza manifestargli il suo disegno gli comandò di sostituirlo durante la sua assenza non permettendo a nessuno di uscire dal campo per qualunque motivo dopo aver dato questo ordine il re della grande tartaria e il suo sultano salirono a cavallo attraversarono senza essere riconosciuti il campo rientrarono in città e andarono al palazzo dove abitava Shazaman non appena giunti si appostarono alla finestra dalla quale il re di tartaria aveva veduta la scena dei mori e si godettero per qualche tempo del fresco della sera si intrattennero lanciando spesso sguardi verso la porta segreta quella finalmente si aprì e per farla breve la sultana comparve con le sue donne e dieci mori mascherati chiamò Massoud e il sultano vide tutto e si convinse anche troppo della propria vergogna e disgrazia ohimè esclamò che orrore la moglie di un sovrano quale sono io è capace di questa infamia dopo di ciò quale principe si glorierà di essere perfettamente felice ah fratello mio proseguì abbrazzando il re di tartaria rinunciamo ambedue al mondo la buona fede ne è bandita se essa da una parte lusinga dall'altra tradisce abbandoniamo i nostri stati e tutta la magnificenza che ci circonda andiamo in terre straniere a menare una vita semplice e privata occultando la nostra disgrazia chiamò non approvò questa risoluzione non ebbe animo di opporvisi conoscendo l'indole di chadiar fratello mio gli disse il mio volere dipende dal tuo sono pronto a seguirti ovunque ti piacerà ma promettimi che ritorneremo qui se troveremo qualcuno più infelice di noi te lo prometto rispose il sultano allora replicò il re di tartaria non viaggeremo a lungo uscirono segretamente dal palazzo e si incamminarono per una strada diversa da quella per la quale erano venuti camminarono tutto il giorno e passarono la prima notte sotto gli alberi levatisi sul far del giorno continuarono il loro cammino finché giunsero a una prateria situata in vicinanza del mare nella quale vi erano qua e là grandi alberi frondosi si sedettero sotto uno di quegli alberi per riposarsi e rinfrescarsi e l'infedeltà delle principesse loro mogli formò il soggetto della loro conversazione non era molto tempo che si riposarono quando udirono molto vicino ad essi un terribile strepito che veniva dalla parte del mare e uno spaventevole grido li riempì di terrore allora si aprì il mare e ne uscì come una nera e grossa colonna che pareva andasse a nascondersi nelle nuvole ciò raddoppiò il loro spavento rapidamente si drizzarono e salirono sulla cima di un albero per meglio vedere di che si trattasse non appena furono lassù videro che la nera colonna si accostava alla sponda rompendo le onde non poterono sul momento comprendere che potesse essere ma ne furono ben presto edotti era uno di quei gianni maligni mortali nemici degli uomini era nero e orrendo aveva la forma di un gigante di prodigiosa altezza e portava sopra il capo una gran cassa di vetro chiusa con quattro serrature di fine acciaio entrò nella prateria con quel carico che andò a posare proprio ai piedi dell'albero dove erano quei due principi i quali rendendosi conto di essere in posizione molto pericolosa si credettero perduti intanto il genio si sedette vicino alla cassa e l'aprì con quattro chiavi che teneva appese alla cintura ne uscì tosto una donna riccamente vestita dal portamento maestoso e dalla bellezza perfetta il mostro la fece sedere al suo fianco e guardandola le disse amorosamente donna la più perfetta di quante sono ammirate per la loro bellezza vezzosa creatura che ho rapita il giorno delle nozze e che ho sempre amata costantemente vorresti concedermi di riposare qualche momento vicino a te il sonno dal quale mi sento oppresso mi ha fatto venire in questo luogo per prendere un po' di riposo ciò detto lasciò cadere il suo gran capo sopra le ginocchia della donna poi avendo allungato i piedi che arrivavano fino al mare non tardò ad addormentarsi e subito russò in modo che fece risuonare la sponda la donna allora per caso alzò gli occhi e vedendo in cima all'albero i principi fece loro cenno con la mano di scendere senza timore il loro spavento fu grande allorché si videro scoperti supplicarono la donna a segni di concedere loro di non obbedirle ma lei dopo aver pian piano levato il capo del genio dalle sue ginocchia adagiandolo leggermente sulla terra si alzò e disse a loro con voce bassa ma vivace scendete bisogna assolutamente che veniate da me essi tentarono di convincerla ma lei rispose se non vi sbrigate a scendere lo sveglierò e gli chiederò la vostra morte allora spaventati scesero con tutte le precauzioni possibili per non svegliare il genio come furono a terra la donna li prese per mano ed allontanandosi un poco con loro sotto gli alberi fece liberamente una proposta che quelli da prima rifiutarono ma che lei con minazze li obbligò ad accettare ottenuto che ebbe da loro quanto desiderava avendo osservato che ciascuno portava al dito un anello glielo domandò appena avuti i due anelli andò a prendere un vasetto da un involto dove teneva i suoi oggetti da toletta e ne cavò un filo su cui erano infilati altri anelli di ogni sorta e mostrandoli loro sapete voi disse che significano questi anelli no risposero quelli questi sono rispose la donna gli anelli di tutti coloro ai quali ho accordato il mio affetto sono novantotto ben numerati che conservo per ricordo gli ho chiesto i vostri per la stessa ragione e al fine di arrivare al centinaio ecco dunque continuò cento amanti che ho avuto finora a dispetto della sorveglianza e delle precauzioni di questo indiscreto genio che non mi abbandona mai a un bel rinchiudermi in questa cassa di vetro e tenermi nascosta in fondo al mare io eludo sempre la sua vigilanza da ciò comprenderete che quando una donna ha stabilito un progetto non vi è marito né amante che possa impedirne l'esecuzione gli uomini farebbero meglio a non contraddirle perché questo sarebbe il vero mezzo di renderle savie ciò detto infilò i loro anelli con gli altri e sedutasi come prima sollevò il capo del genio che non si svegliò e se lo pose di nuovo sopra le ginocchia accennando ai principi di ritirarsi e si ripigliarono il cammino per dove erano venuti e quando ebbero perduto di vista la donna e il genio sciagliar disse a sciagliar ebbene fratello che ne pensi di quel che ci è accaduto il genio non ha una innamorata molto fedele non ti pare che nulla eguagli la malizia delle donne sì sì fratello mio rispose il re della grande tartaria e devi pur convenire che il genio è degno di maggior compatimento e poiché abbiamo trovato chi è più infelice di noi torniamo ai nostri stati ciò non deve impedire che ci riposiamo in quanto a me so quale mezzo ad operare perché mi sia asserbata e inviolata la fede che mi è dovuta non voglio per ora spiegarmi ma un giorno saprai il mio segreto e sono sicuro che seguirai il mio esempio il sultano fu d'accordo col fratello e continuando a camminare giunselo al campo sul finire della notte del terzo giorno dalla loro pertenza essendosi divulgata la notizia del ritorno del sultano i cortigiani si recarono di buon mattino nel suo padiglione e gli li fece entrare li accolse con aria più ridente del solito e dispensò cortesie a tutti dopodiché non volendo andare oltre comandò di salire a cavallo e ritornò subito al suo palazzo come vi fu giunto corse nell'appartamento della sultana la fece legare e la affidò al gran visir con l'ordine di farla strangolare e questo ministro esegui l'ordine senza neppure chiedere che delitto avesse commesso lo stegnato principe non si contentò di questo che di sua propria mano recise il capo a tutte le donne della sultana dopo questo rigoroso castigo persuaso che non vi erano donne oneste per prevenire l'infidelità di quella che avrebbe preso nel futuro decise di sposarne una per notte e di farla poi strangolare il giorno seguente promulgata questa legge crudele giurò di osservarla immediatamente dopo la partenza del re di Tartaria il quale dopo poco tempo si congedò da lui e si mise in viaggio carico di magnifici regali partito Shazaman Shariar non mancò di ordinare al suo gran visir di condurgli la figliuola di uno dei generali dell'esercito il visir obbedì il sultano la tenne con sé una notte e il giorno seguente la affidò al visir ordinandogli di ucciderla e nel medesimo tempo gli ingiunse di trovargli un'altra fanciulla per la notte seguente quantunque il visir provasse ripugnanza nell'eseguire simili ordini poiché doveva prestare al sultano suo padrone una cieca obbedienza era obbligato a sottomettervi si gli condusse dunque la figliuola di un cittadino della capitale che fu uccisa il giorno dopo fu poi la volta della figlia di un borghese insomma ogni giorno c'era una fanciulla maritata e una donna morta la fama di tanta mancanza di umanità senza precedenti suscitò una generale costernazione nella città non vi si sentivano che clamori e lamenti qui un padre piangeva e si disperava per la perdita della figliuola là si vedevano madri effettuose che temendo che le loro figlie incontrassero la stessa sorte facevano dolorosamente che prima della sventura eccheggiare nell'aria i loro pianti così che invece delle lodie e benedizioni che sino allora erano state tributate al sultano tutti i suoi sudditi non facevano che imprecare contro di lui il gran vizir il quale come già si è detto era contro la sua volontà esecutore di questa crudele ingiustizia aveva due figliuole la maggiore delle quali si chiamava Sherazad e Duniazad la più giovane quest'ultima non era senza meriti ma l'altra aveva un coraggio superiore al suo sesso uno spirito singolare e possedeva una meravigliosa per spicacia aveva molto letto e possedeva una memoria tanto prodigiosa che non aveva dimenticato nulla aveva studiato con successo la filosofia la medicina la storia le belle arti e componeva versi meglio dei più celebri poeti del suo tempo oltre a ciò era di perfetta bellezza e una grande virtù coronava le sue belle qualità il visir amava appassionatamente questa figliuola veramente degna del suo amore un giorno in cui si intratteneva con lei e lei gli disse padre mio devo chiedervi una grazia che umilmente vi supplico di concedermi io non te la negherò rispose il visir purché sia ragionevole e giusta per giusta replicò Sherazad non può esserlo di più e lo potrei giudicare dal motivo che mi obbliga a chiedertela ho in mente di fermare le feratezze che il sultano compie contro le famiglie di questa città voglio dissipare il giusto timore che tante ladri hanno di perdere le loro figliuole in una maniera tanto funesta la tua intenzione è molto lodevole o mia cara figliuola disse il visir ma il male al quale vuoi porre rimedio mi pare irreparabile come vorresti di conseguire il tuo scopo padre mio rispose Sherazad da che per tuo mezzo il sultano celebra ogni giorno un nuovo matrimonio io ti scongiuro per il tenero amore che hai per me di procurarmi l'onore di essergli moglie il visir non poteva dire senza orrore un simile discorso ahimè rispose con viva angoscia hai perduto la ragione figliuola come puoi farmi una preghiera tanto pericolosa tu ben sai che il sultano ha fatto giuramento sopra la sua anima di non sposarsi se non una notte sola con la stessa donna e di ucciderla la mattina seguente e tu vuoi che io gli proponga di sposarti sai a che cosa ti esporrebbe il tuo zelo indiscreto sì padre mio rispose la saggia figliuola conosco tutto il pericolo al quale mi espongo e questo non può intimorirmi se muoio la mia morte sarà gloriosa e se riesco nella mia impresa renderò alla mia patria un importante servizio no no disse il visir qualunque ragione tu possa addurre non pensare che io possa consentire alla tua richiesta quando il sultano mi ordinerà di immergerti il pugnale nel seno oi me dovrà obbedire ho un doloroso ufficio per un padre se tu non temi la morte pensa almeno al mortale dolore di vedere la mia mano tinta del tuo sangue per questa sola volta padre mio disse Sarazad concedimi la grazia che ti chiedo sei ostinata riprese il visir e questo mi irrita molto perché mai correre alla tua perdita chi non prevede la fine di una pericolosa impresa non può uscirne con onore temo che accada anche a te ciò che successe all'asino che stava bene e non seppe contentarsene quale disgrazia accadde mai a quell'asino riprese Sarazad te la narrerò ascoltami l'asino il bue e l'agricoltore un ricchissimo mercante possedeva molte case in campagna nella quale nutriva una gran quantità di bestie ad ogni sorta si ritirò con sua moglie e di suoi figli in una delle sue terre per accudire gli stesso alle sue faccende egli aveva il dono di capire il linguaggio degli animali ma a questa condizione che se l'avesse spiegato a qualcuno si sarebbe esposto al pericolo di perdere la vita il che gli impediva di comunicare le cose che comprendeva grazie a tale dono stavano alla stessa mangiatoia un bue e un asino un giorno che gli era seduto vicino ad essi mentre stava divertendosi a vedere giocare i suoi figliuoli udì che il bue diceva all'asino come sei felice tu che godi tanto riposo mentre ben poca fatica si richiede da te un uomo ti governa ti lava ti dà dell'orzo e dell'acqua fresca e limpida la tua maggior pena sta nel portare il mercante nostro padrone quando deve fare qualche breve viaggio senza questo passeresti tutta la tua vita nell'ozio e io invece vengo trattato in modo ben diverso il mio stato è tanto infelice quanto il tuo è beato non appena il giorno vengo attaccato a un aratro che sono forzato a tracinare tutto il giorno per rompere la terra e che mi stanca tanto che qualche volta ne forse mi mancano ciò nonostante l'agricoltore che è sempre dietro di me non tranascia di bastonarmi a forza di tirar l'aratro ho il collo tutto scorticato alla fine dopo aver ben arato da mattina e sera al mio ritorno mi vengono date da mangiare solo fave secche e cattive non buone per seminare o altre cose di minor conto per colmo di miseria quando mi sono pasciuto di questa robaccia sono obbligato a passare la notte nel mio letame vedi dunque se non ho ragione di invidiare la tua sorte Nazino non interruppe mai il discorso del bue ma quando ebbe terminato di parlare gli disse tu sei sempre il solito ignorante sei troppo semplice e ti lasci condurre come si vuole né sai prendere una buona risoluzione intanto quale vantaggio ottieni da tutte le indegnità che soffri ti ammazzi per il riposo e il profitto di coloro che non te ne sono grati per nulla non saresti trattato in questa maniera se il tuo coraggio uguagliasse la tua forza quando l'agricoltore viene per attaccarti all'aratro perché non fai resistenza perché non gli dai delle cornate perché non dimostri il tuo sdegno scalpitando perché insomma non gli ispiri timore con spaventevoli muggiti la natura ti ha fornito i mezzi per farti rispettare e tu non te ne servi ti vengono date fave passite e cattiva paglia non mangiarle odorale solamente e lasciale se seguirai i consigli che ti do vedrai ben presto un cambiamento e mi ringrazierai il bue ascoltò attentamente i consigli dell'asino e gli dimostrò quanto gli fosse obbligato caro asino soggiunse non mancherò di far tesoro dei tuoi consigli e vedrai come me ne servirò dopo questo dialogo di cui il mercante non aveva perso sillaba e si tacquero la mattina seguente sul far del giorno l'agricoltore andò a prendere il bue l'attaccò all'aratro e lo condusse al solito lavoro il bue che non aveva dimenticato il consiglio dell'asino si mostrò molto arrabbiato quel giorno e la sera quando l'agricoltore lo ricondusse alla mangiatoia e volle attaccarlo secondo l'usanza il malizioso animale invece di presentare da sé le corna fece il tribelle e rinculò muggendo abbassando il capo per cozzare contro l'agricoltore esegui insomma tutta la scena che l'asino gli aveva consigliato il giorno seguente l'agricoltore andò a prenderlo per ricondurlo al lavoro ma trovando la mangiatoia piena delle fave della paglia che la sera vi aveva poste e il bue colicato a terra con le gambe distese e danzante lo credette gravemente ammalato ne ebbe pietà e giudicando che sarebbe stato inutile condurlo andò subito ad avvertire il mercante egli si accorse che i pessimi consigli dell'asino erano stati messi in pratica e per castigarlo come meritava vai disse l'agricoltore e poni l'asino al posto del bue fallo arare in sua vece e fallo stancare ben bene l'agricoltore obbedì l'asino fu obbligato a tirare l'aratro tutto quel giorno il chielo stanco molto non essendo abituato a quel lavoro oltre a ciò ricevette tante bastonate che al ritorno non poteva rezzersi in piedi il bue frattanto era contentissimo aveva mangiato quanto c'era nella mangiatoia ed era stato a riposo tutto il giorno si rallegrava di aver fatto buon uso dei consigli del suo compagno e lo benediva mille volte per il bene che gli aveva procurato né trascurò di complimentarsi di nuovo con lui quando lo vide arrivare l'asino non rispose al bue tanto era il dispetto che lo divorava la mia sola imprudenza diceva fra sé mi ha procurato questa disgrazia vivevo felice e tutto mi sorrideva avevo ciò che desideravo ed è colpa mia se mi trovo in questo stato deplorevole e non invento qualche astuzia per liberarmene la mia rovina è certa mentre si diceva queste cose era talmente privo di forze che si lasciò cadere mezzo morto accanto alla sua mangiatoia a questo punto il gran vizir voltandosi a Sharazad le disse figlia mia tu appunto come quell'asino rischi di perderti a causa della tua imprudenza credimi statene quieta e non cercare la morte padre mio rispose Sharazad la favola che mi hai narrata non può farmi mutare di soluzione né tralascerò di importunarti finché non avrò ottenuto di essere presentata al sultano il vizir vedendo che lei persisteva nella sua richiesta soggiunse dunque non vuoi rinunciare alla tua ostinazione sarò obbligato a trattarti nella stessa maniera con cui il mercante del quale ti ho raccontato la storia trattò sua moglie poco tempo dopo ascolta questo mercante avendo saputo che l'asino si trovava in uno stato pietoso ebbe curiosità di sentire cosa si sarebbero detti gli animali per cui dopo cena se ne uscì al chiaro di luna e andò a sedersi vicino ad essi in compagnia di sua moglie arrivando udì l'asino che diceva al bue compare dimmi te ne prego cosa pensi di fare quando l'agricoltore ti porterà domani da mangiare cosa farò rispose il bue continuerò a fare quanto mi ha insegnato indietreggerò presenterò le corna come ieri farò l'ammalato e fingerò di essere vicino alla morte pensaci bene replicò l'asino questo sarebbe il vero mezzo per morire perché arrivando questa sera ho sentito che il mercante nostro padrone diceva un certo non so che che mi ha fatto tremare per amor tuo ebbene ti hai udito disse il bue non nascondermi nulla di grazia mio caro asino il nostro padrone riprese l'asino ha detto all'agricoltore queste crudeli parole già che il bue non mangia ne può stare in piedi voglio che domani mattina sia ammazzato ne faremo carne salata non può dunque tardare a venire il macellaio questo è quello di cui ti devo avvertire soggiunse l'asino l'interesse che ho per la tua buona salute e l'amore che ho per te mi obbligano ad avvertirtene e a darti un nuovo consiglio non appena ti verranno date le fave e la paglia alzati ed avventati con avidità il padrone giudicherà da questo che sei guarito e senza dubbio revocherà la sentenza di morte se agirai diversamente per te è finita questo discorso produsse l'effetto che l'asino si era proposto il bue rimase stranamente confuso e muggì di spavento il mercante il quale li aveva ascoltati con molta attenzione proruppe in una gran risata di modo che sua moglie ne restò stupefatta raccontami gli disse perché ridi con tanta forza perché anch'io rida con te moglie mia accontentati di sentirmi ridere no riprese quella voglio saperne la ragione non posso darti questa soddisfazione riprese a dire il marito sappi solamente che io rido di quanto il nostro asino ha detto al nostro bue il resto è un segreto che non mi è concesso di rivelarti e chi ti proibisce di rivelarmelo replicò lei se te lo dicessi e gli rispose mi costerebbe la vita ti burli di me esclamò la donna ciò che mi dici non può essere vero e se non mi riveli subito il motivo del tuo riso se rifiuti di ripetermi ciò che l'asino e il bue hanno detto giuro per momento che non vivremo più insieme dette queste parole rientrò in casa e si mise in un angolo dove passò tutta la notte piangendo amaramente il marito se ne stette solo nel letto e la mattina vedendo che lei non cessava di lamentarsi non sei saggia le disse affleggendoti in tal modo non ne vale la pena a te importa così poco di saperlo quanto a me invece importa di tenerlo nascosto non ci pensare dunque più te ne scongiuro ci penso tanto rispose la moglie che non tralascerò di piangere fino a che non avrai appagata la mia curiosità ma ti dico seriamente che mi costerà la vita replicò lui se mi arrendo alle tue indiscrete domande succeda quel che dio vuole ma io non cederò vedo benissimo soggiunse il mercante che non vi è mezzo per farti intender ragione perciò vado a chiamare i ragazzi perché abbiano la consolazione di vedermi prima che io muoia fece venire i suoi figliuoli e mandò una persona a chiamare il padre e la madre e i parenti di sua moglie radunati che furono e dopo che ebbe spiegato loro di cosa si trattava quelli usarono tutta la loro eloquenza per far comprendere alla moglie che aveva torto a non voler cedere ma quella respingendo ogni consiglio rispose che ben volentieri sarebbe morta piuttosto di cedere al suo marito il padre e la madre in vano si affaticarono a persuaderla che la cosa che desiderava sapere era di minima importanza essi non l'ebbero vinta né con l'autorità né con le parole quando i suoi figli videro che la si ostinava a rifiutare tutte le buone ragioni con le quali si voleva vincere la sua caparbietà si misero a piangere a dirotto il mercante stesso non sapeva più che dire e che fare solo seduto vicino alla porta di casa se ne stava a pensare se dovesse sacrificare la propria vita per risparmiare quella di sua moglie che amava molto ora figliola mia continuò il visir parlando sempre a Sherazad questo mercante aveva 50 galline e un gallo con un cane che faceva loro la guardia mentre se ne stava a sedere come ho già detto e profondamente pensava al partito da prendere vide il cane correre verso il gallo il quale si era avventato sopra una gallina e sentì che gli parlava nei seguenti termini o gallo la sorte non permetterà che tu viva ancora a lungo non hai vergogna a comportarti così proprio oggi il gallo si rizzò sopra i suoi speroni e voltandosi dalla parte del cane perché mai rispose fieramente ciò mi verrebbe proibito oggi piuttosto che negli altri giorni sappi dunque replicò il cane che il nostro padrone è oggi in grave imbarazzo sua moglie vuole che egli le riveli un segreto il quale di natura tale che gli costerebbe la vita se lo manifestasse la situazione è tale che temo che egli non abbia sufficiente costanza per resistere all'ostinazione di sua moglie perché l'ama ed è intenerito dalle lacrime che incessantemente ella sparge egli forse morirà noi tutti in questa casa lo temiamo tu solo insultando la nostra tristezza tu solo dico hai l'impudenza di divertirti con le galline quanto è mai insensato il nostro padrone ha una sola moglie e non sa dominarla mentre io ne ho cinquanta che eseguono puntualmente ciò che voglio faccia dunque ricorso alla ragione e troverà subito il mezzo per uscire dall'imbarazzo nel quale si trova e che vorresti facesse disse il cane che entri nella camera di sua moglie rispose il gallo e dopo esservi si rinchiuso con lei prenda un bastone e le dia un sacco di bastonate sono certo che dopo lei diventerà obbediente e non lo solleciterà più oltre per dire ciò che non deve non appena il mercante ebbe udito quanto il gallo aveva detto si alzò e preso un grosso bastone e andò a trovare sua moglie che continuava a piangere si chiuse con lei e tanto duramente la bastonò che lei non poteva fare a meno di esclamare basta oh marito basta lasciami non ti chiederò più nulla a queste parole comprendendo che lei si rendeva conto d'essere stata tanto a sproposito curiosa smise di maltrattarla aprì la porta ed entrarono tutti i parenti i quali si rallegrarono di ritrovare la donna guarita dalla sua ostinazione e fecero i complimenti al marito per quel felice espediente del quale si era servito per ridurla alla ragione figuola mia soggiunse il visir meriteresti d'essere trattata nella stessa maniera con cui fu trattata la moglie del mercante padre mio disse allora Shahrazad di grazia non ti dispiace se io persisto nei miei propositi la storia di questa donna non può farmi mutare parere potrei narrartene molte altre per convincerti che non devi opporti ai miei desideri peraltro perdonami se al disco dirlo tu ti opponi invano poiché se per amore non aderirai alla mia preghiera andrò io stessa a presentarmi al sultano il padre finalmente stanco dell'insistenza della figuola si arrese quantunque afflittissimo di non averla potuta distogliere da una risoluzione tanto funesta e andò a trovare Shahriar per annunciargli che la prossima notte gli avrebbe condotto Shahrazad il sultano resta molto meravigliato del sacrificio che il suo gran visir gli faceva come mai hai potuto risolverti a mettere in mio potere la tua stessa figliuola sire gli rispose il gran visir si è offerta spontaneamente l'infelice destino che l'attende non ha potuto intimorirla preferisce al vivere l'onore di essere la sposa della maestra vostra ma non ti lusingare oh visir riprese il sultano domani ti affiderò Shahrazad con l'ordine di ucciderla se mancherai ti giuro che ti farò morire sire il mio cuore certamente si spezzerà dal dolore nell'obbedirvi ma niente avrà da rimproverarmi perché vi prometto un'esecuzione fedele Shahriar accettò l'offerta del suo ministro e gli disse che stava a lui di condurgli la figliuola quando gli piacesse il gran visir andò a portare questa notizia a Shahrazad la quale l'ascoltò con giubilo come se si fosse trattato della notizia più gradita del mondo ringraziò suo padre per averla accontentata e vedendolo presso dal dolore gli disse per consolarlo che sperava che non avrebbe avuto da pentirsi di averla maritata col sultano ma che al contrario avrebbe avuto ragione di rallegrarsene per tutto il resto dei suoi giorni poi non pensò ad altro che ad acconciarsi in modo da comparire nel modo migliore possibile alla presenza del sultano e prima di partire si ritirò in segreto dalla sua sorella Duniazad dicendo cara sorella ho bisogno del tuo aiuto in un affare importantissimo nostro padre sta per condurmi alla casa del sultano per farmi sua sposa non spaventarti per questa notizia ascoltami solamente con pazienza quando sarò alla presenza del sultano lo supplicherò di permettere che tu dorma nella camera nuziale perché io possa ancora in quella notte godere della tua compagnia se consenti come spero al mio desiderio ricordati di svegliarmi domani un'ora avanti il giorno e di dirmi prestapoco queste parole sorella mia ti prego prima che spunti il giorno di narrarmi una delle belle favole che tu sai io subito te ne racconterò una e mi lusingo con tal mezzo di liberare il popolo dalla costernazione in cui si trova duniazade rispose che avrebbe fatto con gran piacere quanto ella le domandava giunta finalmente l'ora di andarsene a letto il gran visir condusse sharazade al palazzo e dopo averla introdotta nell'appartamento del sultano si ritirò il principe appena si vide solo con lei le comandò di scoprirsi il viso e la trovò tanto bella che ne rimase incantato ma osservando che quella si struggeva in pianto gliene chiese la cagione sire rispose sharazade ho una sorella che amo talmente e da cui sono ugualmente corrisposta vorrei che ella passasse la notte in questa camera per godere la consolazione di vederla e per dargli l'ultimo addio volete concedermi la gioia di darle quest'ultima prova del mio amore shariar avendo consentito mandò a chiamare duniazad la quale accorse prontamente il sultano si mise a letto con sharazade sopra un giaciglio molto alto all'usanza dei monarchi orientali e duniazad sopra un letto che le era stato preparato lì accanto un'ora prima del giorno essendosi duniazad svegliata non aveva trascurato di adempire a quanto le aveva raccomandato sua sorella sorella mia cara esclamò se non dormi ti prego prima che appaia il giorno di narrarmi una delle novelle che tu sai oimè questa sarà forse l'ultima volta che godrò di un tale piacere sharazad invece di rispondere a sua sorella si voltò al sultano e gli disse si re vostra maestà vuole concedermi che io dia questa soddisfazione a mia sorella ben volentieri rispose il sultano allora sharazad disse a sua sorella di prestarle attenzione e rivoltasi a shariar cominciò a narrare la prima novella il mercante il genio c'era una volta un mercante che possedeva grandi ricchezze un giorno poiché un affare importante lo chiamava lontano dal luogo dove soggiornava salì a cavallo e partì con una valigia in cui aveva riposta una piccola provvista di biscotti e di datteri dovendo attraversare un paese deserto dove non avrebbe trovato di che vivere arrivò senza nessun incidente al luogo indicato e quando ebbe sbrigato il suo affare risalì a cavallo per tornarsene a casa il quarto giorno del suo viaggio faceva così caldo e il sole bruciava tanto che egli decise di abbandonare il cammino per andarsi a rinfrescare sotto alcuni alberi che aveva visto nella campagna vicino a un gran noce trovò una fontana di acqua chiarissima pose i piedi a terra attaccò il cavallo a un albero e si sedette vicino alla fonte dopo avervi tirato fuori dalla valigia alcuni datteri e un po' di biscotti mangiando i datteri ne settava i noccioli a destra e a sinistra quando ebbe terminato quel pasto frugale da buon musulmano si lavò le mani il viso ai piedi e fece la preghiera era ancora in ginocchio quando vide apparire un genio tutto bianco per la vecchiaia di dimensioni enormi e avanzando fino a lui con la sciabola in mano gli disse con una voce terribile alzati perché io ti uccida come tu hai ucciso mio figlio e accompagnò queste parole con un grido spaventoso spaventoso il mercante atterrito dall'orrida figura del mostro e dalle parole che gli aveva rivolte dispose tremando mio buon signore di quale delitto sono colpevole perché mi togliete la vita io voglio ucciderti perché hai ucciso mio figlio oh buon dio disse il mercante come ho potuto uccidere vostro figlio se non lo conosco neppure ecco ciò che hai fatto ti sei seduto arrivando qui hai tolto dei datteri dalla tua valigia e mangiandoli ne hai gettati i noccioli a destra e a sinistra ho fatto infatti ciò che dite rispose il mercante non posso negarlo ma che male c'è facendo così riprese il genio io ti dico che hai ucciso mio figlio infatti mentre tu gettavi i noccioli mio figlio passava ne ha ricevuto uno nell'occhio e ne è morto quindi ora ti ucciderò oh signore perdono ridò il mercante niente perdono dispose il genio nessuna misericordia non è forse giusto uccidere chi ha ucciso sono d'accordo disse il mercante ma io vi assicuro che non ho ucciso vostro figlio e quando ciò fosse stato si tratterebbe di una disgrazia sono innocente e di conseguenza vi supplico di perdonarmi e di lasciarmi in vita no no disse il genio persistendo nella sua risoluzione bisogna che io ti uccida come hai ucciso mio figlio detto ciò afferrò il mercante per un braccio lo gettò a terra e alzò la sciabola per tagliargli la testa intanto il mercante piangendo e protestando la sua innocenza lamentava la sorte della sposa e dei figliuoli e diceva le cose più commoventi del mondo il genio sempre con la sciabola sguainata ebbe la pazienza di aspettare che l'infelice terminasse i suoi lamenti ma non si lasciò minimamente commuovere tutte queste parole sono superflue gridò quando pure le tue lacrime fossero di sangue ciò non mi impedirebbe di ucciderti come tu hai ucciso mio figlio dunque replicò il mercante volete assolutamente togliere la vita ad un povero innocente sì rispose il genio a questo punto sharazad accorgendosi chiaro ormai giorno tacque che magnifico racconto esclamò allora duniazad il seguito è ancora più bello ribattei sharazad purtroppo non lo potrei udire a meno che il sultano non mi accordi di raccontarlo la notte prossima shariar che aveva ascoltato con grande diletto la novella decise in cor suo di rimandare la morte della giovane al giorno seguente così da poterne udire la fine nel frattempo il gran vizir era in preda all'angoscia non aveva potuto chiudere occhio in tutta la notte e aveva continuato a pensare alla triste sorte della figlia si può immaginare il suo sollievo quando vide entrare il sultano nella sala del consiglio senza che gli avesse dato l'ordine funesto come ogni mattina il sultano come ogni giorno si occupò degli affari dello stato e quando venne la notte fece chiamare ancora shahrazad all'alba luniazad che aveva dormito ancora nella camera non mancò di chiedere alla sorella il seguito della storia continua disse il sultano senza aspettare che shahrazad gliene domandasse il permesso continua il racconto del genio e del mercante perché sono curioso di conoscerne la fine shahrazad allora ricominciò a raccontare quando il mercante vide che il genio stava per troncargli la testa gettò un grido e disse non abbiate la bontà di accordarmi una dilazione datemi il tempo di andare a dire addio alla mia sposa e ai miei figli voglio dividere fra loro i miei beni perché non debbano poi litigare dopo la mia morte ciò fatto tornerò in questo luogo per sottomettermi a tutto quello che vorrete fare di me temo disse il genio che se ti accordo la dilazione che mi domandi tu possa non ritornare non dubitate io giuro per il dio del cielo e della terra che ritornerò quanto tempo starai assente replicò il genio vi domando un anno perché non posso in minor tempo sistemare i miei affari e disponmi a rinunciare senza rammarico al piacere della vita prometto che fra un anno senza fallo torgerò sotto questi alberi per rimettermi nelle vostre mani il genio lo lasciò presso la fontana e disparve il mercante essendosi rimesso dallo spavento risalì a cavallo e riprese il suo viaggio ma se da un lato era lieto di aver evitato un così gran pericolo dall'altro era in una mortale tristezza pensando al fatale giuramento che aveva fatto quando arrivò a casa la sposa e i figli lo ricevettero con dimostrazioni di viva gioia ma lui invece di ricambiarli si mise a piangere così amaramente che essi ritennero gli fosse accaduto qualche cosa di straordinario la moglie gli domandò la ragione delle sue lacrime e del dolore che dimostrava noi eravamo lieti del tuo ritorno diceva e invece tu ci turbi tutti perché appari così addolorato ah rispose il marito perché non posso cambiare la situazione io non ho più che un anno da vivere allora raccontò ciò che era avvenuto tra lui e il genio e la solenne promessa fattagli di tornare al compiersi di un anno per essere ucciso quando ebbe finito di parlare tutti cominciarono a desolarsi la donna mandava grida pietosa percuotendosi il viso e strappandosi i capelli e i figli sciogliendosi in lacrime facevano risuonare la casa coi loro gemiti e il padre cedendo alla forza del sangue mescolava le sue lacrime ai loro lamenti in una parola era lo spettacolo più commovente del mondo nel domani il mercante pensò di mettere in ordine i suoi affari affrettandosi sopra ogni altra cosa a pagare i debiti fece regali agli amici e grandi le mosine ai poveri donò la libertà ai suoi schiavi e alle sue schiave divise i beni fra i suoi figli nominò i tutori per i minorenni e rendendo a sua moglie quello che le apparteneva in forza del contratto di nozze le donò tutto quanto pote donarle secondo le disposizioni di legge l'anno trascorse e bisogna partire egli fece la valigia e vimice il lenzuolo nel quale doveva essere seppellito ma quando volle dire addio alla sua donna e ai suoi figli provò un dolore così vivo che mai ne aveva sentito uno simile essi non potevano risolversi a perderlo e volevano tutti accompagnarlo per morire con lui non di meno era necessario farsi violenza e lasciare quelle persone così care figli miei disse separandomi da voi obbedisco agli ordini di dio imitatemi e sottomettetevi coraggiosamente a questa necessità pensate che il destino dell'uomo è di morire dopo aver detto queste parole sottrattosi alle grida e ai lamenti della sua famiglia partì e arrivò al medesimo luogo dove aveva promesso di ritornare messo piede a terra si sedette sul bordo della fontana e aspettò il genio mentre languiva in crudele attesa apparve un buon vecchio che conduceva una cerva legata e si avvicinò a lui si salutarono a vicenda e il vecchio disse al mercante fratello si può sapere perché siete venuto in questo luogo deserto in cui non vi sono che spiriti maligni e non si vive affatto sicuri al vedere questi begli alberi si crederebbe un luogo abitato ma qui c'è solo solitudine ed è pericoloso rimanervi a lungo il mercante soddisfece la curiosità al vecchio raccontandogli l'avventura che l'obbligava a starsene là il vecchio l'ascoltò con stupore e prendendo la parola ecco esclamò la cosa più sorprendente del mondo e voi vi siete legato con un giuramento inviolabile voglio aggiunse essere testimonio del vostro incontro col genio ma ecco il giorno esclamò sharazad smettendo di raccontare peccato che non abbia avuto il tempo di narrarvi la parte più bella della storia il sultano deciso a sentire la fine della narrazione lasciò ancora per un giorno la vita a sharazad la notte seguente l'uniazad ripete alla sorella la domanda di narrarle una fiaba ma poiché il sultano voleva conoscere il seguito della storia del mercante e del genio sharazad ricominciò a raccontare il vecchio dunque si sedette presso il mercante e mentre si intrattenevano arrivò un altro vecchio seguito da due cani neri avanzò fino a loro e li salutò domandando che cosa facessero là il vecchio che conduceva la cerva gli raccontò l'avventura del mercante e secondo vecchio trovando la storia degna di curiosità si sedette vicino agli altri e appena si unì alla loro conversazione sopraggiunse un terzo vecchio che dirigendosi verso gli altri due domandò perché il mercante che era con loro apparisse così triste gliene fu detta la ragione e anche egli volle essere testimonio di ciò che sarebbe avvenuto fra il genio e il mercante perciò si unì agli altri videro ben presto nella campagna un denso vapore come un turbine di polvere sollevato dal vento quel vapore avanzando fino a loro e dissipandosi a un tratto lasciò scorgere il genio e senza salutarli si avvicinò al mercante con la sciabola in mano e prendendolo per il braccio alza ti disse perché posso ucciderti come tu hai ucciso mio figlio il mercante e i vecchi spaventati si misero a piangere riempendo l'aria di grida sharazad a questo punto vedendo spuntare il giorno interruppe il racconto aveva però saputo rispegliare tanta curiosità nel sultano che egli ancora una volta rimandò la morte di sharazad per conoscere la fine della storia si può immaginare la grande gioia del visir vedendo che il sultano non gli dava ancora l'ordine di uccidere la figlia e con lui si stupivano e si rallegravano i parenti gli amici e tutti quanti verso la fine della notte seguente sharazad con il permesso del sultano cominciò a parlare così quando il vecchio che conduceva la serva vide il genio afferrare il mercante si gettò ai piedi di quel mostro e baciandogli principe dei geni gli disse io vi supplico umilmente di trattenere la vostra collera e di farmi la grazia di ascoltarmi vi racconterò la mia storia nonché quella di questa serva a condizione che se la trovate meravigliosa e sorprendente vogliate rimettere a questo sventurato mercante un terzo della sua pena il genio non stette qualche tempo a riflettere ma infine rispose ebbene consento vediamo comincio il mio racconto riprese il vecchio vi prego di ascoltarmi con attenzione storia del primo vecchio e della serva questa serva che voi vedete è mia cugina è inoltre anche mia moglie aveva solo dodici anni quando la sposai quindi posso dire che essa doveva considerarmi come suo padre oltre che come marito e come cugino siamo vissuti insieme trent'anni senza aver avuto figli ma la sua sterilità non mi ha impedito di avere per lei affetto ed amicizia il solo desiderio di aver figli mi fece sposare una schiava da cui ebbi un figlio che prometteva molto mia moglie divenne gelosa prese in avversione la madre e il figlio ma nascose così bene i suoi sentimenti che io me ne accorsi troppo tardi intanto mio figlio cresceva e aveva dieci anni quando io fui costretto a fare un viaggio prima di partire raccomandai a mia moglie di cui non diffidavo affatto la schiava e il figlio e la pregai di averne cura durante la mia assenza che durò un intero anno essa profittò di quel tempo per sfogare il suo odio studiò la magia e quando conobbe abbastanza quest'arte diabolica per eseguire l'orribile disegno che meditava la scellerata portò mio figlio in un luogo appartato e la con i suoi incantesimi lo trasformò in vitello e lo diede al mio fittavolo con l'ordine di nutrirlo come se fosse un vitello che aveva comprato né limitò il suo furore a questa abominevole azione trasformò anche la schiava in vacca e ugualmente la affidò al fittavolo al ritorno io le domandai notizie della madre del figlio la schiava è morta mi disse e sono due mesi che non vedo tuo figlio e non so che cosa gli sia capitato fui dolentissimo per la morte della schiava ma mi lusincai di poter ritrovare il figlio che era solo perso otto mesi passarono senza che egli ritornasse ed ero sempre senza sue notizie quando giunse la festa del gran Bairam per celebrarla ordinai al mio fittavolo di condurmi una vacca delle più grasse per sacrificarla e gli obbedì la vacca da lui scelta era appunto la schiava la sventurata madre di mio figlio la legai ma nel momento in cui mi preparavo a sacrificarla essa cominciò a mandare pietosi mugiti fu allora che mi accorsi che dai suoi occhi scorrevano torrenti di lacrime ciò mi parve straordinario e non potei risolvermi a ferirla ordinai quindi al mio fittavolo di andare a prenderne un'altra mia moglie che era presente fremeva per la mia compassione e si opponeva a un ordine che mandava a vuoto i disegni della sua malvagità sposo che fai gridò immolala dunque per compiacerla mi avvicinai alla vacca e combattendo con la pietà che mi spingeva a sospendere il sacrificio mi apprestai a darle il colpo mortale ma la vittima raddoppiando le lacrime e i mugiti mi disarmò per la seconda volta allora mi si rascure nelle mani del fittavolo dicendogli prendetela sacrificatela voi i suoi mugiti e le sue lacrime mi spezzano il cuore il fittavolo meno pietoso di me la sacrificò ma scorticandola si si accorse che essa era tuttossa quantunque a noi fosse sembrata così grassa io ne ebbi grande dispiacere e disse al fittavolo prendetela per voi ve la regalo e se avete un vitello ben grasso portatemelo in sua vece poco tempo dopo vidi arrivare un vitello grassissimo quantunque ignorassi che quello fosse mio figlio alla sua vista sentii che le mie viscere sussultavano dal canto subo appena mi vide esso fece uno sforzo così grande per venire a me che ruppe la corda si gettò ai miei piedi con la testa a terra come se avesse voluto eccitare la mia compassione e scongiurarmi di non avere la crudeltà di togliergli la vita avvertendomi per quanto gli era possibile che era mio figlio io fui ancora più sorpreso e più commosso da questo gesto di quanto non lo fossi stato dai gemiti della vacca sentii una tenera pietà che mi commosse in suo favore o per meglio dire il sangue fece il suo dovere andate disse al fittavolo riportate via il vitello abbiatene gran cura e portatemene un altro quando mia moglie mi sentì parlare così non si tenne dal gridare sposo che fai credi a me non sacrificare altro vitello che questo sposa esclamai non l'immolerò voglio fargli grazia e ti prego di non aggiungere parola la cattiva donna non volle arrendersi alle mie preghiere odiava troppo mio figlio per consentire che io lo salvassi me ne domandò il sacrificio con tanta ostinazione che io fui obbligato ad accordargelo legai il vitello e prendendo il coltello funesto shahrazad si fermò improvvisamente a questo punto perché già sorgeva il sole sono incantata da questo bellissimo racconto gridò duniazad se il sultano mi concederà un altro giorno di vita vedrai che il seguito della mia storia è ancora più interessante rispose shahrazad il sultano sempre più incuriosito volendo conoscere la sorte del figlio dell'uomo che conduceva la capra la consentì ad accordare un altro giorno sire riprese la notte seguente shahrazad il vecchio continuò a raccontare la sua storia al genio e agli altri con queste parole presi dunque il coltello disse e già stavo per cacciarlo nella gola di mio figlio quando egli rivolgendo verso di me languidamente gli occhi bagnati di lacrime mi teneria dal punto che non ebbi la forza di immolarlo lasciai cadere il coltello e dissi alla mia consorte che io volevo assolutamente uccidere un altro vitello essa non risparmiò nulla per farmi cambiare idea ma per quante me ne dicesse io stetti fermo e le promisi per acquietarla che l'avrai sacrificato l'anno seguente al mattino del giorno dopo il mio fittavolo chiese di parlarmi in privato io vengo mi disse a darvi una notizia per la quale non potrete non essermi grato io ho una figlia che sa qualche cosa di magia ieri quando ricondusse all'ovila il vitello che voi non voleste sacrificare osservai che rideva vedendolo e che un momento dopo piangeva e domandai perché facesse nel medesimo tempo due cose così contrarie padre mio rispose questo vitello che hai ricondotto qui è il figlio del nostro padrone allora anch'io risi dalla gioia di vederlo ancora vivo e insieme piansi ricordandomi del sacrificio che facemmo ieri di sua madre trasformata in vacca queste metamorfosi sono avvenute per diei incantesimi della moglie del nostro padrone la quale odiava la madre e il figlio ecco ciò che mi ha detto mia figlia proseguì il fittavolo e io sono venuto a informarvene utendo queste parole o genio continuò il vecchio vi lascio vi lascio indovinare quale fu la mia sorpresa immediatamente andai col fittavolo a parlare a sua figlia arrivando andai subito alla stalla dove era mio figlio egli non pote rispondere ai miei abbracci ma li ricevette in un modo che finì di persuadermi che era mio figlio giunse la figlia del fittavolo e le dissi figlia mia potete rendere mio figlio alla prima a sua forma sì che posso mi rispose ah se voi ne avrete a capo ripresi io vi farò padrona di tutte le mie ricchezze allora mi disse sorridendo voi siete il nostro padrone e io so bene quello che vi debbo ma vi avverto che io posso far ritornare vostro figlio nel suo stato umano solo a due condizioni la prima che me l'ho diata in esposo e la seconda che mi sia permesso di punire la persona che lo ha trasformato in vitello per la prima condizione le dissi l'accetto di buon grado e consento pure per ciò che riguarda la mia sposa una persona che è stata capace di fare un'azione così criminosa merita di essere punita io ve la lascio fatene ciò che vi piacerà vi prego solo di non toglierle la vita la tratterò rispose come ha trattato vostro figlio ha consentito le risposi ma prima rendetemi il figlio allora quella giovane prese un vaso pieno d'acqua vi pronunziò sopra delle parole che io non capì e volgendosi al vitello oh vitello disse tu sei stato creato dall'onnipotente sovrano padrone del mondo nella forma in cui sei resta nel tuo stato ma se sei un uomo se fosti cangiato in vitello per un incantesimo riprendi la tua naturale figura col permesso del sovrano creatore terminando queste parole gettò l'acqua sopra di lui e all'istante egli riprese la sua forma d'uomo figlio mio caro figlio esclamai allora abbracciandolo in un trasporto di gioia è dio che ci ha inviato questa giovinetta per distruggere l'orribile incantesimo da cui eri circondato e vendicarti del male che fu fatto a te e a tua madre sono sicuro che per riconoscenza vorrai prenderla in esposa come io mi sono impegnato egli acconsentì con gioia ma prima di sposarsi la giovane cambiò mia moglie in serva quale la vedete qui dopo di allora mio figlio rimase vedovo e partì per un lungo viaggio siccome sono più anni che non ho sue notizie mi sono messo in cammino per cercare ad averne e non volendo affidare ad alcuno la cura di mia moglie mentre vado in cerca di lui ho geticato opportuno condurla con me ecco dunque la mia storia e quella della mia cerva non è forse sorprendente e meravigliosa sono d'accordo disse il genio e ti accordo un terzo della grazia di questo mercante il secondo vecchio che conduceva due cani neri si rivolse al genio e gli disse io vi racconterò ciò che avvenne a me e a questi due cani sicuro che voi troverete la mia storia ancora più sorprendente di quella che abbiamo udito ora ma quando ve l'avrò raccontata mi darete un altro terzo della vita di questo mercante si rispose il genio purché la tua storia sorpassi in novità quella della cerva storia del secondo vecchio e dei due cani neri avuto il consenso il secondo vecchio incominciò gran principe dei geni noi siamo tre fratelli questi due cani e io nostro padre lasciò morendo a ciascuno di noi mille dinare con questa somma intraprendemmo tutti e tre la stessa professione e ci facemmo mercanti poco tempo dopo aver aperto bottega il mio fratello maggiore uno di questi due cani decise di partire per andare a fare affari in un paese straniero a questo scopo barattò il suo capitale in tanta mercanzia adatta al commercio che voleva intraprendere e partì rimase assente un anno intero al termine di questo tempo un povero che mi parve cercarle l'emosina venne alla mia bottega e io gli dissi Dio v'assista e Dio assista anche voi mi rispose è dunque possibile che non mi riconosca più allora fissandolo con attenzione lo riconobbi ah fratello mio esclamai abbrazzandolo come avrei potuto riconoscerti in questo stato lo feci entrare in casa gli domandai notizie della sua salute e dei suoi successi nel viaggio non farmi questa domanda mi disse guardami e capirai tutto sarebbe lo stesso che rinnovare il mio dolore se ti raccontassi tutte le sventure che mi sono capitate riducendomi nello stato in cui sono io feci chiudere subito la bottega e abbandonando ogni altro affare lo accompagnai a lavarsi e gli diedi i più begli abiti del mio guardaroba esaminai i miei registri di compravendita e trovando che avevo raddoppiato il mio capitale cioè che ero ricco di duemila dinar e ne donai la metà con questo fratello mio gli dissi potrei dimenticare la perdita subita accettò i mille dinar con gioia lì mi censai sui suoi affari e vivemmo insieme come eravamo vissuti prima qualche tempo dopo il mio secondo fratello che è l'altro di questi due cani partì egli pure ritornando dopo aver sprecato quanto possedeva lo feci rivestire e poiché avevo aumentato il mio capitale di altri mille dinar glieli donai rieprì bottega e continuò ad esercitare la sua professione un giorno i miei due fratelli vennero a propormi di fare un viaggio e di andare a trafficare con loro le spinsi dapprima il loro progetto voi avete viaggiato dissi e che avete guadagnato invano mi descrissero in vari modi ciò che a loro giudizio avrebbe dovuto abbagliarmi per incoraggiarmi a tentare la fortuna io rifiutai di aderire al loro piano ma essi ritornarono tante volte ad importunarmi che dopo avere per cinque mesi resistito costantemente alle loro sollecitazioni infine mi arresi quando bisogno fare i preparativi del viaggio e comprare le mercanzie di cui avevano bisogno scoprì che si erano spesi tutte le loro sostanze non mossi il minimo rimprovero e poiché il mio capitale era di 6.000 dinar ne divisi con essi la metà dicendo loro fratelli bisogna rischiare questi 3.000 dinar e nascondere gli altri in qualche luogo sicuro affinché se il nostro viaggio non sarà più fortunato di quello che avete fatto voi abbiamo almeno di che riprendere la nostra antica professione al ritorno e è di nuovamente mille dinar a ciascuno di loro ne tenne per me altre tanti e nascosi le altre migliaia in un angolo della mia casa comprammo delle mercanzie e dopo averle imbarcate sopra un bastimento che noleggiammo un vento favorevole salpammo infine dopo due mesi di navigazione arrivammo felicemente a un porto dove appena sbarcati facemmo un grande spaccio delle nostre mercanzie io soprattutto vendetti così bene le mie che guadagnai il 10 per 1 comprammo delle mercanzie del paese per trasportarle e negoziarle nel nostro mentre eravamo pronti ad imbarcarci per il ritorno incontrai sulla riva del mare una donna molto bella ma vestita meschinamente essa mi venne vicina mi baciò la mano e mi pregò di prenderla come moglie ed imbarcarla con me io feci delle difficoltà ad accordarle ciò che mi chiedeva ma lei mi disse tante cose per persuadermi a non badare alla sua povertà che mi lasciai convincere e feci degli abiti adatti alla sua nuova condizione e dopo averla sposata in debita forma mi imbarcai con me e sciogliemmo le vele durante la nostra navigazione scoprì che la donna che avevo presa aveva ottime qualità e per questo l'amavo ogni giorno di più intanto i miei fratelli che non avevano fatti i loro affari altrettanto buoni ed erano gelosi della mia prosperità cominciarono ad invidiarmi il loro furore giunse fino a farli cospirare contro la mia vita una notte mentre la mia sposa ed io dormivamo ci gettarono a mare mia moglie era una fata e per conseguenza genio dunque non annegò è certo però che senza il suo soccorso io sarei morto non appena caddi nell'acqua essa mi sollevò e mi trasportò in un'isola quando fu giorno la fata mi disse vedete marito mio che salvandovi la vita non vi ho compensato male del bene che mi avete fatto sappiate che sono fata e che trovandomi sulla riva del mare quando andavate ad imbarcarvi mi sentii fortemente attratta verso di voi vogli provare la bontà del vostro cuore e mi presentai a voi travestita voi mi avete trattata generosamente e io sono lieta di aver trovato l'occasione di mostrarvi la mia riconoscenza ma sono tanto irritata contro i vostri fratelli che non sarò soddisfatta finché non avrò loro tolto la vita io ascoltai con ammirazione il discorso della fata e la ringraziai come mi fu possibile della grande generosità che mi aveva usata signora le dissi per ciò che riguarda i miei fratelli vi prego di perdonarli quantunque abbia motivo di lagnarmi di loro non sono così crudele da volerne la morte le narrai ciò che avevo fatto per l'uno e per l'altro e il mio racconto accrebbe la sua indignazione contro di loro bisogna esclamò che io rincorra subito questi ingrati traditori e mi vendichi vado ad affondare la loro nave e a precipitarla nel fondo del mare no mia bella signora risposi in nome di dio non fate nulla moderate la vostra collera pensate che sono miei fratelli e che bisogna rendere bene per male con queste parole acquietai la fata e quando le ebbi pronunziate essa mi trasportò in un istante dall'isola dove eravamo sul tetto della mia casa che era a terrazzo un momento dopo disparve io scesi aprì le porte e dissotterrai i tremila dinar che avevo nascosti quindi andai nella piazza dove era la mia bottega l'apri e ricevetti dai mercanti i miei vicini molti complimenti per il mio ritorno quando entrai nella bottega vidi questi due cani neri che mi vennero incontro con aria sottomessa io non sapevo che cosa significasse tutto ciò e ne restai fortemente sorpreso ma la fata che subito mi apparve me lo spiegò sposo mi disse non siate sorpreso di vedere questi due cani presso di voi essi sono i vostri due fratelli io fremetti a queste parole e le domandai per quale potenza si trovavano in quello stato sono io che li ho trasformati così o per meglio dire fu una delle mie sorelle alla quale ne diedi in carico e che nello stesso tempo ha fatto affondare la loro nave anche voi avete perso le mercanzie che vi avevate caricate ma io vi compenserò altrimenti riguardo ai vostri fratelli io li ho condannati a stare dieci anni sotto questa forma finalmente dopo avermi insegnato dove avrei potuto avere sue notizie disparve adesso che i dieci anni sono compiuti io sono in cammino per andarla a cercare passando di qui ho incontrato il mercante e il buon vecchio che conduceva la cerva e mi sono fermato con loro ecco la mia storia o principe dei geni non vi sembra delle più straordinarie ne convengo rispose il genio e rimetto perciò al mercante il secondo terzo del delitto di cui si è reso colpevole nei miei confronti appena il secondo vecchio ebbe terminata la sua storia il terzo prese la parola e fece al genio la stessa richiesta dei primi due cioè di rimettere al mercante l'altro terzo del suo delitto se la storia che aveva da raccontargli avesse superato per singolarità le altre due il genio glielo promise e il terzo vecchio raccontò la sua storia nel seguente modo storia del terzo vecchio e della principessa Cirina io sono figliuolo unico di un ricco mercante di surate poco tempo dopo la sua morte dissipai la maggior parte dei molti beni che egli mi aveva lasciati e finivo di consumare il resto con gli amici quando si trovò per caso alla mia mensa un forestiero che passava per surate diretto all'isola di Serialdib la conversazione cadde sui viaggi gli uni ne vantavano l'utilità e i diletti gli altri ne descrivevano i pericoli dopo averli ascoltati tutti quanti dissi non si può parlare del piacere che si prova a percorrere il mondo senza sentire una gran voglia di viaggiare ma i pericoli ai quali un viaggiatore si espone tolgono ogni attrattiva ai paesi stranieri se si potesse soggiunsi sorridendo andare da un capo all'altro della terra senza fare cattivi incontri per strada domani stesso partirai da surate a queste parole che fecero ridere tutta la compagnia lo straniero mi disse malec se avete voglia di viaggiare e solo vi trattiene il timore di incontrare dei ladri io vi insegnerò quando vogliate un modo di andare impunemente di regno in regno credetti che scherzasse ma dopo il pranzo mi prese in disparte per dirmi che l'indomani mattina sarebbe venuto da me e mi avrebbe fatto vedere qualche cosa di assai singolare venne infatti a trovarmi e mi disse voglio mantenere la parola ma vedrete solo tra qualche giorno l'effetto della mia promessa poiché ciò che ho da mostrarvi non è cosa che si possa fare in un solo giorno mandate un vostro schiavo a chiamare un falegname e ordinate che tornino ambedue carichi di tavole giunti che furono il falegname lo schiavo lo straniero disse al primo di fare una cassa lunga sei piedi e larga quattro l'operaio si mise subito al lavoro e il forestiero del canto suo stette in ozio fece parecchi pezzi della macchina con viti e molle lavorando tutto il giorno terminata la cassa il falegname fu licenziato e lo straniero passò il giorno seguente a disporre le molle e a perfezionare il lavoro finalmente il terzo giorno la cassa fu coperta con un tappeto di persia e portata in campagna dove mi recai col forestiero questi mi disse rimandate i vostri schiavi restiamo qui soli non desidero avere altro che voi a testimoni di quanto sto per fare ordinai ai miei schiavi di tornare a casa e restai solo con quello straniero ero molto curioso di sapere cosa avrebbe fatto con quella macchina allora che mi entrò dentro e al tempo stesso la cassa si alzò da terra volando per l'aria con incredibile celerità sicché in un momento fu lontano da me per tornare un istante dopo ed atterrare ai miei piedi non so dire sino a qual punto rimanessi stupito di quel prodigio ecco mi disse il forestiero uscendo dalla macchina una vettura assai comoda e siate certo che viaggiando in questo modo non c'è da temere ad essere assaliti per la strada ecco il mezzo che volevo darvi per fare dei viaggi in tutta sicurezza vi faccio dono di questa cassa ve ne servirete quando avrete voglia di percorrere i paesi stranieri ringraziai il forestiero per quel dono tanto raro e gli diedi per compensarlo una borsa di zecchini insegnatemi e chiesi poi come si fa a mettere in moto la cassa è cosa che imparerete presto mi disse ciò detto mi fece entrare nella macchina insieme a lui poi toccata una vite fummo tosto sollevati in aria allora mostrandomi in che modo dovessi comportarmi per dirigermi con sicurezza girando questa vite mi diceva andrete a destra e girando quest'altra andrete a sinistra spingendo questa molla salirete toccando quella là discenderete voglio fare la prova girai le viti e toccai le molle e infatti la cassa obbediente alla mia mano andava dove mi piaceva e mi precipitava a mio piacere o rallentava il movimento dopo aver fatto un po' di giravolte per l'aria spiccammo il volo verso casa e scendemmo nel mio giardino il che fu fatto molto agevolmente poiché avevamo levato il teppeto che copriva la macchina nella quale c'erano parecchi buchi tanto per far circolare l'aria come per vedere fummo a casa prima dei miei schiavi i quali non potevano riaversi dallo stupore di vedersi già tornati feci chiudere la cassa nel mio appartamento dove la conservai con maggior cura ad un tesoro e il forestiero se ne andò tanto contento di me quanto io di lui continuai a divertirmi con i miei amici finché ebbe terminato di consumare il mio patrimonio incominciai anche a farmi fare dei prestiti cosicché insensibilmente mi trovai carico di debiti non appena si seppe che ero rovinato perdetti il credito nessuno volle più prestarmi denaro e i creditori molto impazienti di avere il loro denaro mi citarono in tribunale vedendomi quindi a mal partito e per conseguenza vicino a soffrire dispiaceri ed affronti ricorsi alla mia cassa la trascinai di notte dal mio appartamento in una corte e mi chiusi dentro con dei viveri e il poco denaro che mi rimaneva toccai la molla che faceva salire la macchina poi girando una vita mi allontanai da surate e dai miei creditori senza temere che mi mandassero dietro gli uscieri durante la notte feci andare la cassa il più velocemente possibile e credo di aver superato la velocità dei venti allo spuntare del giorno guardai attraverso un buco per osservare in quali luoghi fossi ma non vidi che montagne precipizi e una campagna arida come uno spaventoso deserto ovunque volgesi lo sguardo non scoprivo alcuna trazza di abitazione continuai a percorrere l'aria tutto il giorno e la notte seguente e l'indomani mi trovai sopra un bosco foltissimo presso il quale era una città assai bella in una pianura di grandissima estensione mi fermai per osservare la città e un palazzo magnifico e si presentava ai miei occhi all'estremità di quella pianura desideravo ardentemente sapere dove fossi e già pensavo in che modo soddisfare la mia curiosità quando vidi nella campagna un contadino che lavorava la terra discesi nel bosco e lasciatavi la cassa avanzai verso l'uomo al quale domandai come si chiamasse quella città dove notto mi rispose si vede bene che siete forestiero perché non sapete che questa città si chiama gasna qui regna il re Bahaman buono e valoroso e chi vive gli chiesi in quel palazzo che vediamo là in fondo alla pianura il re di gasna rispose l'ha fatto fabbricare per tenervi rinchiusa la principessa Cirina sua figlia dal suo oroscopo risulta infatti che sarà ingannata da un uomo Bahaman per render vanno alla predizione fece erigere quel palazzo che è di marmo ed è circondato da profondi fossati ripieni d'acqua la porta è di acciaio della Cina e ne tiene la chiave il re c'è inoltre una guardia numerosa che veglia notte e giorno per vietarne l'ingresso a tutti il re va una volta alla settimana a visitare la principessa e sua figlia poi ritorna a Gasna e Cirina rimane sola con una governante e con qualche schiava ringraziai il contadino di avermi detto tutte queste cose e volsi i passi verso la città quando stavo per entrarvi udì un gran rumore e presto vidì comparire parecchi cavalieri magnificamente vestiti sopra bellissimi cavalli riccamente bardati in mezzo a quella superba schiera c'era un uomo grande che teneva in testa una corona d'oro e i cui abiti erano cosparsi di diamanti dedicai che fosse il re di Gasna che andava a vedere la principessa sua figlia e seppi infatti in città che non mi ero ingannato della mia supposizione dopo aver fatto il giro della città e aver soddisfatto un poco la mia curiosità mi ricordai della mia cassa e quantunque l'avessi lasciata in un luogo che doveva rassicurarmi mi sentii inquieto allora uscito da Gasna non mi sentii tranquillo finché non fu giunto dove si trovava mangiai con molto appetito quello che mi restava di provviste e siccome cadde presto la notte decisi di passarla in quel bosco stentai però molto ad addormentarmi ciò che il contadino mi aveva narrato della principessa Cirina mi stava sempre fisso nel pensiero è possibile pensavo che Bahamansi sia spaventato di una predizione così sciocca era necessario far fabbricare un palazzo per tener chiusa la figlia non sarebbe stata abbastanza al sicuro nel suo d'altro canto se gli astrologhi penetrano effettivamente nell'oscuro avvenire se leggono negli astri gli avvenimenti futuri è inutile cercare di eludere le loro predizioni bisogna necessariamente che si compiano a forza di pensare a Cirina che mi dipingevo più bella di qualsiasi altra donna avessi veduta mi venne voglia di tentare la fortuna bisogna dissi tra me che raggiunga il tetto del palazzo della principessa e procuri di introdurmi nel suo appartamento chissà potrei avere l'avventura di piacerle sono forse io il mortale di cui gli astrologhi videro scritto nel cielo la fortunata audacia prese dunque la temeraria risoluzione e la posi subito in atto sollevandomi in aria condussi la mia cassa verso il palazzo passai senza essere scorto grazie all'oscurità profonda sopra la testa dei soldati ed iscesi sul tetto uscito dalla cassa scivolai dentro per una finestra entrando in un appartamento adorno di ricche su pellettili dove sopra un sofà di broccato riposavo alla principessa scirina che mi parve di abbagliante bellezza di molto superiore all'idea che me ne ero fatta mi accostai per contemplarla ma non seppi guardare senza turbamento tante attrattive mi posi in ginocchio davanti a lei baciandole una di quelle sue bellissime mani si svegliò immediatamente e scorgendo un uomo accanto a sé diede a un grido che attrasse presso di lei la governante la quale dormiva in una stanza vicina ma peicher le disse la principessa accorrete il mio aiuto c'è un uomo come ha potuto introdursi nel mio appartamento o piuttosto non siete complice del suo misfatto chi io rispose la governante ah questo sospetto mi oltrazza non sono meno stupita di voi di vedere qui questo giovane temerario d'altra parte quando pure avessi voluto favorire la sua audacia come avrei potuto ingannare la guardia che sta davanti al castello sapete che vi sono venti porte d'acciaio da aprire prima di giungere qui che sopra ogni serratura sta impresso il regio sigillo e che il re vostro padre ne tiene le chiavi non comprendo in qual modo questo giovane abbia potuto superare tante difficoltà mentre la governante così parlava io pensavo a quello che avrei potuto dire mi venne in mente di persuaderla che ero il profeta maometto bella principessa disse dunque Ascirina e neppure voi maapeicher se mi vedete comparire qui io non sono uno di quegli amanti che prodigano l'oro ed impiegano ogni sorta d'artifici per raggiungere i propri scopi non ho desideri di cui la vostra virtù debba provare vergogna lungi da me ogni pensiero cattivo sono il profeta maometto e non ho potuto senza pietà vedervi condannata a passare i vostri giorni in carcere e vengo a promettervi che vi metterò al sicuro dalla profezia che spaventa Baham vostro padre assicuratevi assicuratevi ormai sul vostro destino che è pieno di gloria e di felicità perché sarete sposa di maometto maapeicher e la sua padrona prestarono fede alla mia favola mi credettero maometto e io abusai della loro credulità passata la miglior parte della notte con la principessa di gasna uscii prima di giorno dal suo appartamento promettendole di tornare l'indomani corse al più presto alla macchina e mi sollevai altissimo per non essere veduto dai soldati discesi nel bosco vi lasciai la cassa e presi la via della città dove comprai delle vettovaglie per otto giorni degli abiti magnifici e un bel turbante di tela delle indie a righe d'oro e una ricca cintura ne dimenticai le essenze e i profumi migliori impiegando in queste spese tutto il mio denaro senza inquietarmi dell'avvenire rimasi tutto il giorno nel bosco ad abbigliarmi e profumarmi e appena giunta la notte entrai nella cassa e volai sul tetto del palazzo di Cirina introducendomi nel suo appartamento come la notte precedente la principessa dimostrò di attendermi con molta impazienza oh gran profeta mi disse e incominciavo a inquietarmi e temevo che aveste già dimenticato la vostra sposa ah mia cara principessa le risposi come potete dar retta un tale timore poiché avete avuto la mia promessa dovete essere certa che io vi amerò sempre ma ditemi fece lei come mai avete l'aspetto così giovanile io mi immaginavo che il profeta maometto fosse un vegliardo venerabile non vi ingannate le dissi e questa è l'idea che si deve avere di me e se vi comparissi davanti quale appaio talvolta ai fedeli ai quali mi compiaccio di fare un simile onore mi vedreste una lunga barba bianca e una testa calva ma mi è parso che voi avreste amato più facilmente una figura meno vecchia e per questo ho preso la forma di un giovane intervenne allora nella nostra conversazione e la governante e mi disse che avevo fatto bene e che non si era mai abbastanza belli quando si vuol fare la parte del marito uscì nuovamente dal castello sulla fine della notte per tema che scoprissero che era un falso profeta e vi tornai l'indomani sempre comportandomi con tanta astuzia che Sirina e Mai Peiker non sospettarono nemmeno che vi potesse essere qualche inganno trascorsi alcuni giorni il re di Gasna andò seguito dai suoi ufficiali al palazzo della principessa sua figlia e trovando le porte ben chiuse e il suo sigillo sulle serrature disse ai suoi vizir che lo accompagnavano tutto va per il meglio sinché le porte del palazzo rimarranno in questa condizione non temo la disgrazia che minaccia mia figlia salì solo nell'appartamento di Sirina che al vederlo non poté non turbarsi egli accortosene volle sapere la cagione curiosità che accrebbe il turbamento della principessa la quale vedendosi finalmente obbligata ad esaudirlo gli narrò tutto quanto era accaduto si può immaginare quale fu lo stupore del re Bahamann allorché seppi ad essere all'insaputa sua suocero di Maumetto ah quale sturdità esclamò figlia quanto sei credula oh cielo ben vedo ora che è inutile voler evitare le disgrazie che tu ci riservi lo scopo di Sirina è compiuto un traditore la sedotta così dicendo uscì agitatissimo dall'appartamento della principessa e visitò da cima a fondo tutto il palazzo ma ebbe un bel cercare ovunque non scoprì traccia del seduttore per dove chiedeva può essere entrato in questo castello davvero non lo capisco quantunque Bahamann fosse di sua natura assai credulo pur era risoluto a scoprire la verità e volle fare le cose con crudenza cercando di parlare lui stesso senza testimoni al falso profeta Bahamann attendendo la notte si diede nel frattempo a fare nuove domande della principessa domandandole prima di tutto se lo conosciuto avesse mangiato con lei no signore disse lei in vano gli ho offerto vivande e liquori non ne ha voluto e da chi viene qui non l'ho veduto mai prendere cibo raccontami ancora tutto replicò lui e non tacermi nessun particolare Sirina fece una nuova rivelazione e il re attento al suo racconto ne pesava tutte le circostanze frattanto scese la notte Bahamann sedutosi su un sofà fece accendere dei lumi che gli furono posti davanti sopra una tavola di marmo sguainò la spada per servirsene in caso di necessità per lavare nel sangue l'affronto fatto al suo onore mi attendeva da un momento all'altro e credo che fosse molto agitato in quella notte l'aria era tempestosa un lampo che ferì gli occhi del re lo fece balzare in piedi si avvicinò alla finestra per la quale Sirina gli aveva detto che io dovevo entrare e vedendo il cielo tutto fuoco si turbò quantunque non vedesse niente che non fosse naturalissimo nella disposizione in cui si trovava allora il re io potevo presentarmi impunemente e invece di dimostrarsi furibondo allorché apparvi alla finestra mi accolse con rispetto e timore lasciatasi cadere di mano la sciabola e cadendomi ai piedi mi ribaciò e mi disse oh gran profeta che sono e che ho mai fatto per meritare l'onore d'esservi suocero a queste parole indovinai ciò che era accaduto tra il re e la principessa e arguì che Bahaman non era più difficile da ingannare della figlia reato di non avere da combattere con uno di quegli spiriti forti che avrebbero fatto subire al profeta un esame imbarazzante e approfittando della sua debolezza oh gran re gli dissi ringraziandolo voi fra tutti i principi musulmani siete il più attaccato alla mia religione per conseguenza chi può essermi più gradito era scritto sulla tavola fatale che vostra figlia sarebbe stata sedotta da un uomo e i vostri indovini lo hanno scoperto con i lumi dell'astrologia ma io pregai l'altissimo Allah di risparmiarvi il dispiacere mortale e di evitarvi simile disgrazia e gli si compiacque di accontentarmi a condizione che Cirina diventasse una delle mie mogli la consentì per compensarvi delle buone azioni che fate ogni giorno il debole principe credete tutto ciò che gli dissi e il beato di imparentarsi col gran profeta mi si gettò una seconda volta ai piedi lo rialzai di nuovo l'abbracciai e lo assicurai della mia protezione dopodiché credendo che fosse creanza lasciarmi solo con sua figlia si ritirò in un'altra stanza rimasi con Cirina qualche ora per quanto mi dilettassi della sua conversazione stavo attento al tempo che trascorreva temendo che il giorno mi sorprendesse e che venisse scoperta la mia cassa perciò uscito sul finire della notte tornai nel bosco nel medesimo giorno avvenne un incidente che finì di convincere il re mentre tornava col suo seguito alla città gli sorprese nella pianura un temporale durante il quale mille lampi gli colpirono gli occhi e il tuono si fece udire in modo tanto terribile che pareva fosse la fine del mondo accadde per caso che il cavallo di un cortigiano che era incredulo su ciò che riguardava il preteso profeta s'adombrasse si impennò e gettò a terra il padrone e si ruppa una gamba questo incidente fu considerato una manifestazione dell'ira celeste un miserabile sclamò il re vedendo cadere il cortigiano ecco il frutto della tua incredulità il profeta ti punisce portarono il ferito a casa sua e appena Bahaman arrivò nel suo palazzo fece pubblicare il bando per Gasna col quale ordinava che tutti gli abitanti celebrassero con grandi feste il matrimonio di Cirina con Mahometto andai quel giorno a passeggiare per la città e udì la notizia insieme all'avventura del cortigiano caduto da cavallo non si può immaginare sino a che punto quel popolo sia credulo e superstizioso si fecero pubbliche feste e tutti gridarono viva Bahaman suocero del profeta appena venne la notte volai al palazzo e presto fui dalla principessa bella Cirina le dissi entrando nel suo appartamento voi non sapete ciò che è accaduto oggi nella spianata un cortigiano il quale dubitava che voi aveste sposato Mahometto espiò il suo dubbio suscitai una tempesta e il suo cavallo si spaventò e il cortigiano caduto si spezzò una gamba non credetti opportuno spingere più innanzi la vendetta ma giuro per la mia tomba che già c'è a Medina che se alcuno osa dubitare ancora della vostra felicità gli costerà la vita passai quindi alcune ore con la principessa poi me ne partii il giorno dopo il re riunì i suoi vicini e i suoi cortigiani andiamo tutti insieme disse loro a chiedere perdono a Mahometto per quel disgraziato che negò di credermi ed ebbe il castigo della sua incredulità detto fatto montati a cavallo si recarono al palazzo della principessa e lui seguito dai suoi salì nell'appartamento di sua figlia alla quale disse Sirina veniamo a pregarvi di intercedere presso il profeta per un uomo che si è attirato il suo sdegno so ciò che è avvenuto o signore gli rispose la principessa Mahometto me ne ha parlato e allora ripetè quello che le avevo detto durante la notte e disse che io avevo giurato di sterminare tutti quelli che dubitassero del suo matrimonio col profeta appena il buon Reba Aman ebbe udito quel discorso si volse ai suoi vizir e disse loro anche se non avessimo prestato fede sinora a tutto ciò che abbiamo visto potremmo ora non essere persuasi che Mahometto è mio genero egli stesso ha detto a mia figlia di aver suscitato il temporale per vendicarsi di un incredulo i ministri e gli altri si convinsero che ella fosse moglie del profeta e prosternandosi dinanzi a lei umilmente la supplicarono di intercedere presso di me in favore del cortigiano ferito ed essa lo promise nel frattempo mangiai tutte le vettovaglie che avevo e siccome non mi restava più denaro incominciai a non saper più dove battere la testa immaginai allora un espediente principessa disse una notte a Cirina abbiamo dimenticato di osservare nel nostro matrimonio una formalità voi non mi deste dote e questa omissione mi addolora ebbene caro sposo mi rispose domani ne parlerò al mio padre il quale mi manderà qui certamente tutte le sue ricchezze no no ripresi io non c'è bisogno di parlargliene perché poco mi curo dei suoi tesori le ricchezze non mi servono basterà che mi diate alcuni dei vostri gioielli sola dote che io domandi Cirina voleva darmi tutte le sue gemme ma io mi accontentai di prendere due grossi diamanti che il giorno dopo vendetti a un gioielliere di Gasna era già quasi un mese che passando per profeta menavo una vita piacevolissima allora che capitò nella città di Gasna un ambasciatore che veniva da parte di un re vicino a chiedere Cirina in matrimonio ottenuta udienza espose la sua ambasciata ma Bahman gli disse mi duole di non poter accordare al re vostro signore mia figlia avendola data in esposa al profeta Maometto l'ambasciatore udita tale risposta pensò che fosse diventato passo prese congedo e tornò dal suo signore che prima credete che Bahman avesse perso il senno poi imputando a disprezzo il rifiuto ne fu offeso così che chiamate le truppe formò un grosso esercito col quale entrò nel regno di Gasna questo re si chiamava Kacem ed era più forte di Bahman Kacem sconfisse le truppe che volevano opporsi al suo passaggio e inoltrandosi verso Kasna trovò l'esercito di Bahman trincerato nella pianura dinanzi al castello di Shirina il re di Gasna informato del numero e del valore dei soldati di Kacem incominciò a tremare e radunò il consiglio il cortigiano che si era fatto male cadendo da cavallo parlò in questi termini io stupisco che il re dimostri in questa occasione tanta inquietudine quale danno possono mai cagionare non dico già Kacem ma tutti i principi del mondo al suocero di Mahometto vostra maestà non ha che di rivolgersi al suo genero implorate l'aiuto del gran profeta ed egli confonderà i vostri nemici deve farlo perché lui solo è cagione di questa guerra benché questo discorso fosse stato fatto per derisione pure non mancò di infondere fiducia in Bahman il quale disse avete ragione il gran profeta appunto devo rivolgermi vado a pregarlo di respingere il mio superbo nemico e oso sperare che non si opporrà alla mia richiesta ciò detto si recò a trovare Cirina a cui disse figlia appena spunterà la luce del giorno Kacem ci assalirà e temo che vinca vengo dunque a pregare a Mahometto di volersi aiutare adopera tutto il credito che hai presso di lui per indurlo a prendere la nostra difesa uniamoci insieme per rendercelo favorevole signore rispose la principessa non sarà difficile interessare alla vostra sorte il profeta e gli disperderà ben presto le truppe nemiche e a spesi di Kacem impareranno a rispettarvi tutti i re del mondo intanto riprese il re la notte avanza e il profeta non appare ancora che ci abbia abbandonati no padre mio riprese Cirina non crediate che ci possa abbandonare nel momento del bisogno e gli vede dal cielo dov'è l'esercito che ci assedia e forse sta già seminandovi il disordine e il terrore era infatti ciò che Mahometto aveva voglia di fare avevo osservato durante il giorno da lontano le schiere di Kacem le avevo notata la disposizione e preso soprattutto di mira il quartiere del re raccolsi quindi molti ciottoli grandi e piccoli ne riempii la cassa e sollevandomi verso mezzanotte nell'aria mi inoltrai verso le tende di Kacem tra le quali distinsi senza difficoltà quella in cui riposava il re era un padiglione altissimo dorato fatto a forma di cupola e sostenuto da dodici colonne di legno dipinto piantate in terra intervalli tra una colonna e l'altra erano chiusi da rami intrecciati di diverse qualità di alberi verso il capitello c'erano due finestre una ad oriente e l'altra a mezzogiorno tutti i soldati che si trovavano intorno alla tenda dormivano il che mi permise di scendere senza che alcuno mi scorgesse sino ad una di quelle finestre dove vidi il re coricato su un sofà con la testa appoggiata a un cuscino di raso uscì a mezzo dalla mia cassa e scagliando a cacemmo un gran sasso lo colpì in fronte ferendolo gravemente egli sentendosi colpire mandò un alto grido che subito destò le guardie agli ufficiali i quali accorsi dal principe lo trovarono coperto di sangue quasi privo di sensi immediatamente si sparse nel quartiere l'allarme e ciascuno domanda che cosa sia successo corre la voce che è stato ferito il re e che non si sa da quale mano sia uscito il colpo mentre ne cercavano l'autore io mi sollevai sino alle nubi lasciando cadere una grandine di pietre sulla tenda reale e nelle vicinanze sicché alcuni soldati rimasti feriti gridarono che piovevano pietre se ne sparse la notizia e io per confermarla gettai ciottoli ovunque il terrore si impadronì dell'esercito l'ufficiale al pari del soldato credette che il profeta fosse irato contro Cacem allora i nemici di Bahaman colti dal terrore si diedero alla fuga così precipitosamente con tale furia che abbandonarono equipaggi tende e ogni cosa gridando siamo perduti ma ometto ti stermina tutti quanti il re di Gasna restò assai sorpreso allo spuntare del giorno quando si accorse che il nemico si ritirava si diede dunque a inseguirlo coi suoi migliori soldati e fatta strage dei fuggitivi raggiunse Cacem cui la ferita impediva di correre perché gli disse sei venuto contro ogni diritto nei miei stati quale motivo ti ho dato di farmi guerra Bahaman gli rispose il ravinto credevo che tu mi avessi negato la figlia per dispetto e ho voluto vendicarmi non potevo credere che il profeta ti fosse genero ma ora non ne dubito perché egli fu quello che mi ferì e disperse il mio esercito Bahaman cessò di perseguitare i nemici e tornò a Gasna con Cacem il quale morì della sua ferita e diviso il bottino che fu assai ragguardevole i soldati se ne tornarono a casa loro carichi di ricchezze in tutte le moschee si fecero preghiere per ringraziare il cielo di aver confuso i nemici dello stato e quando fu notte il re si recò da solo al palazzo della principessa figlia le disse vengo a rendere grazie al profeta di quanto gli debbo devi aver saputo dal corriere che ti ho mandato tutto ciò che fece Maometto per noi io ne sono talmente commosso che muoio d'impazienza di abbracciargli le ginocchia presto ebbe ciò che bramava perché subito entrai per la solita finestra nell'appartamento di Cirina dove mi attendeva ciò che doveva essere dettandosi ai miei piedi il re baciò la terra dicendo oh gran profeta non vi sono termini per esprimervi tutto ciò che provo leggete voi medesimo nel cuor mio tutta la mia gratitudine sollevai Maaman e lo baciai in fronte dicendogli principe avete potuto pensare che io avrei negato il mio aiuto nella situazione nella quale per amor mio vi trovavate ho punito l'orgoglioso Kachem che voleva rendersi padrone dei vostri stati e rapire Cirina per metterla tra le schiave del suo serraglio non temete più d'ora innanzi nessun potente nel mondo oserà farvi la guerra e se alcuno ardisse di venirvi a molestare farai cadere sulle sue truppe una pioggia di fuoco che le ridurrebbe tosto in cenere la principessa non meno sensibile del re suo padre all'importante servizio da me reso allo stato mi dimostrò la sua riconoscenza facendomi mille carezze poco mancò che quella volta non dimenticassi la mia parte da stava per apparire il giorno allorché tornai alla mia cassa due giorni dopo sepolto Kachem al quale benché nemico non si trascurò di fare superbi funerali il re di Gasna ordinò che si facessero grandi feste tanto per la disfatta delle truppe nemiche quanto per celebrare solennemente il matrimonio della principessa scirina con Mahometto pensai allora di dover compiere qualche prodigio per celebrare la festa che si faceva in mio onore e a tale effetto comprata della pece con dei semi di cotone ed un piccolo acciarino passai la giornata nel bosco a preparare un fuoco d'artificio la notte mentre il popolo si divertiva nelle strade mi trasferii sopra la città innalzandomi più alto che mi fosse possibile accesi la pece che con i semi fece un bellissimo effetto poi ritornai nel bosco appena fu giorno andai alla città per avere il piacere di udire cosa si sarebbe detto di me e fui deluso mille discorsi stravaganti si facevano su ciò che avevano visto gli uni dicevano che Mahometto per dimostrare come avesse gradito la festa aveva fatto dei fuochi celesti gli altri assicuravano di aver veduto in mezzo a quelle nuove meteore il profeta con barba bianca e aria venerabile e ciò era il fetto della loro immaginazione tutti quei discorsi mi divertirono infinitamente ma oimè mentre me la godevo la mia cassa la mia cara cassa strumento dei miei prodigi ardeva nel bosco probabilmente durante la mia assenza una scintilla del fuoco d'artificio si era attaccata alla macchina e l'aveva bruciata tutta così che al ritorno la trovai in cenere un padre che entrando in casa sua vede l'unico figlio trafitto da mille colpi mortali non proverebbe dolore più vivo di quello che provai il male era senza rimedio e non mi restava che una via d'uscita quella cioè di andare a cercare fortuna altrove così il profeta maometto lasciando in gran pena Bahaman e Sirina si allontanò dalla città di Gasna incontrai tre giorni dopo una grossa caravana di mercanti del Cairo che tornava in patria mi unì a loro e recatomi al Cairo mi mise a esercitare il commercio girai molti paesi e visitai non poche città sempre ricordandomi del mio felice passato finalmente invecchiato capitai fin qua e mi imbattei nell'infelice cui tu o gran principe dei geni volevi togliere la vita il genio non appena ebbe udita la fine accordò l'ultimo terzo della grazia al mercante e scomparve con grande gioia della compagnia sire disse Sharazad terminando il racconto se questa storia vi è piaciuta che direste mai di quella del pescatore che è tanto più bella e Duniazad vedendo che il sultano taceva esclamò la notte non è ancora finita e ci resta del tempo su via cara sorella raccontaci col permesso del sultano anche questa storia il sultano dia del suo consenso e Sharazad cominciò il suo discorso così era una volta un pescatore vecchissimo e così povero che appena guadagnava di che mantenere la sposa e i tre figli egli tutti i giorni andava alla pesca nel fiume e un giorno mentre ritirava le reti alla riva intese qualche resistenza credendo di aver fatto buona pesca se ne compiaceva fra sé ma un momento dopo scoprendo che in luogo di pesce non vi era nella sua rete che il cadavere di un asino ne ebbe molto dolore quando il pescatore afflitto di aver fatto così cattiva pesca ebbe raccomodate le sue reti rotte da quel gran peso le gettò una seconda volta tirandole sentì ancora molta resistenza ciò che gli fece credere che fossero piene di pesce ma vi trovò invece un gran paniere pieno di sabbia e di fango egli cadde in grave afflizione con fortuna esclamò con voce pietosa cessa di essere adirata con me e non perseguitare più oltre uno sventurato terminando questo lamento gettò bruscamente il paniere e dopo aver ben lavata le sue reti che il fango aveva imbrattato le gettò per la terza volta ma non ne trasse che pietre conchiglie e sozzure non si saprebbe esprimere quale fosse il suo dispiacere poco mancò che non perdesse la ragione intanto siccome il giorno cominciava a spuntare da buon musulmano non dimenticò di far la sua preghiera quindi gettò le sue reti per la quarta volta e quando pensò che doveva esservi del pesce le tirò come prima con gran pena ma anche allora pesce non venera vi trovò però un vaso di rame giallo che al peso gli sembrò pieno di qualche cosa e osservò che era chiuso e suggellato con piombo che recava l'impronta di un sigillo questa cosa lo rallegrò io lo venderò al fonditore diceva e dal denaro che ne ricaverò comprerò una misura di biada esaminò il vaso da tutti i lati e lo scosse per vedere se ciò che verrà dentro facesse rumore non avendo sentito nulla arguì dal peso del vaso e dall'impronta del sigillo sul coperchio di piombo che doveva contenere qualche cosa preziosa per chiarirsene prese il suo coltello e con qualche fatica lo aprì lo inclinò subito verso terra ma ciò che lo sorprese estremamente fu che non ne uscì nulla lo mise davanti a sé e mentre lo considerava attentamente ne uscì un fumo densissimo che lo obbligò a retrocedere di due o tre passi questo fumo si elevò fino alle nubi estendendosi sul mare e sulla riva formò un grosso nuvolone spettacolo che arrecò come si potrà immaginare uno sbalordimento straordinario al pescatore e allora che il fumo fu tutto fuori dal vaso si riunì e divenne un corpo solido da cui si formò un genio due volte alto quanto il più grande di tutti i giganti alla vista di un mostro di una grandezza così smisurata il pescatore volle prenderla fuga ma si trovò così turbato e così sbalordito che non poté camminare salomone gridò subito il genio salomone gran profeta di dio perdono perdono io non mi opporrò giammai alla vostra volontà io obbedirò a tutti i vostri comandi il pescatore non appena intese le parole del genio si rassicurò e gli disse spirito superbo che dite sono più di diciotto secoli che salomone il profeta di dio è morto narratemi la vostra storia e ditemi perché vi siete rinchiusi in questo vaso a tal discorso il genio guardando il pescatore con aria fiera gli rispose parlami più civilmente sei molto ardito nel chiamarmi spirito superbo ebbene rispose il pescatore vi parlerò con più educazione chiamandovi gufo della felicità io ti dico riprese il genio di parlarmi più educatamente prima che ti uccida e perché mi dovreste uccidere replicò il pescatore io vi ho messo in libertà l'avete forse dimenticato io me ne ricordo riprese il genio ma questo non mi impedirà di farti morire non avendo che una sola grazia da accordarti qual è questa grazia disse il pescatore di lasciarti scegliere rispose il genio in qual modo vuoi che ti uccida ma in che vi ho offeso disse il pescatore così volete ricompensarmi del bene che vi ho fatto io non posso trattarti altrimenti disse il genio e affinché tu ne sia persuaso ascolta la mia storia io sono uno di quegli spiriti ribelli che si opposero alla volontà di dio tutti gli altri generi conobbero il gran salomone per profeta di dio e si sottoposero a lui saccare io fummo i primi che non volemmo commettere simile bassezza quel possente monarca per vendicarsi incaricò asaf figlio di barchiglià suo primo ministro a venirmi a prendere ciò fu eseguito asaf venne a impadronirsi della mia persona e mio malgrado mi condusse dinnanzi al trono del suo padrone salomone figlio di david mi comandò di lasciare il mio genere di vita e riconoscere il suo potere rifiutai altamente di obbedire e preferì espormi al suo risentimento anziché prestargli il giuramento di fedeltà e di sottomissione che egli esigeva da me per punirmi mi chiuse in questo vaso di rame e per essere certo che io non forzassi la mia prigione impresse egli stesso sul coperchio di piombo il suo sigillo ov'è inciso il gran nome di dio fatto ciò diede il vaso a un genio con l'ordine di gettarmi in mare il che fu eseguito con mio sommo rammarico durante il primo secolo della mia prigione giurai che se qualcuno mi liberava l'avrei fatto ricco anche dopo la sua morte ma il secolo scorse e nessuno mi salvò nel secondo secolo giurai di aprire tutti i tesori della terra a chiunque mi mettesse in libertà ma non fui più felice nel terzo promisi di far potente monarca il mio liberatore di stargli sempre vicino e accordargli ogni giorno tre domande di qualunque natura si fossero ma quel secolo passò come i due altri e io stetti sempre nel medesimo stato infine disperato o piuttosto arrabbiato di vedermi prigioniero si lungo tempo giurai di uccidere senza pietà chiunque mi liberasse in seguito non accordando agli per grazia che la scelta della morte or dunque poiché tu oggi mi hai liberato scegli come vuoi che io ti uccida questo discorso afflisse molto il pescatore sono assai infelice esclamò di essere venuto in questo luogo a rendere un simile favore a un ingrato considerate di grazia la vostra ingiustizia e revocate un giuramento così poco ragionevole perdonate me ed io perdonerà ancora voi se mi lasciate generosamente la vita egli vi metterà al coperto da tutti gli attentati che si faranno contro i vostri giorni no la tua morte è certa disse il genio scegli solo la maniera che più ti aggrada il pescatore vedendolo fermo nella sua risoluzione ne ebbe un estremo dolore non tanto per sé quanto per i suoi figli nei quali compiangeva la miseria in cui si sarebbero ridotti dopo la sua morte egli tentò di calmare il genio abbiate pietà di me in considerazione di quel che ho fatto per voi ti ho già detto soggiunse il genio che per questa ragione appunto sono obbligato a toglierti la vita strano è in vero replicò il pescatore che vogliate rendere assolutamente male per bene il proverbio dice che chi fa del bene a uno che non lo merita è sempre mal pagato e che è purtroppo vero non perdiamo tempo interruppe il genio nessuna ragione saprebbe distogliermi dal mio disegno sollecita di adire come vuoi che io ti uccida la necessità aguzza l'insegno il pescatore immaginò una stratta gemma da che non posso evitare la morte disse al genio io mi sottometto alla volontà di dio ma prima che io scelga un genere di morte vi scongiuro per il gran nome di dio che era impresso sul sigillo del profeta salomone figlio di davide di dirmi la verità sopra una domanda che voglio farvi quando il genio vide che gli faceva uno scongiuro che lo costringeva a rispondere positivamente tremò in se stesso e disse al pescatore domandami quello che vuoi e affrettati avendo il genio promesso di dire la verità il pescatore gli disse io vorrei sapere se effettivamente eravate in questo vaso osereste voi giurarlo nel gran nome di dio sì rispose il genio giuro per quel gran nome che io vi ero e che questo è verissimo in buona fede rispose il pescatore io non posso credervi questo vaso non potrebbe neanche contenere uno dei vostri piedi come può essere mai che il vostro corpo vi sia stato chiuso intero eppure io ti giuro che io vi ero come tu mi vedi e non mi credi tu dopo il giuramento che ti ho fatto no disse il pescatore e non vi crederò affatto salvo che non me lo facciate vedere allora avvenne una dissoluzione del corpo del genio il quale mutandosi in fumo si stese come in precedenza sul mare e sulla riva e poi raccogliendosi cominciò a rientrare nel vaso e continuò con una lenta e uguale successione finché non resta più nulla al di fuori poi ne uscì una voce che disse al pescatore ebbene incredulo pescatore eccomi nel vaso mi credi tu ora il pescatore invece di rispondere al genio ghermì il coperchio di piombo e avendo chiuso prontamente il vaso genio mi gridò domandami grazia a tua volta e scegli di qual morte vuoi che io ti faccia morire ma no è meglio che io ti getti nuovamente in mare nel medesimo luogo da cui ti ho tratto poi farò fabbricare una casa su questa riva dove farò dimora per avvertire tutti i pescatori che verranno a gettarvi le reti di guardarsi bene dal pescare un cattivo genio come te che ha fatto giuramento di uccidere colui che ti metterà in libertà a queste parole offensive il genio irritato fece tutti gli sforzi per uscire dal vaso ma non gli fu possibile perché l'impronta del sigillo del profeta Salomone figlio di David glielo impediva così vedendo che il pescatore aveva allora il vantaggio sopra di lui prese il partito di dissimulare la sua collera dicendogli in tono patetico oh pescatore guardati bene dal fare ciò quel che ho fatto io non era che per celia e tu non hai da pigliare la cosa sul serio oh genio rispose il pescatore tu ch'eri un momento fa il più grande di tutti i geni e ora non sei che il più piccolo sappi che i tuoi artificiosi discorsi non ti gioveranno a nulla tu tornerai nel mare se vi hai dimorato tutto il tempo che mi hai detto potrai ben dimorarvi fino al giorno del giudizio io ti ho pregato in nome di dio di non togliermi la vita hai ricettato le mie preghiere e io devo renderti pan per focaccia il genio non risparmiò nulla per tentare di commuovere il pescatore apri il vaso gli disse dammi la libertà te ne supplico e ti prometto che sarai contento di me tu sei un traditore rispose il pescatore io meriterai di perdere la vita se avessi l'imprudenza di fidarmi di te tu non mancheresti di trattarmi nella stessa maniera che un certo re greco trattò il medico Dubin è questa una storia che voglio raccontarti perciò porgi attento orecchio e ascoltami vi era nel paese di Zuman nella Persia un re coperto di lebra i suoi medici avevano inutilmente messo in opera tutta la loro scienza per guarirlo quando un abilissimo dottore chiamato Dubin capitò nella sua corte questo medico aveva tratto la sua scienza da libri greci persiani turchi arabi latini siriaci ed ebraici e oltre a essere profondo nella filosofia conosceva perfettamente le buone e le cattive qualità di ogni specie di piante e di droghe informato della malattia del re e conosciuto che i medici l'avevano abbandonato si vestì lestamente e trovò il mezzo di farsi presentare al medesimo siria gli disse io so che tutti i medici di cui vostra maestà si è servita non hanno potuto guarirvi dalla vostra lebra se volete farmi l'onore di gradire i miei servigi mi impegno di guarirvi senza pozioni e senza intrugli da sorbire il re rispose se voi siete tanto abile da fare ciò che dite prometto di arricchire voi e i vostri discendenti e senza contare i doni che vi farò diverrete il mio più caro favorito allora il medico Dubin si ritirò in casa sua e fece un maglio con il manico cavo dove pose la droga di cui cercava giovarsi fatto ciò preparò anche un globo nel modo che a lui piacque e con questo apparecchio l'indomani si presentò al re al quale dopo aver fatto una profonda riverenza disse che stimava conveniente che sua maestà salisse a cavallo e si trasferisse in piazza per giocare al maglio il re fece ciò che diceva e quando fu nel luogo destinato al gioco del maglio a cavallo il medico si avvicinò a lui col maglio preparato e presentandogli lo disse prendete prendete sire esercitatevi con questo maglio e spingete questa palla per la piazza finché sentirete la mano e il corpo sudati quando il rimedio che io ho chiuso nel manico di questo attrezzo sarà riscaldato dalla vostra mano penetrerà per tutto il corpo allora farete ritorno al vostro palazzo entrerete nel bagno dove vi farete ben lavare e strofinare quindi vi adagerete nel letto e levandovi domani sarete guarito il sovrano eseguì appuntino quanto gli aveva prescritto il dottore e alzatosi il giorno dopo scoperse con stupore e gioia che la sua lebra era guarita e che aveva il corpo pulito come se non fosse stato mai attaccato da quella malattia appena fu vestito entrò nella sala di pubblica udienza salì sul trono e si fece vedere a tutti i suoi cortigiani che la sollecitudine di sapere il successo del nuovo rimedio aveva chiamati là di buon'ora quando videro il re perfettamente guarito mostrarono tutti un'immensa gioia il medico entrò nella sala e andò a prostrarsi ai piedi del trono avendolo veduto il re lo chiamò e fattolo sedere al suo fianco lo mostrò all'assemblea dandogli pubblicamente tutte le lodi che meritava il re greco non si contentò di ricevere alla sua tavola il medico d'Uban ma quando volle concedare l'assemblea gli fece indossare una lunga veste ricchissima e simile a quella che portavano ordinariamente i suoi cortigiani alla sua presenza oltre a ciò gli fece dare duemila dinar e domani ai giorni seguenti gli fece parecchi complimenti infine questo principe credendo non poter mai compensare abbastanza quel valente medico per gli obblighi che gli doveva spandeva su di lui tutti i giorni nuovi benefici ora questo re aveva un gran visir avaro invidioso e per natura capace di ogni sorta di delitti con pena vedeva i regali che erano fatti al medico il cui merito cominciava a fargli ombra e risolvette di farlo cadere dal favore del re per riuscirvi andò a trovare questo principe e gli disse in particolare che doveva dargli una notizia di grande importanza avendogli il re domandato che fosse si re gli disse è ben pericoloso per un sovrano aver fiducia di un uomo di cui non ha provato la fedeltà colmando di benefici il medico d'Uban facendogli tutti i complimenti che gli fa vostra maestà voi non sapete che egli è un traditore che si è introdotto in questa corte per assassinarvi donde avete saputo ciò che osate dirmi rispose il re si re replicò il visir io sono perfettamente a conoscenza di ciò che ho l'onore di sottomettervi il medico è partito dalla Grecia suo paese e non è venuto a stabilirsi nella vostra corte che per eseguire l'orribile disegno di cui vi ho parlato no no visir interruppe il re io sono sicuro che questo uomo da voi trattato come perfido è il più virtuoso e il migliore di tutti gli uomini ne vi è persona al mondo che io ami quanto lui voi sapete con quale rimedio o piuttosto con quale miracolo egli mi ha guarito dalla mia lebra perché vorrebbe egli togliermi la vita dal momento che mi ha salvato da una morte sicura cessate dunque di volermi ispirare in giusti sospetti invece di ascoltarli vi avverto che da questo giorno stabilisco per questo grande uomo una pensione di mille dinar al mese durante la sua vita seppure io dividessi con lui tutte le mie ricchezze e i miei stati ancora non lo ricompenso abbastanza di quanto egli ha fatto per me comprendo la sua virtù eccita la vostra invidia ma non crediate che io mi lasci prevenire contro di lui ingiustamente mi ricordo bene di ciò che un visir disse al re Simbad suo padrone per impedire che egli facesse morire il principe suo figlio sire interruppe colui io supplico la vostra maestà di perdonare il mio ardire se vi domando di sapere ciò che il visir del re Simbad disse al suo signore il re greco ebbe la compiacenza di soddisfarlo e gli rispose questo visir dopo aver esposto al re che sull'accusa di una matrigna egli doveva temere di commettere un'azione di cui potesse pentirsi gli raccontò questa storia storia del marito e del pappagallo un buon uomo aveva una bella moglie egli l'amava con tanta passione che non la perdeva quasi mai di vista un giorno che affari pressanti l'obbligavano ad allontanarsi da lei andò in un luogo dove vendevano degli uccelli e comprò un pappagallo che non solo parlava benissimo ma aveva la virtù di narrare tutto ciò che succedeva in sua presenza lo portò a casa in una gabbia pregò la moglie di metterlo nella sua stanza di prenderne cura durante il suo viaggio e poi partì a suo ritorno non mancò di interrogare il pappagallo su ciò che era avvenuto durante la sua assenza l'uccello allora gli raccontò cose che lo indussero a fare grandi rimproveri a sua moglie essa credette che qualcuna delle schiave l'avesse tradita ma quelle giurarono tutte di essere state fedeli e convennero che nessuno aveva potuto raccontare tali cose salvo il pappagallo convinta di ciò la donna cercò nella sua mente un mezzo per distruggere i sospetti del marito e vendicarsi in paritempo del pappagallo ebbe un'idea essendo partito il marito per un giorno essa comandò a una schiava di far girare durante la notte sotto la gabbia dell'uccello un mulino a braccia a un'altra di gettare acqua come fosse pioggia nella gabbia e ad una terza di prendere uno specchio e di voltarlo di qua e di là al lume d'una candela davanti agli occhi del pappagallo le schiave passarono gran parte della notte in questi lavori eseguendoli abilmente indomani il marito essendo di ritorno interrogò di nuovo il pappagallo intorno a quello che era avvenuto in casa e l'uccello gli rispose mio buon padrone i lampi i tuoni e la pioggia mi hanno talmente disturbato che io non posso dirvi quanto ho sofferto il marito ben sapendo che non aveva piovuto quella notte si persuase che il pappagallo non dicesse la verità e concluse che non l'avesse detta neppure per quanto riguardava sua moglie allora per dispetto lo tirò fuori dalla gabbia lo gettò a terra e l'uccise in seguito apprese dal vicinato che il povero pappagallo non aveva mentito parlando della condotta di sua moglie e si pentì di averlo ucciso quando il re greco ebbe terminata la storia del pappagallo aggiunse e voi visir per l'invidia che avete concepita contro il medico Dubà che non vi ha fatto alcun male volete che io lo faccia morire ma io me ne guarderò bene per paura di dovermene pentire come quel marito che aveva ucciso il suo pappagallo il cattivo visir era così interessato a perdere il medico Dubà che non si arrestò a quel primo tentativo tira replicò la morte del pappagallo era poco importante e io non credo che il suo padrone l'abbia compianto a lungo ma non so vedere perché il timore di opprimere un innocente le impedisca di far morire questo medico non basta che sia accusato di voler attentare alla vostra vita per darvi facoltà di togliagli la sua quando si tratta di assicurare i giorni di un re un semplice sospetto deve passare per certezza e va il meglio sacrificare un innocente che salvare un colpevole ma Sire questa non è una cosa incerta il medico Dubà vi vuole assassinare non è l'invidia che mi arma contro di lui sono solo la sollecitudine che ho della conservazione di vostra maestà e lo zelo che mi spingono a darvi un consiglio tanto importante è falso merito ad essere punito come fu punito un'altra volta un visir che aveva fatto questo visir chiese il medico greco per essere degno di questo castigo lo dirò a vostra maestà Sire rispose il visir se avrà la bontà di ascoltarmi storia del visir punito c'era una volta un re che aveva un figlio appassionato per la caccia egli gli permetteva di prendersi spesso questo divertimento ma aveva dato ordine al gran visir di accompagnarlo sempre e di non abbandonarlo mai un giorno di caccia quando i cacciatori colpirono con la lancia un cervo il principe credendo di essere seguito dal visir si diede ad inseguire la bestia forse tanto e il suo ardore lo portò così lontano che si trovò solo si fermò e accorgendosi di essersi smarrito volle ritornare per raggiungere il visir ma si perse del tutto mentre correva in tutte le direzioni senza seguire una via sicura incontrò sul ciglio di una strada una donna che piangeva amaramente le domandò chi fosse che cosa facesse sola in quel luogo e se avesse bisogno di soccorso io sono la figlia del re delle indie rispose quella passeggiando a cavallo per la campagna mi sono addormentata è solo caduta il mio cavallo è fuggito e non so che ne sia avvenuto la giovane principe ebbe pietà di lei e le propose di prenderla in groppa essa accettò nel passare vicino a un casolare la donna volle scendere ed entrando vi disse gioite figli miei vi porto un giovane bello e grasso ed altre voci le risposero subito mamma dov'è possiamo mangiarlo subito perché abbiamo un grande appetito il principe non ebbe bisogno di sentire altro per comprendere il pericolo si accorse cioè che la donna che si diceva figlia di un re delle indie era invece un'orca moglie di quei demoni selvaggi chiamati orchi e che si rifugiano in luoghi disabitati essi valgono di mille astuzia per sorprendere e divorare i passeggeri fu preso da spavento e risali rapidamente a cavallo la pretesa principessa apparve in quell'istante e vedendo che aveva fallito il colpo gridò al principe non temete di nulla chi siete che cercate mi sono perso e cercò la via se vi siete perso raccomandatevi a dio ed egli vi libererà dalla difficoltà in cui siete allora il principe alzò gli occhi al cielo esclamando signore onnipotente gettate su di me lo sguardo e liberatemi da questa nemica a questa preghiera la moglie dell'orco entrò nel casolare e il principe si allontanò precipitosamente per fortuna trovò la via e arrivato sano e salvo dal re suo padre gli raccontò del pericolo che aveva corso per la trascuratezza del visir il re irato contro il ministro lo fece strangolare all'istante sire continuò il visir del re greco per ritornare al medico d'uban se non state attento la fiducia che avete riposto in lui vi sarà funesta io so con certezza che costui è uno spione inviato dai nostri nemici per attentare alla vita di vostra maestà voi dite che vi ha guarito e chi può assicurarvene chi sa se questo rimedio non produrrà col tempo un effetto mortale il re greco che aveva poco ingegno non ebbe abbastanza intelligenza per accorgersi della malafede del suo visir né abbastanza fermezza per persistere nella sua convinzione questo discorso lo scosse e disse visir tu hai ragione può essere venuto espressamente per togliermi la vita bisogna vedere cosa devo fare in tale circostanza quando il visir vide il re predisposto a secondarlo gli disse sire il mezzo più certo e più pronto per assicurare il vostro riposo e mettere in salvo la vostra persona è quello di mandare a chiamare subito il medico d'uban e di fargli tagliare la testa appena giunto è vero disse il re così prevengo ogni suo cattivo proposito e chiamato uno dei suoi ufficiali gli ordinò di andare a cercare il medico il quale senza sapere ciò che volesse il re corse subito al palazzo sai perché ti ho ordinato di venire qui disse il re vedendolo no sire rispose io aspetto che vostra maestà si degni di dirmelo ti ho chiamato per liberarmi di te togliendoti la vita è impossibile descrivere la sorpresa del medico quando sentì pronunciare la sentenza di morte sire disse per quale ragione vostra maestà vuole farmi morire che delitto ho commesso ho saputo da fonte sicura replicò il re che tu sei una spia e che sei venuto alla mia corte per togliermi la vita colpisci aggiunse il carnefice che era presente e liberami da un perfido che si è introdotto in casa mia per assassinarmi a quest'ordine crudele il medico indovinò che gli onori e i benefici ricevuti gli avevano suscitato dei nemici e che il debole re si era lasciato ingannare dalle loro imposture si pentì di averlo guarito dalla lebra ma troppo tardi dunque gli disse ricompensate così del bene che vi ho fatto il re non l'ascoltò e ripetè il suo ordine al carnefice il medico ricorse alle preghiere ed esclamò sire ah sire prolungatemi la vita e dio prolungherà la vostra non fatemi morire perché dio potrebbe trattarvi allo stesso modo il pescatore a questo punto interruppe il suo racconto per rivolgersi al genio ebbene genio vedi che quanto è successo al medico Dubin e al re greco si ripete ora il re greco continuò e invece di ascoltare la preghiera che gli aveva fatto il medico scongiurandolo in nome di dio gli disse con durezza no no è una necessità assoluta che io ti faccia perire altrimenti tu potresti togliermi la vita con maggiore abilità di quanta ne avresti nel guarirmi intanto il medico sciogliendosi in lacrime e lamentandosi pietosamente perché era così mal compensato del bene fatto al re si preparava a ricevere il colpo mortale il carnefice gli bendò gli occhi gli legò le mani poi si accinse a sguainare la sciabola allora i cortigiani che erano presenti presi da compassione supplicarono il re di fargli grazia assicurandolo che il medico non poteva essere colpevole e garantendone l'innocenza ma il re fu inflessibile e parlò in modo da non ammettere replica il medico in ginocchio con gli occhi bendati e sul punto di ricevere il colpo fatale si rivolse per l'ultima volta al re dicendogli si re poiché vostra maestà non vuole revocare la sentenza di morte ma supplico almeno di accordarmi la libertà di andarmene a casa a dare ordini per la mia sepoltura e salutare per l'ultima volta la mia famiglia a fare delle elemosine e a disporre dei miei libri ne ha uno fra gli altri che voglio regalare a vostra maestà è un libro preziosissimo da conservare nel vostro tesoro perché è così prezioso quel libro replicò il re si re rispose il medico esso contiene un'infinità di cose curiose la principale delle quali è che quando mi sarà tagliata la testa se vorrete darvi la pena di aprirlo alla sesta pagina e di leggere la terza riga della pagina la mia testa risponderà a tutte le domande che vorrete farle il re curioso di vedere una cosa tanto meravigliosa differì la morte del medico fino al giorno dopo e lo lasciò andare a casa sotto buona scorta il medico durante questo tempo mise in ordine i suoi affari e siccome si era sparsa la voce che dovesse succedere un prodigio inaudito dopo la sua morte il vizier gli emiri gli ufficiali della guardia e tutta la corte andarono nella sala delle udienze per essere testimoni subito si vide il medico Dubin che avanzò fino ai piedi del trono reale con un grosso libro in mano si fece portare un catino sul quale stese la coperta in cui era avvolto il libro e presentandolo al re disse vi piaccia prendere questo libro e appena mi sarà tagliata la testa comandate che la si ponga sul catino sopra la coperta del libro allora aprite il libro e la mia testa risponderà a tutte le vostre domande ma permettete sire che io implori la clemenza di vostra maestà in nome di dio lasciatevi piegare vi giuro che sono innocente le tue preghiere sono inutili rispose il re e poiché si tratta di sentir parlare la tua testa dopo la tua morte voglio che tu muoia dicendo così prese il libro dalle mani del medico e ordinò al carnefice di fare il suo dovere la testa fu tagliata così abilmente che cadde nel catino e appena fu messa sulla coperta il sangue si arrestò allora con gran sorpresa del re e di tutti gli spettatori essa aprì gli occhi e disse sì re aprite il libro il re l'aprì e vedendo che il primo foglio sembrava incollato al secondo per voltarlo con più facilità portò il dito alla bocca e lo bagnò di saliva fece lo stesso fino al sesto foglio e non vedendo scrittura alla pagina indicata disse medico qui non c'è nulla voltate ancora qualche altro foglio disse la testa il re continuò a voltare le pagine portando ogni volta il dito alla bocca finché il veleno di cui era imbevuto ogni foglio produsse il suo effetto e il principe si sentì a un tratto agitare da un grande tremito la sua vista si offuscò e cadde ai piedi del trono con forti convulsioni quando la testa dico dio avrebbe lasciato vivere lui ma egli respinse le sue umili preghiere e dio lo punì lo stesso è per te o genio se io avessi potuto ottenere da te la grazia domandata avrai ora pietà del tuo stato ma poiché adonta dell'immensa riconoscenza che mi dovevi persisti a volermi uccidere io a mia volta non debbo aver pietà lasciandoti in questo vaso e gettandoti in mare ti toglierò l'uso della vita sino alla fine dei secoli questa è la vendetta che voglio prendere su di te amico pescatore rispose il genio ti scongiuro un'altra volta di non essere così crudele pensa che non è giusto vendicarsi e al contrario è lodevole rendere bene per male non mi trattare come Umama trattò altra volta Atica e che fece Umama ad Atica disse il pescatore se desideri saperlo apri questo vaso credi che io voglia mettermi a raccontare storie in una prigione così stretta che ne racconterò quante ne vorrai quando mi avrai tolto di qui no disse il pescatore non ti libererò è inutile discutere ti sommergerò nel fondo del mare un'altra sola parola pescatore gridò il genio ti prometto di non farti più male anzi ti insegnerò il mezzo per diventare molto ricco la speranza di liberarsi dalla povertà disarmò il pescatore ti darei ascolto disse se potessi fidarmi della tua parola giurami nel gran nome di dio che farai davvero quanto dici e io aprirò il vaso non credo che tu sia tanto ardito da violare un giuramento il genio giurò e il pescatore tolse subito il coperchio dal vaso prima ne uscì fumo poi il genio riprese la sua forma e la prima cosa che fece fu gettare con una pedata il vaso in mare ciò spaventò il pescatore che vuol dire questo genio non vuoi serbare fede il giuramento devo ripetervi ciò che il medico Duban diceva al re greco lasciatemi vivere e dio prolungherà i vostri giorni la paura del pescatore fece ridere il genio che gli disse no pescatore rassicurati io ho gettato il vaso in mare per divertirmi e vederti turbato e per dimostrarti che voglio mantenere la mia parola prendi le tue reti e seguimi pronunciate queste parole si incamminò davanti al pescatore il quale carico delle sue reti lo seguì con qualche diffidenza passarono davanti alla città e risalirono sulla cima ad una montagna poi scesero in una vasta pianura che portava a un grande stagno situato fra quattro colline quando furono arrivati alla sponda dello stagno il genio disse al pescatore getta le reti e prendi del pesce il pescatore non dubitò di prenderne perché ne vide una gran quantità nello stagno ma fu molto stupito di vederne di quattro colori differenti bianchi rossi turchini e gialli dettate le reti riuscì a prenderne appunto quattro uno per colore siccome non ne aveva mai visti di simili rimase incantato ad ammirarli e ritenendo di poter trarre una somma considerevole non stava più in sé dalla gioia il genio il genio gli disse porta questi pesci al tuo sultano lui ti darà tanto denaro quanto tu non ne hai mai maleggiato in tutta la vita potrai venire ogni giorno a pescare in questo stagno ma ti avverto di gettare le reti solo una volta al giorno altrimenti te ne verrà male bada questo è l'avviso che ti do se lo seguirai le ne troverai bene dicendo queste parole il genio batte col piede la terra la quale dopo averlo inghiottito si richiuse il pescatore risoluto a seguire scrupolosamente i consigli del genio si astenne dal gettare un'altra volta le reti si incamminò verso la città lietissimo della sua pesca e facendo mille riflessioni sulla sua nuova avventura se ne andò difilato al palazzo del sultano per offrirgli i suoi pesci non poca fu la sorpresa del sultano quando vide quei bei pesci li prese uno dopo l'altro per esaminarli attentamente e disse al suo primo visir prendete questi pesci e portateli all'abile cuoca che mi inviò l'imperatore dei greci io credo che saranno buoni quanto quelli il visir li portò egli stesso alla cuoca e ponendoli nelle sue mani le disse ecco quattro pesci che hanno portato al sultano egli vi ordina di prepararglieli dopo essersi sbrigato della sua commissione tornò dal sultano suo padrone che lo incaricò di dare al pescatore quattrocento piastre d'oro il pescatore che non aveva mai posseduto in vita sua una somma tanto vistosa credeva di sognare ma dopo che l'ebbe impiegata per i bisogni della sua famiglia si dovette rendere conto che quella somma era ben reale ma ora che ho parlato del pescatore occorre che vi parli della cuoca che era in grande imbarazzo e l'ha infatti non appena puliti i pesci li aveva messi a frizzere in padella e quando li vide abbastanza cotti da un lato li voltò oh prodigio inaudito appena voltati il muro della cucina si aprì e ne uscì una giovane di straordinaria bellezza era vestita di raso a fiori allegeziana con pendenti agli orecchi una collana di grosse perle brazzaletti d'oro ornati di rubini e teneva in mano una bacchetta di mirto costei con gran sorpresa della cuoca che a tal vista rimase immobile si avvicinò alla padella e toccando uno dei pesci con la bacchetta disse pesce tieni fede al patto non avendo il pesce risposto nulla essa ripeté le stesse parole e allora i quattro pesci alzando la testa tutti in un punto le dissero distintamente sì sì se voi contate noi contiamo se voi pagate i vostri debiti noi paghiamo i nostri se voi fuggite noi vinciamo e siamo contenti quando ebbero pronunciato queste parole la giovane signora rovisciò la padella e rientrò nell'apertura del muro che subito si chiuse tornando come prima la cuoca spaventata da tutte queste meraviglie essendosi rimessa dal suo sballordimento andò a rialzare i pesci che erano caduti sulla brazza ma li trovò più neri del carbone e tali da non poter assolutamente essere presentati al sultano che sarà di me quando racconterò al mio augusto padrone ciò che ho veduto sono sicura che non mi crederà e si addirerà contro di me mentre così si addolorava entrò il gran visir e le domandò se i pesci fossero pronti lei gli raccontò ciò che era avvenuto e questo racconto come si può immaginare lo stupì molto ma senza raccontarlo al sultano inventò una favola che lo soddisfece intanto in quella stessa ora mandò a chiamare il pescatore al quale disse pescatore portami altri quattro pesci simili a quelli che hai portato perché è sopraggiunto un incidente che ha impedito di presentarli al sultano il pescatore senza rivelargli ciò che aveva raccomandato il genio e per dispensarsi dal fornire quel giorno i pesci chiesti gli si scusò parlando della lunghezza del cammino e promise di portarli il giorno appresso infatti partì nella notte e andò allo stagno gettò le reti e vi trovò quattro pesci che erano come gli altri ciascuno cioè di un colore differente subito tornò e li consegnò al gran visir questi li prese li portò egli stesso nella cucina e vi si chiuse solo con la cuoca che cominciò a pulirli davanti a lui come aveva fatto per gli altri quattro il giorno innanzi quando furono cotti da un lato e lei li voltò dall'altro il muro della cucina tornò ad aprirsi e comparve la medesima signora con la bacchetta in mano si avvicinò alla padella toccò uno dei pesci gli disse le medesime parole ed essi le diedero la medesima risposta alzando la testa il gran visir essendo stato testimonio dell'accaduto disse ciò che avviene è così straordinario che non possiamo tenerlo nascosto al sultano vado subito ad informarlo infatti andò a trovarlo e gli fece un fedele rapporto il sultano assai sorpreso mostrò un gran desiderio di osservare quell'apparizione straordinaria perciò fece venire il pescatore e gli disse amico potresti portarmi altri quattro pesci di colore differente il pescatore rispose che se sua maestà voleva accordargli tre giorni per farlo prometteva di contentarlo avendo il sultano acconsentito andò allo stagno per la terza volta e non fu meno fortunato delle precedenti poiché la prima volta che esettò le reti tirò su i quattro pesci dorati subito li portò al sultano che essendo assai soddisfatto perché non li aspettava così presto fece dare altri quattrocento pezzi d'oro al pescatore appena il sultano ebbe i pesci li portò nel suo studio col necessario per cuocerli si ritirò là col suo gran vizir il ministro preparò i pesci li pose sul fuoco in una padella e quando furono cotti da un lato li voltò dall'altro allora si aprì il muro dello studio ma invece della giovane signora ne uscì un moro costui aveva abiti da schiavo era di statura gigantesca e aveva in mano un grosso bastone verde avanzò fino alla padella e toccando uno dei pesci col bastone con voce terribile gli disse pesce pesce tieni fede al patto ma queste parole i pesci alzarono la testa e risposero sì sì se voi contate noi contiamo se voi pagate i vostri debiti noi paghiamo i nostri se voi fuggite noi vinciamo e siamo contenti i pesci avevano appena pronunciato queste parole che il moro rovesciò la padella sul fuoco e trasformò i pesci in carbone fatto ciò si ritirò fieramente per dove era venuto e l'apertura del muro si chiuse dopo ciò che ho visto disse il sultano al gran visir non avrò più pace questi pesci senza dubbio significano qualche cosa di straordinario e voglio averne la spiegazione andò a cercare il pescatore e gli disse pescatore i pesci che ci hai portati mi procurano grande inquietudine dove li hai pescati sire rispose quello li ho pescati in uno stagno situato fra quattro colline al di là della montagna che si vede di qui conoscete quello stagno chiese il sultano al visir no sire rispose il visir non ne ho mai sentito parlare eppure sono sessant'anni che vado a caccia nei dintorni al di là di quella montagna il sultano domandò al pescatore a quale distanza dal suo palazzo si trovasse lo stagno il pescatore assicurò che non vi erano più di tre o quattro ore di cammino a questa notizia e poiché restava ancora molta parte del giorno il sultano ordinò a tutta la sua corte di porsi a cavallo e il pescatore fece loro da guida tutti salirono sulla montagna e scendendo dall'altro lato videro una vasta pianura che nessuno fino ad allora aveva mai notato infine arrivarono allo stagno che videro effettivamente situato fra quattro colline come aveva detto loro il pescatore l'acqua era così trasparente che poterono scorgervi dei pesci simili a quelli che il pescatore aveva portato a palazzo il sultano si arrestò sulla via dello stagno e dopo avere per qualche tempo osservato i pesci con ammirazione domandò ai suoi emiri e a tutti i cortigiani come mai non avessero mai visto quello stagno così poco distante dalla città gli risposero che non ne avevano mai neppure sentito parlare poiché tutti convenite di non averne mai sentito parlare disse loro io non sono meno meravigliato di voi di questa novità e sono risoluto a non rientrare a palazzo se prima non saprò come mai questo stagno si trova qui e perché dentro vi si trovino soltanto pesci di quattro colori detto ciò ordinò di attendarsi e presto il suo padiglione e le tende della sua corte divennero rizzate sulle rive dello stagno a sopraggiungere della notte ritiratosi nel suo padiglione il sultano parlò in gran segretezza al suo gran visir dicendogli visir io sono inquieto questo stagno sconosciuto in questi luoghi quel moro che ci apparve nel mio studiolo quei pesci che abbiamo udito parlare tutto suscita talmente la mia curiosità che non posso resistere all'impazienza di soddisfarla perciò ho un'idea che voglio assolutamente mettere in atto mi allontanerò tutto solo da questo campo pregandovi di tener segreta la mia assenza restate nel mio padiglione e domani mattina quando i miei emiri e cortigiani si presenteranno all'entrata rimandateli via dicendo che sono un po' indisposto e che voglio star solo continuate a dire la stessa cosa finché non sarò di ritorno il visir disse molte cose al sultano per distoglierlo dal suo proposito gli mostrò il pericolo al quale si esponeva ma egli non abbandonò la sua risoluzione prese un abito comodo per viaggiare a piedi si munì di una sciabola e quando vide che nel suo campo era tutto tranquillo partì senza essere accompagnato da nessuno volse i suoi passi verso una delle colline che scalò con molta fatica trovò la china dall'altro lato più facile e quando fu nel piano camminò fino a che sorse il sole allora scoprendo da lontano un grande edificio gioì nella speranza di poter apprendere ciò che voleva sapere quando fu vicino osservò che era un magnifico palazzo o piuttosto un castello di un bel marmo nero e coperto di acciaio fine e liscio come il cristallo di uno specchio contento di non aver dovuto aspettare a lungo per scoprire qualcosa degno almeno della sua curiosità si arrestò dinanzi alla facciata del castello e la osservò con molta attenzione avanzò fino alla porta e vide che uno dei due battenti era aperto quantunque fosse libero da entrare credette meglio bussare diede un colpo assai leggero e aspettò qualche tempo ma non vedendo venire nessuno pensò che non avessero sentito battè più forte la seconda volta ma non vide e ne sentì nessuno ciò lo meravigliò poiché non poteva immaginare che un castello così ben tenuto fosse abbandonato se non c'è nessuno non ho nulla da temere disse fra sé e se c'è qualcuno ho di che difendermi allora entrò ed avanzando nell'atrio c'è qualcuno qui gridò per ricevere uno straniero che vorrebbe ristorarsi ripetè le stesse parole due o tre volte ma quantunque parlasse ad alta voce non ebbe risposta quel silenzio accrebbe la sua meraviglia passò in un cortile molto spazioso e guardando da tutti i lati per vedere se vi fosse qualcuno dovette constatare che non c'era anima viva entrò allora in grandi sale col pavimento coperto di tappeti di seta con cuscini e sofà rivestiti di stoffa della mecca e con le portiere delle più ricche stoffe delle indie ricamate di oro e d'argento poi entrò in un salone meraviglioso in mezzo al quale c'era una grande fontana con un leone d'oro massiccio in ogni angolo i quattro leoni gettavano acqua dalle fauci che nel ricadere formava perle e diamanti e nel mezzo della fontana c'era un getto d'acqua che andava quasi a colpire il soffitto dipinto all'arabesca il castello era circondato da tre lati da un giardino abbellito da abbellito da aiole fiorite getti d'acqua boschetti e mille altre delizie ma ciò che maggiormente rendeva ammirabile quel luogo era un'infinità di uccelli che riempivano l'aria dei loro canti armoniosi e che non potevano fuggire perché erano trattenute da reti d'oro tese al di sopra degli alberi e del palazzo il sultano camminò a lungo in un appartamento dove tutto gli parve magnifico quando fu stanco di camminare si sedette in un salotto aperto sul giardino meravigliato di quanto aveva veduto e di quanto vedeva e si mise a pensare quando ad un tratto una voce dolente accompagnata dalle mentevoli grida colpì il suo orecchio e li ascoltò attentamente e sentì queste parole fortuna che non hai voluto lasciarmi godere a lungo d'una sorte felice che mi hai reso il più sventurato di tutti gli uomini cessa di perseguitarmi e poni fine ai miei dolori con la morte ah è mai possibile che io viva ancora dopo tutti i tormenti che ho sofferto il sultano commosso da questi pietosi lamenti si alzò per andare dalla parte da dove provenivano quando fu alla porta di una grande sala aprì una portiera e vide un giovane ben fatto e riccamente vestito seduto su un trono poco elevato da terra con la tristezza dipinta sul volto il sultano si avvicinò e lo salutò il giovane ricambiò il saluto facendogli un inchino con la testa ma senza alzarsi signore disse al sultano so bene che dovrei alzarmi per ricevervi e farvi tutti gli onori possibili ma sono impedito da un motivo così forte che non potete non scusarmi signore gli rispose il sultano mi sono molto obbligato della vostra cortesia quanto al non potervi alzare qualunque possa essere la vostra scusa la ricevo assai di buon grado attirato dai vostri lamenti commosso dalle vostre pene vengo ad offrirvi i miei servigi piacesse a dio che potessi portare sollievo ai vostri mali farei tutto il possibile mi lusingo che non vi spiacerà raccontarmi la storia delle vostre sventure ma di grazia ditemi anzitutto che significa lo stagno che è qui vicino dove si vedono pesce di quattro colori differenti che vuol dire questo castello perché vi trovate qui solo invece di rispondere a queste domande il giovane si mise a piangere amaramente oh com'è incostante la fortuna esclamò essa si diverte ad abbassare gli uomini che ha innalzato dove sono mai coloro che godono tranquillamente di una felicità venuta da lei e hanno giorni puri e sereni il sultano preso da compassione vedendolo in quello stato lo pregò caldamente di dirgli la causa del suo grande dolore ah signore rispose il giovane come non essere afflitto come impedire che i miei occhi siano fonti inesauribili di lacrime a queste parole avendo alzato l'abito mostrò al sultano che aveva un corpo umano solo dalla testa alla cintura mentre l'altra metà del corpo era di marmo nero non è facile immaginare la meraviglia che provò il sultano quando vide lo stato deplorevole del giovane ciò che mi avete mostrato gli disse mi addolora e insieme eccita la mia curiosità io ardo dal desiderio di conoscere la vostra storia che deve essere senza dubbio stranissima e sono persuaso che lo stagno e i pesci vi avranno la loro parte perciò vi scongiuro di raccontarmela voi troverete conforto perché gli inferici si consolano raccontando le proprie sventure non voglio negarvi questa soddisfazione rispose il giovane quantunque sia sicuro di rinnovare i miei dolori ma vi prego fin d'ora di preparare le vostre orecchie il vostro animo e perfino i vostri occhi a cose che sorpassano ciò che l'immaginazione può concepire di più straordinario storia del giovane re delle isole nere dovete sapere signore continuò quegli che mio padre di nome Mahmud era re di questo stato e il regno delle isole nere che prende il suo nome dalle quattro montagne vicine perché prima erano isole e la capitale dove soggiornava mio padre era nel luogo in cui adesso è lo stagno che avete visto il seguito della mia storia chiarirà tutti questi mutamenti mio padre morì all'età di 60 anni io ho presi il suo posto mi ammogliai e la donna che io scelsi per dividere con me la dignità reale mi era cugina ebbi ragione di essere contento dei segni d'amore che ella mi dava e concepì per lei tanta tenerezza che nulla fu paragonabile alla nostra unione che durò circa cinque anni passato questo tempo mi accorsi che la regina mia parente non aveva più nessun gusto per me un giorno in cui essa era al bagno ebbi desiderio di dormire e mi gettai sopra un sofà due delle sue donne che si trovavano allora nella mia stanza vennero a sedersi una capo all'altra ai piedi del mio letto con in mano un ventaglio sia per moderare il caldo sia per liberarmi dalle mosche che avrebbero dovuto disturbare il mio sonno credendomi essi addormentato si intrattenevano a voce bassa tra loro ma io avevo solamente gli occhi chiusi e non perdetti una parola della loro conversazione una di queste donne disse all'altra non è vero che la regina ha gran torto di non amare un principe amabile come il nostro sì certo rispose la seconda per me non ne comprendo nulla e non so perché ella esce tutte le notti e lo lascia solo ed egli non se ne accorge come vuoi che non se ne accorga rispose la seconda essa gli mesce ogni sera nella bevanda un certo succo di erbe il quale lo fa dormire così profondamente che ella ha il tempo di andare dove meglio le piace per tornare a riposarsi vicino a lui allo spuntare del giorno allora lo sveglia facendogli passare un certo odore sotto il naso immaginate oh signore quale stupore e quali sentimenti mi spiò simile discorso eppure qualunque fosse la mia commozione ebbi sufficiente padronanza su di me per dissimularla finsi di svegliarmi e di non aver inteso nulla la regina tornò dal bagno e prima di andare a letto mi presentò la tazza piena d'acqua che io usavo a bere ma invece di portarla alla bocca mi avvicinai a una finestra aperta e gettai l'acqua così destramente che ella non se ne accorse e per non darle sospetto alcuno rimisi la tazza nelle sue mani colicatici e credendo che io fosse addormentato si levò con così poca precauzione che disse ad alta voce dormi e possa non svegliarti mai più si vestì rapidamente e uscì dalla stanza appena la regina mia moglie fu uscita balzai subito dal letto mi vestì sollecitamente presi la mia sciabola e la seguì così da vicino che la intesi subito camminare davanti a me allora regolando i miei passi con i suoi camminai leggermente per non essere avvertito e la passò per molte porte che si aprirono per virtù di certe parole magiche che proferiva e l'ultima fu quella del giardino dove entrò io mi arrestai alla porta affinché ella non potesse scoprirmi mentre traversava una aiuola e seguendola con gli occhi per quanto me lo permetteva l'oscurità la vidi entrare in un piccolo bosco i cui viali erano attorniati da strettissime palizzate io me ne andai per un'altra via e rasentando la palizzata di un viale assai lungo la vidi camminare con un uomo porsi attentamente le orecchie ai loro discorsi ed ecco quel che intesi io non merito diceva la regina al compagno il rimprovero che mi fate di non essere dilisente voi sapete la ragione che me lo impedisce ma se tutti i segni di affetto che ho dato finora non bastano a persuodervi della mia sincerità sono pronte a darvene più forti non avete che a comandarmi voi sapete qual è il mio potere se voi lo desiderate prima che si levi il sole io tramuterò questa città e questo bel palazzo in spaventevoli rovine le quali non saranno da altri abitate che da lupi da gufi e da corvi volete che io trasporti tutte le pietre di queste mura così solidamente fabbricate al di là del monte caucaso e fuori dai confini del mondo abitabile pronunziate una sola parola e tutti questi luoghi muteranno aspetto terminate queste parole l'uno e l'altra trovandosi al termine di un viale si volsero per entrare in un altro e mi passarono dinanzi io avevo già cavato dal fodero la sciabola ferì nel collo l'amante che era al mio lato e lo gettai a terra credetti di averlo ucciso e in questa opinione mi ritirai prontamente senza farmi riconoscere dalla regina che voglio risparmiare perché è mia parente il colpo dato al suo amante era mortale ma essa gli salvò la vita grazie ai suoi incantesimi in modo peraltro che può dirsi di lui non essere né vivo né morto attraversando poi il giardino per ritornare al palazzo udì che la regina mandava altissime grida e giudicando da ciò il suo dolore fui contento di averle lasciata la vita entrato nel mio appartamento tornai a coricarmi e pago di aver punito il temerario che mi aveva offeso mi addormentai svegliandomi al mattino trovai la regina adagiata vicino a me non vi dirò se dormiva oppure no ma io mi alzai senza fare alcun rumore e passai nel mio gabinetto per finir di vestirmi poi andai a tener consiglio al ritorno la regina vestita a lutto coi capelli sparsi e in parte strappati venne a presentarmi si dinanzi si re mi disse vengo a supplicare vostra maestà di non meravigliarsi se mi trovo allo stato in cui sono tre dolorose notizie ricevute ad un tempo sono la giusta causa del vivo dolore di cui non vedete che deboli segni e quali sono queste novità signora le dissi la morte della regina mia madre quella del re mio padre ucciso in battaglia e quella di uno dei miei fratelli caduto in un precipizio io non mi addirai che ella prendesse tale pretesto per nascondere la vera causa del suo dolore e pensai che non sospettava che fossi stato io il feritore del suo amante signora le dissi anziché piacimare il vostro dolore vi assicuro di esserne anche io a parte sarei piuttosto meravigliato se foste insensibili a tanta perdita piangete le vostre lacrime sono segni infallibili del vostro eccellente carattere spero intanto che il tempo e la ragione potranno moderare il vostro dolore e là si ritirò nel suo appartamento dove si abbandonò interamente alle sue smanie passò un intero anno a piangere e a lamentarsi terminato questo tempo mi domandò il permesso di far fabbricare il luogo della sua sepoltura nel recinto del palazzo dove diceva voler dimorare fino all'ultimo soggiorno io gli ero permisi ed ella fece fabbricare in un sepolcro a forma di cupola con una cupola che può vedersi di qui e lo chiamò il palazzo delle lacrime quando fu terminato vi fece portare il suo amante che la medesima notte in cui lo aveva ferito era stato trasportato in un luogo conveniente e l'aveva impedito che gli morisse sino ad allora con bevande che gli faceva prendere continuando a dargliene oggi ancora al palazzo delle lacrime peraltro con tutti questi incantesimi ella non poteva guarire quello sciagurato il quale non solo è impotente a camminare a sostenersi ma ha anche perduto l'uso della parola e non dà alcun segno di vita se si eccettua con lo sguardo quantunque la regina avesse la sola consolazione di vederlo e di dirgli quanto il suo folle amore poteva ispirare di più appassionato non lasciava di fargli due lunghe visite al giorno io sapevo tutto ciò ma fingevo di ignorarlo un giorno andai per curiosità al palazzo delle lacrime per sapere quale fosse l'occupazione di quella principessa e da un luogo dove non potevo essere veduto la intesi parlare in questi termini al suo amante io sono nella più grande afflizione vedendovi in questo stato io non sento meno vivi di voi i cocenti mali che soffrite ma vi parlo sempre anima cara e voi non rispondete fino a quando starete in silenzio ditemi una sola parola i più dolci momenti della mia vita sono quelli che io passo qui a dividere le vostre pene io non posso vivere lontano da voi e preferirai all'impero dell'universo il piacere di vedervi sempre a questo discorso che fu interrotto più di una volta da sospiri e singhiozzi perdetti alla fine la pazienza mi mostrai e avvicinandomi a lei e dissi signora basta il pianto è tempo di porre fine a un dolore che disonora ambe due è troppo dimenticare quanto dovete a me e a voi sire mi rispose se vi resta qualche riguardo o piuttosto qualche compiacenza per me vi supplico di non disturbarmi lasciate che mi abbandoni alle mie pene mortali è impossibile che il tempo le diminuisca quando vidi che i miei discorsi invece di farla rientrare nel dovere irritavano il suo furore cessai di parlarne e mi ritirai essa continuò a visitare tutti i giorni il suo amante e per due anni interi non fece che disperarsi andai una seconda volta al palazzo delle lacrime quando essa vi era ed essendomi nascosta di nuovo intesi che diceva al suo amante sono tre anni che non mi avete detto una sola parola e non rispondete nulla alle prove d'amore che io vi do con i miei discorsi e con i miei gemiti è per poco sentire o per disprezzo oh tomba avrai tu distrutto quell'eccesso di tenerezza che egli aveva per me avrai tu chiuso quegli occhi che mi mostravano tanto amore e formavano tutta la mia gioia no no io non credo dimmi piuttosto per quale miracolo sei divenuta la depositaria del più raro tesoro della terra vi confesso signore che di tali parole perché infine questo amante adorato non era che un moro indiano originario di questo paese io fui talmente indignato che mi scoprì bruscamente e apostrofando a mia volta la medesima tomba esclamai oh tomba perché non inghiotti tu questo mostro che fa orrore alla natura o piuttosto perché non consumi tu i due amanti non appena ebbi terminato tali parole la regina che era seduta vicino al moro si alzò come una furia ah crudele mi disse sei tu la causa del mio dolore non pensare che io lo ignori io l'ho abbastanza dissimulato fu la tua barbara mano che pose in questo stato dolente l'oggetto dell'amor mio e tu hai la crudeltà di venire a insultare un amante disperata sì son io la interruppi trasportato dalla collera son io che castigai questo mostro come ben lo meritava mi avrei dovuto trattare voi nello stesso modo mi vento di non averlo fatto ed è molto tempo che voi abusate della mia bontà dicendo ciò snudai la sciabola e alzai il braccio per punirla ma essa guardando tranquillamente la mia mossa per virtù dei miei incantesimi ti comando di diventare subito metà marmo e metà uomo all'istante o signore io divenne come mi vedete vivo tra i morti e morto tra i vivi dopo che la crudele maga il re proseguì a dire indegna di portare il nome di regina mi ebbe così trasformato e fatto passare in questa sala per un altro incantesimo distrusse la mia capitale che era molto popolata e florida e nientò le case le piazze pubbliche e i mercati e ne fece lo stagno e le campagne deserte che avete veduto i pesci dai quattro colori che sono nello stagno sono le quattro specie di abitanti di differenti regioni che la componevano i bianchi erano i musulmani i rossi i persiani adoratori del fuoco i turchini i cristiani e i gialli gli ebrei le quattro colline erano le quattro isole che davano il nome a questo regno appresi ciò dalla maga che per colmo di afflizione mi palesò questi effetti sulla sua rabbia né ciò è tutto essa non arrestò il suo furore alla mia metamorfosi viene ancora ogni giorno a darmi sulle spalle nude cento colpi di narbo di bue che mi fanno scorrere il sangue terminato tale supplizio mi copre di una grossa stoffa di pelo di capra e mi mette addosso questa veste di broccato non per farmi onore ma per farsi beffa di me a questo punto il giovane re delle isole nere proruppe in un dirotto pianto e il sultano ne ebbe il cuore così addolorato che non pote pronunziare una parola per consolarlo poco dopo il giovane re alzando gli occhi al cielo esclamò possente creatore di tutte le cose io mi sottometto ai vostri giudizi e ai decreti della vostra provvidenza io soffro pazientemente tutti i miei mali perché questa è la vostra volontà ma spero che la vostra bontà infinita me ne compensi il sultano intenerito dal racconto di una storia così strana e animato a vendicare questo principe sventurato gli disse insegnatemi dove sta questa perfida maga e dove può essere questo indegno amante seppellito prima della sua morte signore rispose il principe l'amante come dissi si trova al palazzo delle lacrime in un sepolcro a forma di cupola tale palazzo comunica con il castello dal lato della porta per ciò che riguarda la maga non so dirvi precisamente ove si ritiri ma ogni giorno al levare del sole va a visitare il suo amante dopo aver fatto su di me la sanguinosa esecuzione di cui vi ho parlato e io come potete giudicare non posso difendermi da tanta crudeltà essa gli porta la bevanda che è il solo alimento con il quale gli ha impedito finora di morire e non cessa di fargli delle lagnanze per il silenzio che ha tenuto dopo la ferita principe che non si può compiangere abbastanza replicò il sultano non si potrebbe essere più commosso dalla vostra sventura di quel che lo sono io a nessuno è accaduta una cosa tanto straordinaria e chi scriverà la vostra storia avrà il vantaggio di trattare un fatto che supera quanto si è scritto di più sorprendente manca solo una cosa la vostra vendetta e io non dimenticherò di procurarvela infatti il sultano intrattenendosi con un giovane principe dopo avergli manifestato chi era e perché era entrato nel castello gli svelò di aver immaginato un espediente per vendicarlo convennero sulle pratiche da farsi e l'esecuzione fu differita al giorno appresso intanto essendosi fatta notte fonda il sultano si riposò il giovane principe come di consueto la passò in una veglia continua perché nel suo stato non poteva dormire ma ebbe qualche speranza di essere liberato dai suoi patimenti e domani il sultano si levò e per cominciare l'esecuzione del suo disegno andò al palazzo delle lacrime lo trovò illuminato da un'infinità di torce di cera bianca ed intese un odore delizioso che usciva da molte urne d'oro fino di fattura ammirabile tutte messe in bell'ordine come vide il letto dove era nascosto il moro impugnò la sua sciabola e tolse senza resistenza la vita a quel miserabile ne trascinò il corpo nella corte del castello e lo gettò in un pozzo dopo questa operazione andò a curicarsi nel letto del moro pose vicino a sé la sciabola sotto la coltre e aspettò la maga giunse quasi subito prima a sua cura fu di andare nella camera ov'era il re delle isole nere suo marito lo spogliò e cominciò a dargli sulle spalle cento colpi di nerbo di bue con una barbarie senza esempio voi non avete avuto pietà del mio amante e non dovete attenderne da me dopo che la maga ebbe dato cento colpi di nerbo al re suo marito andò al palazzo delle lacrime ed entrandovi rinnovò i suoi pianti i gridi i lamenti si appressò al letto dove credeva che fosse ancora l'amante ed esclamò qual crudeltà di aver turbato così i piacere di un amante così tenera così appassionata come sono io e tu mi rimproveri di essere troppo inumana quando ti faccio sentire gli effetti del mio risentimento crudele principe la tua barbarie non ha sorpassato quella della mia vendetta ah traditore attentando alla vita dell'uomo che adoro non mi avete rapito la mia poi volgendo la parola al sultano credendo di parlare al moro aggiunse ah mio sole mia vita tuttavia osservate il silenzio siete voi risoluto di lasciarmi morire senza darmi neppure la consolazione di dirmi che mi amate anima mia ditemi almeno una parola ve ne scongiuro allora il sultano fingendo di uscire da un profondo sonno e contraffacendo il linguaggio moresco rispose con tono grave non vi è forza né potere che in dio solo che è onnipotente a queste parole che non si aspettava la maga mise un grido per mostrare l'eccesso della sua gioia ed esclamò mio caro signore non mi inganno io è vero che voi parlate e che io vi ascolto sciagurata disse il sultano siete voi degna che io risponda ai vostri discorsi e perché mi avete fatto voi questi rimproveri replicò la regina i gridi rispose egli i lamenti e gemiti di vostro marito che trattate sempre con tanta indegnità mi impediscono di dormire notte e giorno da gran tempo sarei guarito ne avrei recuperata la parola se gli aveste tolto l'incantesimo ecco la ragione del mio silenzio di cui vi lamentate ebbene disse la maga per calmarvi e appagarvi sono pronta a fare quanto comanderete voi volete voi che lo restituisca alle sue vere fattezze sì rispose il sultano e metterlo in libertà affinché io non sia più disturbato dai suoi gridi la maga uscì subito dal palazzo delle lacrime prese una tazza d'acqua e vi pronunciò sopra delle parole che la fecero bollire come se fosse stata al fuoco andò alla sala in cui era il giovane principe suo marito e su lui gettò quell'acqua dicendo se il creatore di tutte le cose ti ha voluto come sai adesso o sei in collera contro di te non mutarti ma se tu sei in questo stato in virtù dei miei incantesimi riprendi le tue fattezze naturali e ritorna come eri prima appena ebbe terminato queste parole il principe si ritrovò nel suo stato di una volta si alzò liberamente con tutta la gioia che può immaginarsi e ne rese grazie a dio la maga gli disse va allontanati da questo castello e non tornarvi mai più o ti costerà la vita il giovane re cedendo alla necessità si allontanò senza replicare e si ritirò in un luogo appartato dove aspettò con impazienza il sultano intanto la maga tornò al palazzo delle lacrime ed entrando poiché ella credeva di parlare al moro gli disse caro amante ho fatto quanto mi avete ordinato nulla ora vi impedisce di levarvi su e darmi la soddisfazione di cui sono priva da così lungo tempo il sultano continuando a contraffare il linguaggio del moro gli rispose in tono severo ciò che hai fatto non basta a guarirmi hai tolto solo una parte del male bisogna sollevarlo alla radice mio grazioso moretto aggiunse ella che intendete dire per radice sciagurata disse il sultano non capite che io intendo parlare di questa città di questi abitanti e delle quattro isole che avete distrutto con i vostri incantesimi tutti i giorni a mezzanotte i pesci non mancano di levare la testa fuori dello stagno e gridare vendetta contro di me e contro voi ecco la vera causa del ritardo della mia guarigione andate subito a ristabilire le cose nel loro stato di prima e al vostro ritorno vi darò la mano e voi mi aiuterete a levarmi la maga piena della speranza che le fecero concepire tali parole gridò trasportata dalla gioia cuor mio anima mia voi recupererete subito la vostra salute perché vado a eseguire i vostri comandi in vero ella partì sul momento e come fu sulle rive dello stagno presa un po' d'acqua in mano fece al di sopra una spersione e dopo aver profferito alcune parole sui pesci e sullo stagno la città riapparve all'istante i pesci tornarono uomini femmine e fanciulle e maomettani cristiani persiani ebrei liberi o schiavi ciascuno prese la forma sua naturale le case e le botteghe furono riempite dei loro abitanti il seguito numeroso del sultano che si trovò accampato nella gran piazza fu molto meravigliato di vedersi in un istante in mezzo a una città bella vasta e ben popolata quanto alla maga poiché ebbe fatto questo meraviglioso cambiamento andò immediatamente al palazzo delle lacrime per coglierne il frutto mio caro signore gridò e se entrando vengo a rallegrarmi con voi del ritorno della vostra salute ho fatto quanto richiedeste da me levatevi dunque e datemi la mano avvicinatevi le disse il sultano contraffacendo sempre il linguaggio dei mori e la s'approssimò è poco e gli riprese avvicinatevi di più e si obbedì allora levatosi la prese per il braccio così rapidamente che ella non ebbe il tempo di ricomporsi e con un colpo di sciabola fendette il corpo di lei in due parti che caddero da parti opposte fatto ciò lasciò quel cadavere sul pavimento e uscendo dal palazzo delle lacrime andò a trovare il giovane re delle isole nere che lo aspettava con impazienza principe gli disse abbrazzandolo gioite non avete più nulla da temere la vostra crudele nemica non è più il giovane principe ringraziò il sultano e per compenso di avergli reso un favore così grande gli augurò una lunga vita con ogni prosperità voi potete d'ora innanzi gli disse il sultano restare pacifico nella vostra capitale salvo che non vogliate venire nella mia che è vicina io vi riceverò con piacere e sarete onorato e rispettato come in casa vostra potente monarca a cui sono tanto obbligato rispose il re voi credete dunque di essere molto vicino alla vostra capitale sì lo credo rispose il sultano non vi sono che quattro o cinque ore di cammino ne ha un anno intero di viaggio riprese il giovane principe voglio credere che voi siate venuto qui dalla capitale nel breve tempo che voi dite ma ora le cose sono tutte mutate ciò non mi impedirà di seguirvi fosse anche in capo al mondo voi siete il mio liberatore e per darvi durante tutta la mia vita delle prove di riconoscenza intendo accompagnarvi e abbandono senza dispiacere il mio regno il sultano sentendo di essere così lontano dal suo regno fu immensamente meravigliato non comprendendo come ciò fosse potuto avvenire ma il giovane re delle isole nere lo convinse di questa impossibilità di modo che egli non ne dubita più non importa riprese allora il sultano la pena di tornare nel mio stato è sufficientemente compensata dalla soddisfazione di avervi giovato e di avere in voi acquistato un figlio poiché volete fare l'onore di accompagnarmi non avendo io figli vi terrò come tale e fin d'ora vi faccio mio erede e successore la conversazione del sultano e del re delle isole nere terminò con i più teneri abbracci dopodiché il giovane principe non pensò che ai preparativi del suo viaggio egli si sbrigò in tre settimane con grandi spiacere di tutta la sua corte e dei sudditi ai quali diede come re ai quali diede come re un suo prossimo parente infine il sultano e il giovane principe si posero in viaggio con cento cammelli carichi di ricchezze inestimabili tratte dai tesori del re e si fece seguire da cinquante cavalieri tutti ben montati ed equipaggiati il viaggio fu felice e quando il sultano il quale aveva spedito corrieri per dare avviso del suo ritorno e dell'avventura che ne era stata la causa fu presso la sua capitale i primi ufficiali lasciatevi gli vennero incontro e lo assicurarono non aver la sua lunga assenza prodotto alcuna novità nell'impero gli abitanti uscirono in folla e lo ricevettero con grandi acclamazioni e fecero feste durate più giorni dopo il suo arrivo il sultano fece a tutti i suoi cortisani radunati una larga narrazione delle cose che avevano reso la sua assenza tanto lunga diccherò in seguito l'adozione fatta del re delle isole nere il quale aveva voluto abbandonare un regno per accompagnarlo e vivere con lui infine per premiare la fedeltà asserbatagli fece delle elargizioni proporzionate al grado di ciascuno di loro quanto al pescatore siccome egli era la prima causa della liberazione del giovane principe il sultano lo colmò di beni e rese lui e la sua famiglia felicissimi per il resto dei loro giorni storia del facchino di bagdad sire cominciò sharazad rivolgendosi al sultano sotto il regno di califo harun al raschid viveva a bagdad un facchino che malgrado il suo faticoso mestiere era un uomo spiritoso ed allegro un bel mattino mentre si trovava come al solito con una grande cesta in piazza aspettando che qualcuno avesse bisogno dei suoi servizi una signora di bell'aspetto coperta con un gran velo di mussola gli si avvicinò e gli disse con grazia su facchino prendi la tua cesta e seguimi il facchino meravigliato dalle parole pronunciate così dolcemente prese subito la cesta la cesta se la mise in capo e seguì la donna dicendo o giorno fortunato o incontro felice da prima la donna si fermò davanti a una porta e bussò un cristiano dalla venerabile barba lunga e bianca aprì ed egli mise del denaro nelle mani senza dirgli parola ma il cristiano che sapeva ciò che lei voleva rientrò e poco dopo portò una grossa brocca di vino eccellente prendi questa brocca disse la signora al facchino e mettila nella tua cesta fatto ciò gli comandò di seguirla e il facchino ubbidì continuando a ripetere o giorno fortunato o incontro felice la signora si fermò nella bottega di un venditore di frutta e di fiori scelse mele albicocche pesche cotogne limoni cedri aranci mirto basilico gelsomini e ogni quantità di fiori e di piante profumate e disse al facchino di metter tutto nella cesta e di seguirla passando davanti alla bottega di un macellaio si fece pesare venticinque libri della carne più bella che avesse e il facchino per il suo ordine la pose nella cesta e in un'altra bottega prese dei capperi della serpentaria dei cetriolini della sassifraga e altre erbe sott'aceto e in un'altra pistacchi mandorle noci nocciole pinoli e altri frutti simili e in un'altra ancora comprò ogni sorta di pasta di mandorle e facchino mettendo tutte queste cose nella sua cesta e osservando che si riempiva disse bisognava avvertirmi che avreste fatto tante provviste gentile signora avrei preso un cavallo o meglio un cammello per portarle se comprerete altro non ce la farò più a portare tutto la signora risa di questo scherzo e gli ordinò nuovamente di seguirla entrò da un droghiero e comprò ogni sorta di profumi dei chiodi di carofano della noce moscata del pepe grossi pezzi d'ambra grigia e molte altre spezie delle indie tutti questi acquisti finirono di riempire la cesta del facchino e lei gli disse ancora di seguirla camminarono fino a che giunsero a una villa magnifica la cui facciata era ornata di belle colonne e che aveva una porta d'avorio si fermarono e la signora bussò leggermente mentre la giovane signora aspettava che aprissero la porta della villa il facchino faceva molte riflessioni era meravigliato che una signora come quella facesse da sé le provviste perché vedendole un aspetto così nobile aveva intuito che non era una schiava ma anzi una persona di riguardo e avrebbe fatto volentieri delle domande per scoprire chi fosse ma mentre si disponeva a parlare vede un'altra donna venuta ad aprire la porta così bella che ne rimase attonito fu così colpito dallo splendore della sua grazia che poco mancò non lasciasse cadere la cesta con tutto quello che vi si trovava perché non aveva mai visto una bellezza simile la signora che aveva ingaggiato il facchino si accorse dell'emozione di lui e ne indovinò la causa godette della scoperta e si divertì a esaminare il contegno del facchino senza pensare che la porta era aperta entra dunque sorella le disse la bella portinaia non vedi che questo pover' uomo è così carico che non ne può più come fu entrata quel facchino la signora che aveva aperto l'uscio lo rinchiuse e tutti e tre dopo aver attraversato un bel vestibolo passarono in un cortile spaziosissimo circondato da una loggia che metteva in molti magnifici appartamenti a pian terreno c'era nel fondo di questo cortile un sofà riccamente ornato e nel mezzo un trono di ambra sostenuto da quattro colonne d'ebano incrostate di diamanti e di perle di una grossezza straordinaria e ornate di raso rosso con un ricamo d'oro delle indie di meravigliosa fattura nel centro del cortile si era una gran fontana di marmo bianco la cui acqua chiarissima zampillava da una bocca di leone di bronzo dorato il facchino pur essendo molto carico non tralasciava di ammirare le bellezze che lo circondavano la sua attenzione fu soprattutto attirata da una terza signora che stava seduta sul trono non appena vide le due altre il signore si alzò per andare loro incontro il facchino notando i riguardi che le altre avevano per lei pensò che fosse la più importante non si ingannava questa signora si chiamava zobeida quella che aveva aperto la porta si chiamava sofia e quella che aveva fatte le provviste zobeida disse alle due donne avvicinandosi sorelle mie non vedete che questo buon uomo è stanco del fardello che porta allora amina e sofia presero la cesta una per parte zobeida dette anche lei una mano e tutte e tre la posarono a terra cominciarono a vuotarla e ciò fatto la graziosa amina prese del denaro e pagò il facchino con generosità il facchino molto soddisfatto del denaro avuto avrebbe dovuto prendersi la cesta e ritirarsi ma non poter risolversi a farlo sentendosi trattenuto dal piacere di ammirare tre bellezze così rare che gli parevano ugualmente incantevoli infatti a mina si era tolta il velo e ora non gli sembrava meno bella delle altre egli non poteva capire come mai là dentro non si vedesse nessuno mentre la maggior parte delle provviste portate come la frutta secca e le differenti specie di dolciumi facevano pensare a gente che volesse bere e divertirsi so beida credete da prima che il facchino si fosse fermato per prender fiato la vedendo che non se ne andava disse che aspetti non sei stato pagato a sufficienza aggiunse e volgendosi ad amina dateli ancora qualcosa perché se ne vada contento signora rispose il facchino non è questo che mi trattiene sono stato pagato fin troppo per la mia fatica vedo bene che ho commesso una indelicatezza rimanendo qui più del dovuto ma spero che avrete la bontà di perdonare la sorpresa che mi provoca il fatto di non vedere alcun uomo in compagnia di tre donne di una bellezza così poco comune una compagnia di donne senza uomini è triste quanto una compagnia di uomini senza donne a questo discorso aggiunse molte cose piacevoli per provare quello che asseriva non dimenticò di citare il proverbio di bagdad che non si sta bene a tavola se non si è in quattro e concluse dicendo che essendo in tre avevano bisogno del quarto le donne risero del ragionamento del facchino e Zobeda gli disse seriamente amico sei un po' troppo indiscreto ma benché non ti meriti alcuna spiegazione ti dirò che noi siamo tre sorelle e che facciamo così segretamente i fatti nostri che nessuno ne sa nulla abbiamo timore di farne parte agli indiscreti ed un buon autore da noi letto dice tieni il tuo segreto e non dirlo ad alcuno perché chi lo rivela non è più il padrone se tu non puoi mantenere il tuo segreto come potrà mantenerlo quello cui l'avrai confidato signore mie rispose il facchino avevo giudicato dal vostro contegno che eravate persone di rarissimo merito e ora mi accorgo che non mi sono ingannato quantunque la fortuna non mi abbia dato ingegno per elevarmi ad una professione al di sopra della mia non ho mancato di coltivarmi lo spirito per quanto ho potuto con la lettura di libri di scienza e di storia e mi permetterete di dirvi che ho letto in un altro autore una massima che ho sempre praticata con successo ed è questa nascondi il tuo segreto alla gente indiscreta che abuserebbe della tua fiducia ma non temere di rivelarlo a chi è saggio perché saprà mantenerlo il segreto in me è tanto sicuro come se fossi chiuso in una stanza la cui chiave fosse perduta e la porta sigillata Zabeda riconobbe che non mancava di spirito ma pensando che avesse desiderio di partecipare al divertimento che volevano pigliarsi gli ripete sorridendo tu sai che ci prepariamo a divertirci ma sai anche che abbiamo fatto una spesa considerevole e non è giusto che vi partecipi senza contribuirvi la bella sofia appoggiò il suggerimento della sorella e disse al facchino amico non sai ciò che si dice comunemente se porti qualche cosa sarai qualche cosa tra noi se non porti niente ritirati con niente il facchino malgrado la sua parlantina sarebbe forse stato obbligato a ritirarsi confuso se Amina prendendo caldamente la sua difesa non avesse detto a Zobeda e a Sofia mia care sorelle vi scongiuro di permettergli di restare con noi non c'è bisogno di dirvi che ci divertirà vi assicuro che senza la sua cortesia la sua sveltezza e il suo coraggio non avrei potuto fare tante compere in così poco tempo peraltro se vi ripetessi tutte le cose divertenti che mi ha dette in cammino non sareste meravigliate della mia difesa a queste parole di Amina il facchino trasportato dalla gioia si lasciò cadere in ginocchio e baciò la terra ai piedi di quella graziosa signora e rialzando si disse amabile signora quest'oggi grazie a voi è cominciata la mia felicità e ora generosamente la colmate non posso esprimervi a sufficienza la mia riconoscenza evolgendosi alle tre sorelle soggiunse nel resto signore mie se che mi fate grande onore non temete che ne abusi e mi consideri come un uomo che lo merita no io mi considererò sempre come il più umile dei vostri schiavi terminando queste parole voleva restituire il denaro ricevuto ma Zobeida gli ordinò di tenerlo ciò che è uscito dalle nostre mani disse per compensare quelli che ci hanno reso dei favori non vi ritornerà più Zobeida dunque non volle riprendere il denaro del facchino e invece gli disse amico mio accettando di tenerti con noi ti avverto che pretendiamo non solo che servi il segreto ma soprattutto che osservi esattamente le regole della cortesia mentre teneva questo discorso la vezzosa Nina lasciato il suo abito di città rialzò le veste per muoversi con più libertà e preparare la tavola apparecchiò molte specie di vivande e sopra una credenza pose delle bottiglie di vino e delle tazze d'oro fatto ciò le donne si sedettero e fecero sedere accanto a loro il facchino soddisfatto al di là di quanto si possa dire nel vedersi a tavola con tre donne una bellezza straordinaria dopo i primi bocconi Amina che si era sistemata vicino alla credenza preso una bottiglia una tazza e si mise a mescere e beve per prima secondo il costume degli arabi versò in seguito alle sorelle che bevero una dopo l'altra poi riempiendo per la quarta volta la stessa tazza la presentò il facchino che ricevendola baciò la mano di Amina e cantò prima di bere una canzone che diceva che come il vento porta con sé il buon odore dei luoghi profumati per cui è passato così il vino che stava per bere venendo dalle mani di lei riceveva un gusto più squisito di quello che aveva naturalmente questa canzone rallegrò le signore ti cantarono a loro volta insomma la compagnia fu lietissima durante il pasto che durò molto tempo e fu accompagnato da tutto ciò che poteva renderlo piacevole il giorno finiva quando Sofia parlando in nome di tutte e tre disse al facchino alzati ora e vattene perché è ora che ti ritiri il facchino non potendo risolversi a lasciarle rispose care signore dove volete che vada nello stato in cui sono sono fuori di me a forza di bere e di vedervi non troverò certo la via di casa lasciatemi una notte per rimettermi la passerò dove vorrete ma non posso in minor tempo ritornare allo stato in cui ero quando sono entrato qui e dubito malgrado ciò di lasciarvi la parte migliore di me Amina prese una seconda volta la parte del facchino e disse sorelle ha ragione mi sono molto grata della domanda che ci fa egli ci ha divertite se volete credermi o piuttosto se mi amate quanto ne sono persuasa lasciamo che passi la sera con noi sorella disse Tobaida non possiamo rifiutare nulla alla tua preghiera e rivolgendosi al facchino disse vogliamo farti questa grazia ma poniamo una nuova condizione qualunque cosa faremo in tua presenza guardati bene dall'aprire la bocca per domandarne la ragione poiché facendoci domande su cose che non ti riguardano per nulla potresti sapere cose che non ti piacerebbero guardati dall'essere troppo curioso volendo approfondire i motivi delle nostre azioni signore riprese il facchino vi prometto di osservare esattamente queste condizioni di non darvi motivo di rimproverarmi e di punirmi se sarò indiscreto la mia lingua in questa occasione sarà immobile e i miei occhi saranno come uno specchio che non ritiene nulla delle immagini ricevute per mostrarvi rispose Tobaida molto seriamente che non è una novità ciò che ti domandiamo alzati e va a leggere ciò che sta scritto al di sopra della nostra porta inferiore il facchino andò fin là e lesse queste parole scritte a caratteri d'oro chi parla di cose che non lo riguardano sente ciò che non gli piace ritornò presso le tre sorelle e disse loro signore mia vi giuro che non sentirete parlare di cose che non mi riguardano e in cui possiate essere interessate terminata questa conversazione Amina portò la cena e quando ebbe rischiarato la sala con molti lumi di legno d'aloe e ambra grigia che spargevano un odore piacevole e insieme illuminavano benissimo si sedette a tavola con le sorelle e il facchino cominciarono a mangiare a bere a cantare e a recitar versi le signore si divertivano a ubriacare il facchino con pretesto di farlo bere alla loro salute le buone parole non furono risparmiate insomma erano allegrissime quando sentirono picchiare alla porta le dame sentendo bussare si alzarono tutte a un tempo per andare ad aprire ma Sofia che era addetta particolarmente a questo fu la più rapida le altre vedendosi prevenute aspettarono per sapere chi potesse venire così tardi Sofia tornò e disse sorelle si offre un'occasione di passare lietamente gran parte della notte e se siete del mio parere non ce la lasceremo sfuggire vi sono alla nostra porta tre monaci o almeno all'abito sembrano tali ma ciò che di certo vi sorprenderà è che tutti e tre sono ciechi dell'occhio destro e hanno la testa rasata e ugualmente la barba e le sopracciglia dicono di essere giunti orora a Bagdad dove non sono mai venuti e siccome per la notte non sanno dove alloggiare hanno bussato a caso alla nostra porta e ci pregano per l'amor di Dio di avere carità di riceverli si contentano di una scuderia sono giovani sentili sembra che abbiano molto spirito ma non possono pensare senza ridere alla loro figura ridicola qui Sofia si interruppe con uno scroscio di risa tale che le sorelle e il facchino non poterono fare a meno di fare lo stesso sorelle riprese vogliamo farli entrare ci divertiranno senza nostro incomodo perché chiedono il ricovero per questa sola notte avendo intenzione di lasciarci appena fatto giorno Zobeida e Damina opposero delle difficoltà alla richiesta di Sofia e lei ne sapeva bene il perché ma mostrò tanto desiderio di ottenere questo favore che le altre non poterono rifiutarglielo va dunque disse Zobeida e fagli entrare ma avverti di non parlare di ciò che non li riguarda e fa che leggono quanto sta scritto sulla porta allora Sofia corse lieta ad aprire e poi tornò con i tre monaci essi entrando si inchinarono profondamente alle dame che saranno alzate per riceverli e dar loro il benvenuto e che dichiararono di essere contente di avere occasione di render loro servigio e di ristorarli della fatica del viaggio alla fine li invitarono a sedersi vicino a loro la magnificenza del luogo e la gentilezza delle dame diedero ai monaci un grande concetto delle loro ospiti ma prima di sedersi avendo per caso guardato il facchino e vedendolo vestito pressapoco come un altro ordine di monaci dai quali differivano in molti punti di disciplina e che non si radevano la barba e le sopracciglia uno di loro disse ecco in apparenza uno dei nostri fratelli arabi riformati il facchino che aveva la testa scaldata dal vino si credette offeso da queste parole e senza muoversi rispose ai monaci guardandoli fissamente sedetevi e non vi mischiate in ciò che non vi riguarda non avete letto l'iscrizione che è sulla porta non pretendete che tutti vivano secondo il vostro costume vivete piuttosto voi secondo il nostro buon uomo riprese il monaco che aveva parlato saremmo dolenti di avervene dato il motivo e siamo pronti a ricevere i vostri ordini la disputa avrebbe potuto continuare ma le signore frapponendosi misero pace quando i monaci furono seduti a tavola le signore offrirono loro da mangiare e la graziosa Sofia si prese la cura particolare di versare da bere dopo che ebbero bevuto e mangiato a volontà ci offersero di fare un concerto se avevano strumenti e volevano farli portare liete le signore accettarono e la bella Sofia si alzò per andarli a cercare tornò subito e presentò loro un flauto del paese un altro persiano e un tamburo basco ogni monaco ricevette uno strumento e cominciarono tutti e tre a suonare un'aria le donne che sapevano le parole di quell'aria dolcissima l'accompagnarono con la voce ma di tratto in tratto si interrompevano con grandi scoppi di risa per il significato di quelle parole sul più bello del divertimento quando la compagnia era nella massima gioia bussarono alla porta Sofia cessò di cantare e andò a vedere chi fosse a questo punto sarà bene dire come mai qualcuno bussasse così tardi alla porta di quelle signore la ragione è questa il califo Harun al-Rashid usava andare in giro in incognito la notte per sapere se tutto fosse tranquillo nella città se vi si commettessero disordini in quella notte era uscito di buon ora accompagnato da Jaafar suo gran visir e da Marsur capo degli unuchi di palazzo tutti e tre travestiti da mercanti passando per la strada dove sorgeva la villa delle tre donne il principe udendo il suono degli strumenti e delle voci e gli scroci di risa disse al visir bussate a quella casa ove si fa tanto rumore voglio entrare per saperne la causa invano il visir gli disse che quelle erano donne che si divertivano e che il vino aveva probabilmente scaldata loro la testa e che non doveva esporsi a un insulto e che non era quella loro opportuna e che non conveniva turbare il loro divertimento non importa rispose il califo vi ordino di bussare Jaafar obbedì Sofia aprì e il visir osservando alla luce della candela che era una donna bellissima sostenne molto bene la sua parte e fece una profonda riverenza e le disse rispettosamente signora arrivati da circa dieci giorni con ricche mercanzie abbiamo un magazzino dentro un albergo dove siamo alloggiati siamo stati oggi da un mercante di questa città il quale ci ha invitati cortesemente a far colazione messi in allegria dal vino generoso il padrone ha fatto venire un drappello di danzatrici a rasanotte e mentre si suonavano gli strumenti le danzatrici ballavano e la compagnia faceva un gran fracasso passò la guardia e comandò di aprire la porta alcuni della brigata furono arrestati ma noi per fortuna ci salvammo scavalcando un muro ma soggiunse il visire siccome siamo stranieri e un poco ubriachi temiamo di incontrare un'altra squadra di guardie o la stessa prima di arrivare al nostro clan che è lontano da qui inoltre vi andremmo inutilmente perché la porta è ormai chiusa fino a domattina poiché passando abbiamo udito voci e strumenti abbiamo giudicato che in casa vostra non si riposasse ancora ma ci siamo presi la libertà di bussare per pregare di darci ricovero fino a giorno se vi sembra che siamo degni di far parte del vostro divertimento procureremo di contribuire per quanto è in noi e di riparare all'interruzione che vi abbiamo cagionato se no fateci la grazia di lasciarci trascorrere la notte al coperto sotto il vostro atrio durante il discorso di Giaafar la bella Sofia ebbe il tempo di esaminare colui che parlava e le due persone che diceva mercanti come lui e giudicando dalla fisionomia che non erano persone volgari disse loro che non era la padrona ma che se volevano aspettare un momento sarebbe tornata a portare la risposta Sofia andò a fare questo rapporto alle sorelle che esitarono alquanto sul partito da prendere ma essendo gentili per natura e avendo già fatto la stessa grazia ai monaci risolvettero di farli entrare il califfo il suo gran visir e il capo dei suoi eunuchi introdotti dalla bella Sofia salutarono le damme e i monaci molto cortesemente le damme corrisposero ugualmente credendo agli mercanti e Zobeida che era la maggiore disse loro con tono grave e serio come le si conveniva siate i benvenuti ma prima di tutto non abbiatevene a male se vi domandiamo un favore dite pure rispose il visir si può forse rifiutare qualche cosa del signore così belle vi chiedo disse Zobeida di avere occhi e non lingua di non farci domande su quello che vedrete e di non parlare di ciò che non vi riguarda per evitare di sentire quello che non può esservi gradito sarete obbedita signora riprese il visir noi non siamo censori né curiosi indiscreti abbiamo abbastanza da pensare a ciò che ci riguarda per non curarci d'altro a tali parole ciascuno si sedette la conversazione proseguì e si cominciò a bere in onore dei nuovi venuti mentre il visir già a far intratteneva le dame il califo non si stancava ad ammirarne la bellezza straordinaria la buona grazia il buon umore e lo spirito l'altra parte nulla gli sembrava più singolare dei monaci tutti a traccechi dall'occhio destro e ben volentieri si sarebbe informato di quella singolarità se la condizione imposta a lui e ai suoi compagni non gli avesse impedito di fare domande ad onta di questo però osservando la ricchezza delle masserizie e la bellezza della casa non poteva persuadersi che non vi fosse qualche incantesimo in quel luogo la conversazione essendo caduta sui divertimenti e sui diversi generi di divertimenti i monaci si alzarono e ballarono una danza che accrebbe nelle dame il buon concetto che avevano di loro e che attirò la stima del califo e della sua compagnia terminata la danza Zobeda si alzò e prendendo Amina per la mano le disse sorella alzati alla brigata non dispiacerà se non cambiamo le nostre abitudini e la loro presenza non sopporrà a ciò che siamo solite fare Amina che comprese ciò che voleva dire sua sorella si alzò e tolse i piatti la tavola le bottiglie le tazze e gli strumenti suonati dai monaci Sofia non stette senza far nulla spazzò la sala rimise a posto ogni cosa smoccolò i lumi rimise altro legno d'aloe e altra ambra grigia ciò fatto pregò i tre monaci di sedersi sul sofà da un lato e il califo dall'altro coi suoi compagni al facchino disse alzati e preparati a darci un aiuto in quel che faremo un uomo di casa come sei ormai non deve starsene inoperoso il facchino avendo già alquanto smaltito il suo vino si alzò subito e dopo essersi attaccato alla cintura il lembo della veste disse eccomi pronto di che si tratta bene rispose sofia aspetta che ti si parli non starai molto con le brazza incrociate poco dopo si vide comparire a mina con un sedile che posò in mezzo alla sala andò poi alla porta di un salottino e aperta la fece segno al facchino di appressarsi e gli disse vieni ad aiutarmi lui obbedì ed essendo entrato con lei uscì un momento dopo seguito da due cagne nere col guinzaglio attaccato a una catena che lui teneva parevano trattate a colpi di frusta lui avanzò fin nel mezzo della sala allora zobeida andò con gravità dove era il facchino ora disse mandando un gran sospiro facciamo il nostro dovere si scoprì le braccia fino al gomito e dopo aver preso una frusta che le presentò sofia disse facchino da una di queste cagne a da mina e avvicinati a me con l'altra il facchino esegui l'ordine e quando fu presso zobeida la cagna cominciò a guaire e si volse a lei alzando la testa in modo supplichevole ma zobeida senza curarsi della cagna che faceva pietà né dei guaiti che riempivano tutta la casa la frustò finché fu stanca poi gettò la frusta per terra allora tolse la catena dalle mani del facchino alzò la cagna per le zampe e guardandosi con aria triste e commovente cominciarono a piangere entrambe finalmente zobeida trasse il fazzoletto asciugò le lacrime della cagna e restituendo la catena al facchino gli disse va riconducila dove l'hai presa e portami l'altra il facchino ricondusse la cagna frustata nel salottino e ritornando prese l'altra nelle mani di amina e la ripresentò a zobeida che l'aspettava tienila come la prima gli disse poi avendo ripigliata la frusta la maltrattò nello stesso modo pianse in seguito con lei asciugò le sue lacrime la baciò e la diede al facchino a cui la graziosa amina risparmiò la pena di riportarla nel salottino perché se ne incaricò personalmente e intanto i tre monaci il califo e la sua compagnia e se ne stavano meravigliati e non potendo comprendere perché zobeida dopo aver frustato con tanta furia le cagne animali immondi secondo la religione musulmana piangesse poi con loro asciugando le loro lacrime e baciandole ne mormoravano fra loro il califo soprattutto più impaziente degli altri moriva dal desiderio di conoscere la ragione di una cosa che gli sembrava molto strana e non cessava di far segno al visir di informarsene ma il visir colgeva da un altro lato la testa ripetendosi i segni del suo signore rispose con altri segni che non era tempo di appagare la sua curiosità zobeida restò per qualche tempo ferma in mezzo alla sala per rimettersi dalla fatica cara sorella le disse sofia non vuoi tornare al tuo posto in modo che io possa svolgere a mia volta il mio compito si rispose zobeida così dicendo andò a sedersi sul sofà aveva alla sua destra il califo giafar e marsur e a sinistra i tre monaci e il facchino zobeida prese il suo posto e tutta la compagnia stette in silenzio infine sofia che era seduta su sedile in mezzo alla sala disse alla sorella amina cara sorella alza ti tenisco un giuro tu capisci ciò che voglio far tu capisci ciò che voglio dire tu capisci ciò che voglio dire amina si alzò e andò in un salottino differente da quello dove erano le cagne tornò tenendo un astuccio guarnito di laso giallo e abbellito di un ricco ricamo d'oro e di seta verde si avvicinò a sofia e aprì l'astuccio donde trasse un liuto e glielo presentò ella lo prese e dopo aver impiegato qualche tempo per accordarlo cominciò a suonarlo accompagnandolo con la sua voce cantò una canzone sui tormenti dell'assenza con tanta dolcezza che il califo e tutti gli altri ne furono incantati quando ebbe terminato siccome aveva cantato con molto sentimento e insieme con molta forza disse alla graziosa amina tieni sorella non ne posso più e mi manca la voce diverti tu la compagnia suonando e cantando in mia vece volentieri rispose amina appressandosi a sofia e le porse il liuto cedendole il posto amina dopo un breve preludio per vedere se lo strumento era accordato suonò e cantò sul medesimo soggetto ma con tanta veemenza poiché era molto agitata anzi penetrata dal senso delle parole che cantava determinandole vennero meno le forze zobeida volle esprimere la sua soddisfazione e le disse sorella sei stata bravissima si vede che senti davvero quello che canti amina non ebbe tempo di rispondere a questa cortesia essa si sentiva il cuore così angustiato che si aprì le vesti per poter respirare meglio lasciando vedere a tutta la compagnia un seno non bianco quale avrebbe dovuto averlo una donna come lei ma tutto pieno di cicatrici questa vista produsse una specie d'orrore nell'animo degli spettatori ciò non le diede alcun sollievo né le impedì di svenire zobeida e sofia corsero a soccorrere la sorella e uno dei monaci non potei trattenersi dal dire avremmo preferito dormire all'aperto anziché entrar qui a vedere simili spettacoli il califo lo udì e chiese che vuol dire ciò quegli che aveva parlato rispose signore non lo sappiamo neppure noi come riprese il califo voi non siete della casa e non potete dirci nulla di quelle due cagne nere così indegnamente maltrattate e di quella donna svenuta signore disposero i monaci giuriamo sulla nostra vita che siamo venuti in questa casa solo qualche momento prima di voi ciò accrebbe la meraviglia del califo forse replicò quest'uomo che è con voi ne sa qualcosa uno dei monaci fece segno al facchino di avvicinarsi e gli domandò se sapesse perché le cagne nere erano state frustate e perché il seno di amina sembrava lacerato signore disse il facchino posso giurare davanti a dio vivente che se voi non sapete nulla di ciò non ne so più degli altri è vero che io sono in questa città ma sono entrato qui oggi soltanto e se siete meravigliati di vedermici anch'io lo sono di trovarmi in vostra compagnia quel che accresce la mia sorpresa è di non aver trovato nessun uomo con queste donne il califo la sua compagnia e i monaci avevano creduto che il facchino fosse di casa e che potesse informarli su quanto desideravano sapere il califo risoluto ad appagare la sua curiosità a qualunque costo disse agli altri ascoltate poiché siamo sette uomini di fronte a tre donne obblighiamole a darci i chiarimenti che desideriamo se mai si opponessero siamo in grado di costringerle il gran visir Jafar si oppose a questo consiglio e ne mostrò al califo le conseguenze senza però rivelare l'identità del principe ai monaci considerate signore vi prego che noi dobbiamo conservare la nostra reputazione voi sapete a quali condizioni ci hanno ricevuto queste donne e noi abbiamo accettato che si direbbe di noi se non mantenessimo il patto e il visir tirò da parte il califo e parlandogli sommessamente gli disse signore vostra maestà abbia un poco di pazienza perché la notte non durerà molto tempo lo mattina verrò prendere queste donne le trascinerò dinanzi al trono e saprete da loro quanto vi piacerà quantunque questo consiglio fosse molto saggio il califo lo respinse e fece tacere il visir perché voleva all'istante la spiegazione di quel mistero il califo cercò di far parlare prima ai monaci ma essi se ne scusarono infine convennero tutti che parlasse il facchino questi si preparava a fare la domanda fatale quando zobeida dopo aver soccorso a mina che era rinvenuta dallo svenimento si avvicinò a loro e poiché li aveva sentiti discutere chiese signori di che parlate qual è il motivo della vostra disputa il facchino allora parlò signora disse questi signori vi supplicano di voler loro spiegare perché dopo aver maltrattato le vostre due cagne avete pianto con loro ha il seno coperto di cicatrici questo è quanto sono incaricato di domandarvi a loro nome zobeida prese queste parole un atteggiamento fiero e disse signori è vero che lo avete incaricato di fare questa domanda tutti risposero di sì eccettuato il visir già far che non disse parola a questa confessione la soggiunse con ira che mostrava quanto fosse offesa prima di accordarvi la grazia di ricevervi allo scopo di prevenire ogni causa di scontento vi abbiamo posto la condizione di non parlare di ciò che non vi riguardava per paura di udire quel che non vi piacerebbe dopo essere stati trattati nel miglior modo possibile voi avete mancato alla parola il vostro modo di agire non è gentile dette queste parole batte tre volte coi piedi e con le mani e gridò presto venite allora si aprì una porta e sette schiavi negri forti e robusti entrarono con le sciabole in mano presero uno per uno e i sette uomini della compagnia li gettarono a terra li tennero in mezzo alla sala e si prepararono a decapitarli è facile immaginare quale fosse lo spavento del califfo si pentì allora ma troppo tardi di non aver voluto seguire i consigli del suo visir intanto uno degli schiavi disse a zobeida e alle sorelle alte potenti e rispettabili signore mi comandate di tagliar loro la testa aspettate disse a zobeida bisogna che prima li interroghi signora interruppe spaventato il facchino in nome di dio non mi fate morire per un delitto altrui io sono innocente sono loro i colpevoli e me continuò piangendo noi passavamo il tempo così dolcemente questi monaci guerci sono la cagione di tale sventura non vi è città che non cada in rovina con gente di cattivo augurio signora vi supplico di non confondere il primo con l'ultimo e pensate che è meglio perdonare a un miserabile come sono io privo di ogni soccorso anziché opprimerlo col vostro potere e sacrificarlo per il vostro risentimento zobeida ad onta della collera non pote trattenere il riso ai lamenti del facchino ma senza arrestarsi rivolse la parola agli altri una seconda volta e disse rispondete e ditemi chi siete altrimenti vi resta soltanto un momento di vita non posso credere che siate gente civile né persone di autorità e di distinzione nel vostro paese qualunque sia se ciò fosse avreste avuto più ritegno e maggiori riguardi il califo impaziente per natura soffriva infinitamente più degli altri vedendo che la sua vita dipendeva da una donna offesa e giustamente irritata ma cominciò a nutrire qualche speranza quando vide che lei cercava di sapere chi fossero pensava infatti che non gli avrebbe tolta la vita quando avesse conosciuto la sua dignità perciò disse sottovoce al visir che gli era vicino di dichiarare subito chi egli fosse ma il visir prudente e sangio volendo salvare l'onore del suo padrone e non rendere pubblico il grande affronto che si era attirato rispose soltanto ce lo siamo meritato ma anche se per obbedire al califo avesse voluto parlare Zubeida non gliene avrebbe dato il tempo si era già diretta verso i monaci e vedendoli tutti e tre guerci domandò loro se fossero fratelli uno di essi rispose per tutti no signora noi non siamo fratelli per sangue ma lo siamo in quanto monaci cioè legati alla stessa regola di vita voi rispose lei parlando a uno solo siete nato cieco no signora rispose il monaco io lo sono per avventura lo sono per un'avventura così sorprendente che ognuno vorrebbe leggerla se fosse scritta dopo questa sventura mi feci radere la barba e le sopracciglia e mi feci monaco prendendo l'abito che indosso Zubeida fece la stessa domanda ai due altri monaci che diedero la stessa risposta del primo ma l'ultimo che parlò soggiunse per farvi conoscere signora che non siamo persone volgari e affinché abbiate qualche considerazione per noi sappiate che siamo figli di re quantunque ci siamo incontrati solo questa sera tuttavia abbiamo avuto tempo di conoscerci a vicenda per quel che siamo e aso dirvi che i re che ci hanno dato la vita hanno qualche fama nel mondo a tale discorso Zubeida moderò la sua collera e disse agli schiavi date loro un poco di libertà ma restate qui a quelli che ci racconteranno la loro storia adducendo il motivo della loro venuta in questa casa non farete del male ma non risparmierete coloro che rifiuteranno di soddisfarci mentre i tre monaci il califo il gran visir e leonuco marsur stavano in mezzo alla sala seduti sul tappeto steso davanti alle tre donne che erano sul sofà e sorvegliati dagli schiavi pronti ad eseguire gli ordini delle loro signore il facchino avendo capito che si sarebbe salvato raccontando la sua storia per liberarsi dal gran pericolo parlò prima di tutti signora voi sapete già la mia storia e la causa che mi condusse in casa vostra perciò quanto vi devo ancora raccontare sarà presto detto la signora vostra sorella mi ha preso stamattina in piazza mentre aspettavo che qualcuno ricorresse ai miei servizi per guadagnarmi il pane l'ho seguita alla bottega di un venditore di erbe di un venditore di aranci limoni e cedri poi a quella di un venditore di mandorle di avellane e altri frutti indi da un confettiere e da un droghiere e con in testa la cesta calica quanto poteva esserlo venni qui e voi avete avuto la bontà di trattenermi finora questa è una grazia che ricorderò eternamente ecco la mia storia quando il facchino ebbe terminato Sobeida soddisfatta gli disse sei salvo vattene e fa che non ti vediamo mai più signora riprese il facchino vi supplico di farmi restare ancora non sarebbe giusto che dopo aver dato agli altri il piacere di sentire la mia storia io non avessi quello di ascoltare la loro così dicendo si sedette all'estremità di un sofà vietissimo di vedersi fuori pericolo dopo di lui uno dei tre monaci rivolgendosi a Sobeida che era la più importante delle tre dame e quella che gli aveva comandato di parlare cominciò a raccontare la sua storia storia del primo monaco signore voi volete sapere come ho perduto l'occhio destro e perché ho preso l'abito da monaco vi dirò che sono figlio di re mio padre aveva un fratello che regnava con lui in uno stato vicino questo fratello ebbe due figli un principe e una principessa e il principe ed io eravamo quasi della stessa età quando ebbe finito tutte le mie prove e il mio padre mi ebbe dato una onesta libertà andavo regolarmente ogni anno dal regno alzio soggiornavo presso la sua corte uno o due mesi poi tornavo da mio padre questi viaggi diedero occasione al principe mio cugino e a me di contrarre una fortissima e singolare amicizia l'ultima volta che lo vidi mi ricevette con dimostrazioni di tenerezza come non aveva mai fatto prima e volendo divertirmi fece un giorno preparativi straordinari sostammo a lungo a tavola e dopo aver ben mangiato mi disse cugino non potrai mai dovinare come ho trascorso il tempo dal tuo ultimo viaggio per un anno dopo la tua partenza ho meditato ho fatto costruire un edificio che è terminato e adesso si può abitare vieni a vederlo ma prima giura di mantenere il segreto e di restarmi fedele esigo queste due cose da te per l'amicizia che c'era fra noi non permettendomi di rifiutarvi qualcosa feci il giuramento che desiderava e allora mi disse aspetta qui ritorno fra un momento infatti non tardò a venire con una donna di bellezza singolare e magnificamente vestita non mi disse che fosse costa e non credetti opportuno chiederglielo ci rimettemmo a tavola con la donna e ci intrattenemmo ancora un po' di tempo su cose indifferenti bevendo alla salute dell'una e dell'altra dopo di ciò il principe mi disse cugino non abbiamo tempo da perdere ti prego di condurre con te questa donna e di condurla da questa parte in un luogo dove c'è un sepolcro a cupola fabbricato di fresco lo riconoscerai facilmente la porta è aperta entrate insieme e affrettatevi io verrò subito fedele al mio giuramento non voglio sapere altro porsi la mano alla signora e seguendo le istruzioni che il principe mio cugino mi aveva date la condussi felicemente senza smarrirmi al chiaro di luna appena fumo giunti al sepolcro vedemmo comparire il principe che ci seguiva portando una brocca piena d'acqua una zappa e un secchetto con del gesso con la zappa demolì la pietra tombale che era nel mezzo del sepolcro e tolte le pietre una dopo l'altra le pose in un angolo quando le ebbe levate tutte scavò la terra e vidi che sotto la vello c'era una botola e gliel'alzò e scorsi la cima ad una scala a chiocciola allora mio cugino volgendosi alla donna le disse signora di qui si va al luogo di cui vi ho parlato la donna a queste parole si avvicinò e discese e il principe si accinse a seguirla ma volgendosi prima verso di me disse cugino ti sono molto obbligato per il disturbo che ti sei preso e ti ringrazio addio cugino mio esclamai allora che vuol dire ciò questo ti basti mi rispose puoi tornartene per dove sei venuto signora disse il monaco a zobeida io non potei ottenere altro dal principe mio cugino e fui obbligato a prendere commiato da lui tornai quindi al palazzo del re mio zio i vapori del vino mi salivano alla testa e perciò cercai di ritornare subito nel mio appartamento e di colicarmi quando mi svegliai l'indomani considerando ciò che mi era avvenuto durante la notte e dopo aver richiamato alla memoria tutti i particolari di quella strana avventura pensai che si trattasse di un sogno scosso da questo pensiero mi andai a chiedere se il principe mio cugino poteva vedermi ma quando mi fu detto che non aveva dormito in casa che non si sapeva ciò che ne fosse avvenuto e che tutti erano preoccupati allora seppi che lo strano avvenimento del sepolcro era veramente accaduto e fui vivamente afflitto e allontanandomi da tutti andai segretamente al cimitero dove c'era un'infinità di tombe simili a quella che avevo veduta passai il giorno a considerarle una dopo l'altra ma non potei ritrovare quella che cercavo e per quattro giorni feci la stessa ricerca inutilmente bisogna sapere che in questo tempo il re mio zio era assente perché da molti giorni a caccia non ebbi la pazienza di aspettarlo e dopo aver pregato i suoi ministri di fargli al suo ritorno le mie scuse partii dal suo palazzo per ritornare alla corte di mio padre da cui non ero solito stare per molto tempo lontano lasciai i ministri del re mio zio amarezzati dall'assenza del principe mio cugino ma per non violare il giuramento che avevo fatto di mantenere il segreto non osai comunicare loro quanto sapevo giunsi alla capitale dove dimorava mio padre e trovai contrariamente al solito alla porta del palazzo delle guardie che mi circondarono ne domandai la ragione e l'ufficiale mi rispose principe l'esercito ha riconosciuto come re in luogo di vostro padre il gran vizir e io vi faccio prigioniero per ordine del nuovo re a queste parole le guardie si impadronirono di me e mi condussero davanti al tiranno giudicate voi signora della mia sorpresa e del mio dolore questo vizir ribelle nutriva per me un odio immenso ed ecco nella ragione nella mia più tenera gioventù amavo tirar la balestra un giorno sul terrazzo mirai un uccello che mi si presentò dinanzi ma sbagliai il colpo e la freccia andò a colpire dritto nell'occhio il vizir che prendeva aria sul terrazzo della sua casa e lo accecai quando seppi questa disgrazia mandai a chiedere perdono al vizir e lo feci anche io stesso ma lui conservò un vivo risentimento contro di me appena fui in suo potere venne da me come una furia e cacciando le sue dita nel mio occhio destro me lo cavò ecco perché sono cieco ma l'usurpatore non si arrestò a quella sola crudeltà mi fece chiudere in una casa e ordinò al carnefice di portarmi molto lontano dal palazzo e di abbandonarmi agli uccelli di rapina dopo avermi tagliato la testa il carnefice accompagnato da un altro uomo salì a cavallo carico della cassa e si arrestò nella campagna per eseguire gli ordini ma io tanto lo pregai che suscitai la sua compassione andate mi disse uscite dal regno e non vi rientrate mai più perché andreste incontro alla vostra perdita e sareste causa della mia lo ringraziai di tanto favore e appena fui solo mi consolai di aver perduto un occhio pensando che avevo evitato una sciagura maggiore nello stato in cui ero non potevo camminare molto quindi mi ritiravo in luoghi appartati durante il giorno e camminavo durante la notte per quanto me lo permettevano le forze infine arrivai negli stati del re mio zio e andai alla capitale gli fece una lunga narrazione della tragica causa del mio ritorno e del triste stato in cui mi vedeva ah esclamò non basta aver perduto mio figlio devo apprendere anche la morte di un fratello carissimo e vederti nel deplorevole stato in cui sei ridotto e manifestò l'inquietudine in cui era per non aver ricevuto alcuna notizia di suo figlio quantunque avesse fatto fare molte ricerche questo sventurato padre piangeva a calde lacrime parlandomi e mi parve talmente afflitto che non potei resistere al suo dolore allora non mi fu possibile osservare più oltre il giuramento fatto al principe mio cugino e raccontai al re e al suo padre ciò che sapevo il re mi ascoltò con attenzione e quando ebbe terminato mi disse il racconto che mi hai fatto mi dà qualche speranza ho saputo che mio figlio faceva fabbricare un sepolcro e conosco pressa poco il luogo con il ricordo che te ne è restato spero che lo troveremo ma poiché l'ha fatto segretamente andiamolo a cercare noi due soltanto per evitare che si sappia egli aveva un'altra ragione che non dichiarava di nascondere il fatto a tutti ragione importantissima come si vedrà dal seguito del mio racconto entrambi ci travestimmo e uscimmo per una porta del giardino che dava sulla campagna e fortunatamente trovammo quel che cercavamo io riconobbi il sepolcro e ne ebbi grande gioia perché già l'avevo cercato a lungo in vano entrandovi trovammo la botola di ferro chiusa sull'ingresso della scala durammo molta fatica ad alzarla poiché il principe mio cugino l'aveva sigillata dal di dentro col gesso e l'acqua di cui vi ho parlato ma infine l'alzammo il re mio zio scese per primo io lo seguì scendendo una cinquantina di gradini quando fummo al piede della scala ci trovammo in una specie d'anticamera piena di un densissimo fumo puzzolente da cui il lume che dava una luce vivissima era oscurato da questa anticamera passammo in una stanza grandissima sostenuta da grosse colonne e rischiarata da molti altri lumi nel mezzo c'era una cisterna e su un lato si vedevano molte provviste ma fummo assai meravigliati di non trovare nessuno vi era di fronte un palco molto elevato a cui si saliva per alcuni gradini e sopra si vedeva un largo letto con le tende chiuse il re vi salì e avendole sollevate scoperse il principe suo figlio e la donna coricati insieme ma arsi e carbonizzati come se fossero stati gettati in un gran fuoco e ne fossero stati tolti prima di essere consumati ciò che soprattutto mi stupì fu che il re e mio zio invece di mostrare afflizione vedendo suo figlio in quello stato così spaventevole gli sputasse in faccia dicendogli sdegnato ecco il castigo per questo mondo ma quello dell'altro durerà eterno non si accontentò di avere pronunciate queste parole ma si tolse anche una scarpa e con questa diede un forte colpo sul volto del figlio signora disse il monaco a Zobeida io non posso esprimervi la meraviglia che provai quando vidi il re mio zio offendere a quel modo suo figlio morto sì re gli dissi per quanto grande possa essere il dolore procuratomi da questa morte ancora più grande è il mio stupore e non posso fare meno di domandarvi che delitto ha potuto commettere il principe mio cugino per meritare un simile trattamento nipote mio rispose il re ti dirò che mio figlio indegno portatore di questo nome amò sua sorella fin dai primi anni anche lei lo amò io non mi opposi alla loro amicizia nascente perché non potevo prevedere il male che ne sarebbe venuto e chi l'avrebbe potuto questa tenerezza con l'età aumentò e giunse a tale punto che alla fine ne temetti la conseguenza cercai di rimediare come mi fu possibile ne mi contentai di fare in disparte a mio figlio un rimprovero rappresentandogli l'orrore della passione contratta e l'onda di cui avrebbe coperto la sua famiglia se persisteva in sentimenti così criminosi dissi lo stesso a mia figlia che custodì in modo da non avere più comunicazione con il fratello ma la sciagurata aveva ingoiato il veleno e tutti gli ostacoli che opponeva la mia prudenza al loro amore non fecero che irritarla mio figlio persuaso che sua sorella fosse sempre la stessa per lui col pretesto di fabbricare un sepulcro fece preparare questo asilo sotterraneo con la speranza di trovare un giorno l'occasione di rapire il colpevole oggetto del suo ardore e condurlo qui egli scelse il momento della mia assenza per forzare il ritiro dove era la sorella e questa è la circostanza che il mio onore non mi ha permesso di rendere pubblica dopo un'azione tanto deplorevole è venuta a chiudersi con lei in questo luogo fornito come vedi di ogni sorta di provviste al fine di godere lungo tempo dei detestabili amori che dovevano fare a tutti orrore ma Dio non ha voluto tollerare questo abominio e li ha giustamente puniti pronunciate queste parole si sciolse in pianto e io aggiunsi le mie alle sue lacrime poi volse su di me lo sguardo e disse abbrazzandomi mio caro nipote io perdo un figlio indegno ma trovo in te chi può sostituirlo e le riflessioni che fece sulla triste sorte del principe ci strapparono di nuovo le lacrime salimmo per la stessa scala e uscimmo infine da quel funesto luogo abbassammo la botola di ferro e la coprimmo di terra per nascondere il meglio possibile una prova terribile dell'ira di Dio non era molto che eravamo tornati al palazzo senza che alcuno si fosse accorto della nostra assenza quando dimmo un confuso rumore di trombe timballi tamburi e altri strumenti di guerra una polvere densa che oscurava l'aria si annunciò l'arrivo di un formidabile esercito era lo stesso visir che aveva deposto dal trono mio padre ed usurpato i suoi stati che veniva ad impadronirsi anche di quelli di mio zio con innumerevoli schiere di soldati mio zio che aveva a disposizione solo pochi soldati non poteva resistere a tanti nemici oppresso dal dolore perseguitato dalla sfortuna ricorse a uno stratagemma il solo partito che mi restasse per salvarmi la vita mi feci irradere la barba e le sopracciglia e indossato l'abito di monaco uscì dalla città senza essere riconosciuto da nessuno dopo ciò mi fu facile allontanarmi dal regno di mio zio seguendo strade poco frequentate evitai di passare per la città finché giunto all'impero del potente glorioso e famoso califo Harum al-Rashid la paura mi lasciò allora pensando a ciò che mi conveniva fare decisi di venire a Baghdad e gettarmi ai piedi del gran monarca la cui generosità è nota dappertutto si commuoverà dicevo fra me a un racconto così straordinario come è il mio avrà certo pietà ad un principe sventurato e non implorerò in vano il suo aiuto infine dopo un viaggio di molti mesi sono giunto alla porta di questa città mi sono entrato al cadere del giorno ed essendomi un poco fermato per riprendere le forze fui raggiunto da questo altro monaco che vedete vicino a me e ci salutammo al vedervi gli dissi sembrate straniero come me ed egli mi rispose che non mi ingannavo in quel momento sopraggiunse un terzo monaco che ci salutò ci disse che era anche gli straniero e giunto a Baghdad solo di recente come se fossimo fratelli ci unimmo e risolvemmo di non separarsi era tardi e non sapevamo dove alloggiare in una città dove non avevamo conoscenze la sorte ci ha condotti davanti alla vostra porta e ci siamo presi la libertà di bussare ci avete ricevuti con tanta carità e bontà che non potremmo mai ringraziarvi abbastanza ecco signora soggiunse ciò che mi avete comandato di raccontarvi ecco perché ho perduto l'occhio destro perché ho la barba rasata e le sopracciglia rasate e perché sono adesso in casa vostra basta disse Zubeida siamo soddisfatte ritiratevi dove vi piace il monaco scusandosi pregò la signora di lasciare che restasse per avere la soddisfazione di ascoltare la storia dei due confratelli perché non voleva abbandonarli e quella degli altri tre personaggi della compagnia storia del secondo monaco signora disse il secondo monaco per obbedire al vostro ordine e per dirvi quale strana avventura mi abbia privato dell'occhio destro devo raccontarvi tutta la storia della mia vita ero appena uscito d'infanzia quando il re mio padre voi sapete signora che io sono nato principe osservando che avevo molto insegno fece di tutto per coltivarlo e chiamò tutti i migliori scienziati e artisti che erano nei suoi stati non appena seppi leggere e scrivere imparai a memoria tutto il corano il libro stupendo che contiene il fondamento i precetti e le regole della nostra religione e per capirlo a fondo lessi le opere degli autori più accreditati che ne fecero dei commenti aggiunsi a questa lettura la conoscenza di tutte le tradizioni raccolte dalla bocca del nostro profeta dai grandi uomini suoi contemporanei e vogli studiare tutto ciò che riguardava la nostra religione approfondi anche la storia mi perfezionai nelle belle lettere nella lettura dei nostri poeti mi applicai alla geografia alla cronologia allo studio della nostra lingua senza trascurare però gli esercizi che si convengono a un principe ma la cosa che preferivo e in cui eccellevo era la scrittura dei caratteri della nostra lingua araba feci tanti progressi che superai i migliori scrivani del nostro regno che pure avevano acquistato la più grande reputazione la fama mi onorò più che non meritassi la fama del mio ingegno si diffuse non solo negli stati di mio padre ma anche fino alla corte delle indie il cui possente monarca ansioso di vedermi inviò un ambasciatore con ritti doni per invitarmi e mio padre per più ragioni fu lieto di quell'ambasciata era persuaso infatti che nulla convenisse meglio a un principe della mia età che viaggiare nelle corti straniere e d'altra parte era ben lieto di acquistare l'amicizia del sultano delle indie partii dunque con l'ambasciatore ma con poco equipaggio data la lunghezza e le difficoltà delle strade era un mese che eravamo in viaggio quando vedemmo da lontano una gran nuve di polvere e scorgemmo a parire cinquanta cavalieri bene armati erano predoni che venivano contro di noi siccome poi eravamo pochi ma avevamo dieci cavalli carichi di provviste e di doni che io dovevo fare al sultano delle indie da parte del re mio padre quei predoni ci assalirono arditamente non potendo respingere la forza con la forza dicevano loro che eravamo ambasciatori del sultano delle indie sperando di salvare col nostro equipaggio la vita ma i predoni insolentemente ci risposero perché volete che rispettiamo il sultano vostro padre noi non siamo a suoi sudditi e non siamo neppure sul suo territorio pronunciate queste parole ci circondarono e ci assalirono io mi difesi più che potei ma fui ferito e vedendo che l'ambasciatore le sue genti e le mie erano state tutte gettate a terra profittai delle ultime forze del mio cavallo che era stato pure ferito e mi allontanai da loro lo spinsi per quanto potei portarmi ma a un tratto mi mancò di sotto e cadde morto di stanchezza mi sciolsi sollecitamente e osservando che nessuno mi inseguiva pensai che i ladri non volessero allontanarsi dal bottino rimaci dunque solo ferito privo di soccorso in un paese sconosciuto non osai prendere la strada maestra temendo di ricadere nelle mani dei ladri dopo essermi fasciate le piaghe camminai per tutto il giorno e giunsi ai piedi di una montagna e vi scopersi l'apertura di una grotta entrai e vi passai la notte poco tranquillamente dopo aver mangiato qualche frutto raccolto per via continuai a camminare la mattina ai giorni seguenti senza trovare un luogo dove sostare ma al finire del mese scopersi una grande città popolatissima e situata in ottima posizione perché rigata tutto intorno da vari fiumi vi regnava un'eterna primavera la vista che si presentò al mio sguardo mi rallegrò sebbene avessi il volto le mani i piedi bruciati dall'ardore del sole entrato in città per prendere notizie ed informarmi di dove fossi mi diressi da un sarto che lavorava nella sua bottega e mi fece sedere accanto a sé e fu così gentile da credere alla storia che raccontai il sarto mi ascoltò attentamente ma quando avrebbe terminato di parlare invece di confortarmi mi rattristò badate di non dire ad altri ciò che avete detto a me perché il principe che regna qui è il più fiero nemico di vostro padre e vi farebbe senza dubbio uccidere se fosse informato del vostro arrivo in questa città quando mi ebbe detto il nome di quel principe ebbi conferma che il suo consiglio era buono ma siccome l'inimicizia di mio padre con lui non ha rapporto con le mie avventure credo signora che sia bene non parlarne più a lungo ringraziai il sarto dell'avvertimento datomi e mi affidai ai suoi consigli intanto pensando che io avessi fame mi fece portare da mangiare e mi offrì ospitalità in casa sua e io accettai qualche giorno dopo il mio arrivo vedendomi molto rimesso dalla fatica del lungo e pensoso viaggio e non ignorando che molti principi della nostra religione hanno la prudenza di apprendere anche qualche mestiere per valersene nel bisogno mi domandò se ne sapessi qualcuno e se potessi guadagnarmi da vivere senza essere di peggio ad altri gli risposi che conoscevo la giurisprudenza la grammatica la poesia e soprattutto scrivevo perfettamente bene con tutto ciò egli riprese in questo paese non guadagnerete neppure il pane nulla è più inutile di tale sapienza se volete seguire il mio consiglio aggiunse indossate un abito succinto e siccome siete robusto andate nella vicina foresta a far legna da bruciare verrete a desporla e a venderla in piazza e vi assicuro che guadagnerete tanto da poter vivere indipendente così potrete aspettare che il cielo vi sia propizio e dissipi la nube di avversa fortuna che attraversa la felicità della vostra vita e vi obbliga a nascondere la vostra nascita mi incarico di procurarvi una corda e una scura il timore ad essere riconosciuto e la necessità di vivere mi costrinsero ad abbracciare il partito propostomi malgrado la fatica e l'umiliazione di tale lavoro il giorno seguente il sarto mi comprò una scura e una corda e mi diede un abito adatto raccomandandomi ai poveri che si guadagnavano la vita nello stesso modo li pregò di condurmi con loro fin dai primi giorni portai un grosso carico di legna che vendetti per me la piastra d'oro infatti quantunque la foresta non fosse lontana la legna si vendeva cara in quella città a causa della scarsità dei tagli a legna in poco tempo guadagnai molto e restituì al sarto il denaro che aveva anticipato per me era più di un anno che vivevo così quando un giorno essendomi inoltrato più del solito nella foresta arrivai in un luogo delizioso dove mi misi a tagliar legna strappando la radice di un albero scopersi un anello di ferro attaccato a una botola dello stesso metallo tolsi la terra che lo copriva l'alzai e vidi una scala scesi tenendo in mano la scura e quando fui al fondo della scala mi trovai in un vasto palazzo fui molto stupito vedendo che la luce lo rischiarava come se fosse stato sopra la terra e in un luogo ben esposto mi inoltrai per una galleria sostenuta da colonne di diaspro con basi e capitelli d'oro massiccio a un tratto vidi avanzare una donna di nobile aspetto e di straordinaria bellezza e incantato mi fermai a guardarla poi per risparmiarle la pena di venire fino a me le mosse incontro rapidamente mentre mi faceva una profonda riverenza mi disse chi siete siete uomo o genio sono uomo signora le disposi drizzandomi e non ho nulla a che fare coi geni e per quale avventura vi trovate qui mi disse con un gran sospiro sono venticinque anni che vi abito e non ho veduto mai nessuno tranne voi la sua gran bellezza la dolcezza e la gentilezza con la quale mi riceveva mi resero ardito e le dissi signora prima di avere l'onore di soddisfare la vostra curiosità permettetemi di dirvi che sono lietissimo di questo incontro che mi consola della mia afflizione e forse mi darà la possibilità di rendervi più felice e raccontai fedelmente la mia strana avventura e le dissi per quale caso avessi scoperta l'entrata della prigione che trovavo magnifica ma noiosa a giudicare dalle apparenze ah principe disse sospirando avete ragione pensando che questa abitazione ricca e pomposa non sia un soggiorno piacevole i luoghi più incantevoli non possono dilettare quando vi si sta contro il proprio volere non è possibile che non abbiate mai udito parlare del grande epitimaro re dell'isola debono cosiddetta per l'abbondanza di questo legno prezioso io sono sua figlia il re mio padre mi aveva scelto per sposo un principe mio cugino ma la prima notte delle mie nozze in mezzo alla gioia della corte e della capitale del regno dell'isola debono prima che io fossi affidata a mio marito un genio mi rapì in quel momento svenni persi completamente conoscenza e quando ebbi ripreso i sensi mi trovai in questo palazzo fui per molto tempo inconsolabile ma il tempo e la necessità mi hanno abituata a vedere e a sopportare il genio sono 25 anni come vi ho detto che sono qui ho in abbondanza tutto quanto mi è necessario e potrebbe rendere felice una principessa desiderosa di gioielli e di ornamenti ogni dieci giorni continuò la principessa il genio viene da me per una notte non torna più spesso perché dice è sposato con un'altra donna che sarebbe gelosa se venisse a conoscenza della sua infedeltà ciò nonostante quando ho bisogno di lui sia di giorno che di notte tocco un talismano che è all'ingresso della mia stanza e il genio appare oggi sono quattro giorni che è venuto e l'aspetto fra altri sei perciò potete rimanere con me cinque giorni a tenermi compagnia se non vi dispiace io cercherò di divertirvi secondo il vostro grado e il vostro merito io che mi sarei stimato troppo fortunato di ottenere tale favore domandandolo a un'afferta così spontanea accettai con immensa gioia la principessa mi fece entrare in un bagno il più pulito il più comodo il più sontuoso che si possa immaginare e quando ne uscì invece del mio abito ne trovai un altro ricchissimo che accettai non per la sua ricchezza ma per rendermi più degno di stare con lei ci siedemmo su un sofà coperto di un bellissimo tappeto e di cucini del più bel broccato delle indie e poco dopo ella pose su una tavola delle vivande delicatissime mangiammo insieme e passammo il resto della giornata lietamente l'indomani poiché lei cercava tutti i mezzi per divertirmi portò a pranzo una bottiglia di vino vecchio il migliore che abbia mai gustato e volle per compiacenza berne qualche sorso con me quando ebbi la testa alquanto scaldata da quel piacevole liquore le dissi bella principessa da troppo tempo siete sotterrata viva seguitemi e venite a godere la luce del giorno di cui siete priva da tanti anni principe mi rispose sorridendo lasciamo questi discorsi non mi importa nulla della luce del più bel giorno purché vogliate trattenervi con me per nove giorni lasciando il decimo al genio principessa principessa le risposi mi accorgo che la paura del genio vi fa parlare così ma io non lo temo e voglio spezzare il suo talismano con la cifra che sopra vi sta scritta che venga io l'aspetto per formidabile che possa essere gli farò sentire la forza del mio braccio giuro di sterminare tutti i geni del mondo e lui per primo la principessa mi scondiurò di non toccare il talismano perché ne conosceva le conseguenze e mi disse sarebbe questo il mezzo per perderci entrambi io conosco il genio meglio di voi i vapori del vino non mi permisero di capire le ragioni della principessa e con un calcio fece a pezzo il talismano allora il palazzo si scosse con un rumore spaventevole e simile a quello del tuono accompagnato da lampi in una grande oscurità questo orribile fracasso dissipò in un momento i fumi del vino e mi fece capire ma troppo tardi l'errore commesso principessa esclamai che vuol dire tutto questo lei mi rispose spaventata e senza pensare alla sua sventura è finita per voi se non vi salvate subito segui il suo consiglio e il mio terrore fu così grande che dimenticai la scura e le pantofole avevo appena raggiunta la scala da dove ero sceso quando il palazzo incantato si aprì ed entrò il genio domandò addirato alla principessa che accade perché mi avete chiamato un malessere gli rispose la principessa mi ha obbligata ad andare a cercare la bottiglia che qui vedete ho bevuto due o tre volte e per disgrazia ho fatto un pazzo falso e sono caduta sul talismano che si è spezzato non è successo niente a questa risposta il genio furioso le disse siete un imprudente e una bugiarda che fanno qui queste pantofole e questa scura io le vedo solo ora disse la principessa siete venuto con tanto impeto che le avrete portate qui senza accorzo e ve ne il genio rispose con ingiuri e con percosse di cui udì il rumore non ebbe il coraggio di restare ad ascoltare i pianti e le grida pietose della principessa trattata così crudelmente mi ero già tolto l'abito che mi aveva dato e avevo ripreso il mio che il giorno innanzi avevo portato sulla scala dopo essere uscito dal bagno così terminai di salire pieno di dolore e di compassione perché io ero la causa di una così grande sventura e sacrificando la più bella principessa della terra alla barbarie di un genio mi ero reso il più ingrato degli uomini è vero dicevo che è prigioniera da venticinque anni ma a parte la libertà essa non aveva niente da desiderare per essere felice col mio gesto inconsulto ho distrutto la sua felicità e lo ha soggettata alla crudeltà d'un demonio spietato abbassai la botola ma ricopersi di terra e ritornai in città con un carico di legna senza sapere ciò che facessi tanto ero turbato ed afflitto il sarto il sarto mio ospite si mostrò lieto di vedermi e mi disse la vostra assenza mi ha causato molta inquietudine a cagione del segreto della vostra nascita non sapevo che pensare e temevo che qualcuno vi avesse riconosciuto sia lode a dio del vostro ritorno lo ringraziai del suo zelo e della sua affezione ma non gli confidai quello che mi era capitato né gli dissi perché era tornato senza scure e scalzo mi ritirai nella mia stanza rimproverandomi mille volte l'eccesso della mia imprudenza nulla dicevo avrebbe uguagliato la felicità della principessa e mia se solo avessi potuto contenermi e non avessi spettato il talismano mentre mi abbandonavo a questi pensieri entrò il sarto e mi disse un vecchio che non conosco è venuto a portarvi la scura e le pantofole che dice di aver trovato per via ha saputo dagli altri boscaioli che abitate qui e vuole che andiate a parlargli per restituirvele a queste parole impallidì e tramai in tutto il corpo e sarto me ne domandò la ragione ma a un tratto la parete della stanza si spalancò il vecchio che non aveva avuto pazienza di aspettare apparve e si presentò a noi con la scura e le pantofole egli era il genio che teneva prigioniera la bella principessa dell'isola d'ebano e che si era così trasformato dopo averla trattata con tanta crudeltà io sono un genio figlio della figlia di iblis principe dei geni credo che questa scura e queste pantofole ti appartengano disse volgendosi a me ma non mi dia del tempo di rispondere né io avrei potuto farlo tanto la sua spaventevole presenza mi aveva terrorizzato mi afferrò mi trasportò fuori della stanza e lanciandosi in volo mi portò con sé nell'aria a così grande velocità che mi trovai a un'altezza vertiginosa senza essermi neppure accorto di aver fatto tanto cammino poi si tuffò verso terra e la fece aprire percuotendola col piede scendemmo e ci trovammo nel palazzo incantato davanti alla bella principessa ahimè che cosa vidi il bel corpo nudo tutto coperto di sangue era gettato a terra più morto che vivo e vidi le sue gode bagnate di lacrime perfida donna disse il genio mostrandomi a lei è questo il tuo amante lei gettò su di me uno sguardo languido e rispose tristemente io non lo conosco non l'ho mai veduto prima d'ora come riprese il genio per colpa sua sei in questo stato e osi dire di non conoscerlo ma non lo conosco riprese la principessa vorreste che dicesse una menzogna e fossi causa della sua perdita ebbene disse il genio traendo la sciabola e tendendola alla principessa se non lo hai mai visto prendi questa sciabola e tagliagli la testa disse la principessa come potrei fare ciò che mi chiedete le mie forze sono esauste e non potrei alzare il braccio e quando anche lo potessi come potrei avere il coraggio di dare la morte a un uomo che non conosco e che non ha fatto niente di male questo rifiuto disse allora il genio alla principessa è la prova della tua colpa poi volgendosi a me e tu non la conosci tu sarai stato il più ingrato e il più perfido di tutti gli uomini se non avessi dimostrato alla principessa la stessa fedeltà che ella aveva avuto per me che ero causa della sua sventura risposi al genio come posso conoscerla se non l'ho mai vista prima d'ora se è vero egli rispose prendi questa sciabola e tagliale la testa a questa condizione ti lascerò libero perché sarò sicuro che non la conosci volentieri risposi e presa dalle sue mani la sciabola mi avvicinai all'infeliza non crediate però signora che io non mi fossi avvicinato alla bella principessa dell'isola d'ebano per obbedire all'ordine barbaro del genio doveci soltanto per mostrarle col gesto e per quanto mi era permesso che se lei aveva la fermezza di sacrificare la vita per amor mio anch'io ero pronto a sacrificare la mia per amor suo la principessa comprese il mio proposito e adonta dei suoi dolori e della sua afflizione mi espresse con uno sguardo affettuoso la sua gratitudine e mi fece capire che moriva volentieri e che era lieta di vedere il mio sacrificio mi volsi allora e gettando a terra la sciabola dissi al genio sarei biasimato eternamente da tutti gli uomini se avessi la viltà di ammazzare una persona che non conosco e che è per di più vicina a morire fate di me quel che volete perché sono in vostro potere ma non obbedirò mai al vostro barbaro comando vedo disse il genio che entrambi mi sfidate e insultate la mia gelosia ma vedrete ben presto di cosa sono capace a queste parole il mostro riprese la sciabola e tagliò una mano della principessa ella ebbe appena il tempo di alzar l'altra in segno di addio perché tra il sangue già perduto prima e quello che perdette in quel momento non pote vivere che per pochi minuti ancora dopo questa crudeltà io svenni quando rivenni rimproverai il genio perché mi faceva languire in attesa della morte e gli dissi colpiscimi sono pronto a ricevere la morte l'aspetto come la grazia più grande che tu possa farmi ma lui invece di accontentarmi rispose ecco come i geni trattano le donne sospette di infedeltà lei ti ha ricevuto qui se fossi sicuro che mi hai fatto un oltraggio maggiore ti farai morire all'istante ma mi accontenterò di trasformarti in cane o in asino o in leone o in uccello scegli voglio lasciarti libero di decidere queste parole mi diedero qualche speranza di piegarlo e gli dissi oh genio moderate la vostra collera poiché non volete togliermi la vita accordatemela generosamente perdonatemi come quell'uomo buono tra i buoni che perdonò ad uno dei suoi vicini che gli portava un'invidia mortale il genio mi domandò che cosa fosse quella storia e io mi la raccontai con queste parole storia dell'invidioso e dell'invidiato in una grande città abitavano due uomini l'uno nutriva per l'altro un'invidia tale che l'invidiato risolvette di cambiare casa e di allontanarsi infatti era persuaso che l'unico motivo di quell'odio fosse la vicinanza continua dal momento che lui aveva sempre cercato di essere gentile senza poter far cessare l'animosità vendette dunque la casa e col poco che aveva andò a comprare un appezzamento di terra a mezza lega dalla capitale aveva una casa molto comoda un bel giardino e un bel cortile nel quale c'era una profonda cisterna di cui nessuno si serviva mai il buon uomo dopo aver fatto tale acquisto vestì l'abito di monaco per condurre una vita più ritirata e fece fare nella casa molte celle dove in poco tempo riunì una comunità di monaci la sua virtù lo fece conoscere subito e non mancò di attirare moltissima gente tanto del popolo quanto della nobiltà della città e ognuno l'onorava e stimava grandemente da lontano veniva gente a raccomandarsi alle sue preghiere e tutti quelli che si ritiravano presso di lui magnificavano le benedizioni che il cielo prodigava loro per l'intercessione della sua preghiera essendosi la sua fama sparsa nella città l'invidioso ne provò vivo dolore e abbandonò la sua casa e gli affari col proposito di andarlo a rovinare per questo si recone il convento del monaco e questi riconoscendo il suo antico vicino lo ricevette con tutti i segni dell'amicizia l'invidioso gli disse che era venuto per comunicargli un'importante faccenda per la quale doveva parlargli in privato e aggiunse perché nessuno ci ascolti andiamo nel cortile e poiché la notte si avvicina comandate ai vostri monaci di ritirarsi nelle loro celle il capo dei monaci lo accontentò quando l'invidioso si vide solo quel buon uomo cominciò a raccontargli ciò che a lui piacque passezzando l'uno di fianco all'altro finché trovandosi sulla sponda della cisterna lo spinse dentro senza che nessuno fosse testimone di un'azione così iniqua fatto ciò si allontanò subito e raggiunta la porta uscì senza essere veduto e tornò a casa lieto del viaggio e persuaso che l'oggetto della sua invidia fosse finalmente morto ma si ingannava la vecchia cisterna era abitata da fate e da geni i quali furono lesti a soccorrere il capo dei monaci lo sorressero in modo che non si fece alcun male nella caduta egli si rese conto che doveva essersi qualche cosa di straordinario ma non vedeva né sentiva nulla però a un tratto udì una voce che sussurrava sapete chi è l'uomo cui rendiamo questo favore e altre voci avendo risposto negativamente la prima rispose ve lo dirò io quest'uomo per carità ha abbandonato la città natia ed è venuto a stabilirsi qui con la speranza di guarire un suo vicino dall'invidia che gli portava egli si acquistò la stima generale e l'invidioso non potendo sopportare venne qui per farlo morire ci sarebbe riuscito se noi non avessimo soccorso questo buon uomo la cui fama è così grande che il sultano che abita nella città vicina deve venire domani a visitarlo per raccomandare la principessa e sua figlia alle preghiere di lui un'altra voce domandò ancora che bisogno avesse la principessa della preghiera del monaco non sapete dunque che la è posseduta dal genio Maimum figlio di Dimdim che è innamorato di lei ma io so come questo buon monaco potrebbe guarirla la cosa è facilissima e ve la dirò nel suo convento c'è un gatto nero che ha una macchia bianca all'estremità della coda grande quasi come una moneta d'argento non deve far altro che togliere sette peli da questa macchia bianca bruciarli e profumare con quel profumo la testa della principessa all'istante sarà guarita e libera da Maimum figlio di Dimdim che non azzarderà più ad avvicinarsi a lei il capo dei monaci non perdette una parola di questa conversazione appena venne giorno quando pote distinguere gli oggetti scoprì un buco dal quale pote uscire facilmente i suoi monaci che lo cercavano ovunque furono molto contenti di rivederlo e gli raccontò loro in poche parole la perversità dell'ospite così ben ricevuto il giorno innanzi poi si ritirò nella sua cella il gatto nero di cui avevano parlato la notte fate e geni non tardò a venire a fargli le solite carezze allora gli strappò sette peli dalla macchia bianca che aveva sulla coda e li conservò per servirse in caso di bisogno non era da molto sordo il sole quando il sultano giunse alla porta del convento ordinò alla sua guardia di fermarsi ed entrò con gli ufficiali che lo accompagnavano i monaci lo ricevettero con profondo rispetto il sultano trasse il loro capo in disparte dicendogli buon sceicco forse voi saprete la ragione che mi conduce qui sì sire rispose modestamente se non mi inganno è la malattia della principessa che mi procurò l'alto onore della vostra visita appunto disse il sultano voi mi ridarete la vita se come spero con le vostre preghiere otterrete la guarigione di mia figlia sì re rispose il buon uomo se la vostra maestà vuol farla venire qui mi lusingo con l'aiuto e il favore di dio di farla tornare in perfetta salute il principe felice mandò subito a chiamare la figlia che apparve col volto coperto da un velo accompagnata da un numeroso seguito di donne il capo dei monaci fece mettere la principessa sotto un bracere e appena ebbe posti i sette peli sui carboni ardenti il genio Maimun figlio di Dindim gettò un grido lasciando libera la principessa allora lei alzò il velo che le copriva il volto per vedere dove fosse dove mi trovo chiese a tali parole il sultano non pote nascondere la sua gioia abbracciò la figlia baciò ancora la mano del capo dei monaci e disse agli ufficiali che l'accompagnavano a vostro giudizio quale ricompensa merita colui che ha guarito mia figlia risposero tutti che la meritava in esposa lo pensavo anch'io aggiunse il sultano e da questo momento lo faccio mio genero dopo poco morì il primo vizir e il sultano scelse il monaco per sostituirlo essendo poi morto il sultano senza figli maschi egli fu eletto e riconosciuto sultano il buon uomo continuò a dire il secondo monaco essendo salito sul trono di suo suocero passeggiava un giorno in mezzo alla sua corte quando tra la folla scorse l'invidioso chiamò uno dei vizir che l'accompagnavano e gli disse sottovoce andate e portatemi qui quell'uomo ma senza spaventarlo il vizir obbedì e quando l'invidioso fu alla presenza del sultano questi gli disse amico sono lieto di vederti e volgendosi a un ufficiale disse dategli subito mille monete d'oro del mio tesoro inoltre gli si diano venti carichi di mercanzie preziose del mio magazzino e una guardia sufficiente lo scorti fino a casa dopo aver incaricato l'ufficiale di quella commissione disse addio all'invidioso e continuò la sua passezzata quando ebbi terminato di narrare questa storia al genio assassino della principessa dell'isola d'Ebano dissi oh genio vedete che il benigno sultano non solo dimenticò che l'invidioso aveva voluto ucciderlo ma lo trattò anche cortesemente con tutta la bocca bontà che vi ho detto impiegai tutta la mia eloquenza per indurlo a imitare un esempio così bello e a perdonarmi ma non mi fu possibile piegarlo tutto ciò che posso fare per te mi disse è di non toglierti la vita ma non lusingarti che io ti mandi via sano e salvo voglio almeno farti vedere quanto posso io con i miei incantesimi a queste parole mi prese con violenza e portandomi attraverso la volta del palazzo sotterraneo che si dischiuse per darvi passaggio mi trasportò così in alto che la terra mi parve una piccola nuve bianca da tale altezza si scagliò verso la terra con la violenza del fulmine e giunse sulla cima di una montagna qui giunto il genio raccolse un pugno di terra pronunciò o piuttosto morborò certe parole che non compresi e gettando la terra su di me disse lascia la forma umana e prendi quella della scimmia e scomparve e ora stai solo trasformato in scimmia in un paese sconosciuto non sapendo se ero vicino o lontano dagli stati del re mio padre all'alto della montagna scesi in pianura e dopo un lunghissimo viaggio giunsi sulle rive di un mare e scorsi a mezza lega di distanza dalla terra una nave ruppi allora un grosso tronco d'albero e dopo averlo spinto nell'acqua vi salì a cavalcioni con due bastoni nelle mani come remi così vogando avanzai verso la nave e quando fui tanto vicino da essere riconosciuto i marinai e i passeggeri si radunarono sulla tolda per guardarmi con grande ammirazione intanto arrivai a bordo e afferrandomi a una corda mi arrampicai sul ponte ma siccome non potevo parlare mi trovai in un terribile imbroglio infatti il pericolo che corse allora non fu meno grande di quello che avevo corso quando ero prigioniero del genio i mercanti superstiziosi e cavillosi pensarono che se mi avessero tenuto a bordo avrei portato sfortuna alla navigazione uno disse la schiaccerò con un colpo di martello l'altro aggiunse io voglio trapassarvi con una frezza il corpo un terzo infine esclamò bisogna gettarlo a mare non avrebbero mancato di fare ciò che dicevano se io collocandomi al fianco del capitano non mi fossi prostrato ai suoi piedi prendendolo per l'abito in atto supplichevole e non lo avessi commosso con le mie lacrime così che mi prese sotto la sua protezione minacciando chi volesse farmi del male mi fece mille carezze e io gli mostrai coi gesti come mi fu possibile la mia riconoscenza il vento che successe alla calma non fu forte ma durevole e non cambiò per 50 giorni giuncemmo così felicemente nel porto di una bella città popolatissima di grandi commerci capitale di uno stato potente e gettammo l'ancora la nostra nave fu subito circondata da un'infinità di battelli pieni di gente che venivano a felicitarsi del ritorno o informarsi del viaggio o semplicemente per la curiosità di vedere una nave che veniva da lontano giunsero frattanto alcuni ufficiali che domandavano di parlare ai mercanti che erano a bordo da parte del sultano i mercanti si presentarono loro e uno degli ufficiali disse il sultano nostro padrone ci ha incaricati di manifestarvi la sua gioia per il vostro arrivo e pregare a ciascuno di voi di scrivere su questo rotolo di carta qualche riga di suo pugno per mostrarvi quale sia il motivo della richiesta sappiate che egli aveva un primo visir che alla grandissima abilità di amministrare gli affari univa il pregio di scrivere perfettamente il ministro è morto da pochi giorni e il sultano ne è afflitto e siccome aveva grande ammirazione per le cose scritte di pugno del visir ha fatto solenne giuramento di non dare il suo posto che ad un uomo che scriva bene quanto lui molti hanno presentato i loro scritti ma finora non si è trovato nessuno in tutto l'impero e si è stato giudicato degno del suo posto quei mercanti credendo di scrivere così bene da poter pretendere a quella dignità scrissero l'uno dopo l'altro quello che vollero quando ebbero terminato io mi alzai e tolsi il foglio dalle mani di chi lo teneva tutti pensando che io volessi lacerare la carta e gettarla in mare lanciarono un grido ma si rassicurarono quando videro che io tenevo destramente il foglio e che facevo segno di voler scrivere a mia volta ciò trasformò il loro timore in ammirazione non di meno poiché non avevano mai visto una scimmia a scrivere e non potendo persuadersi che io fossi più abile degli altri volevano togliermi di mano il foglio ma il capitano prese ancora le mie difese lasciate che scriva disse se sporca il foglio la punirò all'istante se al contrario scriverà bene come spero perché non ho mai visto in vita mia uno scimmiotto più destro e più intellettivo e più intelligente dichiaro di riconoscerlo per mio figlio io ne avevo uno e non aveva ingegno quanto lui vedendo che nessuno si opponeva al mio disegno presi la penna e non la lasciai se non quando ebbi scritto sei specie di caratteri usati dagli arabi e ogni saggio di carattere conteneva un distico o una quartina improvvisata in lode del sultano la mia calligrafia non solo superava quella dei mercanti ma oso dire che in quel paese non se n'era mai veduta una così bella quando ebbe terminato gli ufficiali presero il foglio e lo portarono al sultano questi non fece attenzione alle altre scrittura ma osservò soltanto la mia e gli piacque tanto che disse agli ufficiali prendete il cavallo meglio bardato della mia scuderia e la veste di broccato più bella per offrirgli alla persona che ha scritto questi caratteri e portatela qui a quest'ordine del sultano gli ufficiali si misero a ridere e il principe irritato del loro ardire stava per punirli ma essi gli dissero si re supplichiamo vostra maestà di perdonarci questa scrittura non è di un uomo ma di una scimmia come pensavo al sultano questi caratteri meravigliosi non sono di un uomo no si re rispose uno degli ufficiali assicuriamo vostra maestà ma che sono di una scimmia che li ha scritti in nostra presenza il sultano trovò la cosa così sorprendente che fu punto da grandissima curiosità di vedermi fate ciò che vi ho comandato disse conducete a me questa scimmia così rara gli ufficiali ritornarono alla nave ed esposero l'ordine al capitano il quale disse loro che il sultano era il padrone subito mi rivestirono di una veste di broccato ricchissima e mi portarono a terra dove mi posero sul cavallo del sultano lui stesso mi aspettava nel suo palazzo con molte persone della corte per farmi grandi onori ci incamminammo il porto le strade le piazze pubbliche le finestre i terrazzi dei palazzi e delle case tutto era pieno di una moltitudine innumerevole di gente dell'uno e dell'altro sesso e di ogni età venuti da tutti i luoghi della città perché sarà sparsa in un momento la notizia e tutti erano molto curiosi di vedere la scimmia che il sultano aveva scelto come gran visir dopo aver dato uno spettacolo così nuovo a tutto quel popolo il quale non cessava di gridare per mostrare la sua meraviglia giunsi al palazzo del sultano trovai il principe seduto sul suo trono in mezzo ai dignitari della corte gli feci tre profonde riverenze e all'ultima mi prostrai e baciai la terra ai suoi piedi poi mi sedetti in una posizione da scimmia l'assemblea non cessava ad ammirarmi e non comprendeva come fosse possibile che una scimmia sapesse comportarsi così bene davanti al sultano il sultano stesso era meravigliatissimo insomma la cerimonia della sottomissione sarebbe stata completa se io avessi potuto aggiungere ai miei gesti il discorso ma le scimmie non parlano mai e il vantaggio ad essere stato uomo non mi dava questo privilegio il sultano congedò i suoi cortigiani e restò solo col capo degli unuchi con un piccolo schiavo molto giovane e con me passò poi dalla sala di udienza nel suo appartamento e si fece portare da mangiare quando fu a tavola mi fece cenno di avvicinarmi e di mangiare con lui per mostragli la mia obbedienza baciai la terra e alzandomi mi misi a tavola e mangiai con molta educazione e misura prima che si sparecchiasse vidi un calamaio e feci segno che mi venisse dato quando lebbi scrissi su una pesca alcuni versi di mia invenzione per mostrare la mia riconoscenza al sultano e ciò crebbe la sua meraviglia quando li lesse terminato il pasto fu portata una bevanda particolare e il sultano me ne offrì un bicchiere bevbi poi scrissi ancora altri versi con i quali spiegavo lo stato in cui mi trovavo dopo così grandi sofferenze il sultano lesse ancora e disse un uomo che fosse capace di fare altrettanto sarebbe superiore ai più grandi uomini questo principe fattosi portare un gioco di scacchi mi domandò a segni se sapessi giocare e se volessi fare una partita con lui io baciai la terra e portandomi la mano alla destra mostrai che ero pronto a ricevere tanto onore egli vinse la prima partita ma io vinsi la seconda e la terza e accorgendomi che ciò gli dispiaceva per consolarlo feci un poemetto che gli presentai e in cui dicevo che due potenti eserciti essendosi tutto il giorno con molto ardore battuti avevano fatto la pace la sera e avevano passato insieme la notte molto tranquillamente sul campo di battaglia il sultano giudicando che ciò che facevo superava tutto ciò che aveva visto o inteso sulla destrezza e sull'ingegno delle scimmie non volle essere il solo testimonio di tanti prodigi egli aveva una figlia chiamata donna di bellezza andate disse al capo degli eunuchi che era presente e al quale era affidata questa principessa andate e fate venire la vostra signora desidero che la partecipi al piacere che io prendo il capo degli eunuchi partì e subito condusse la principessa essa aveva il volto scoperto ma non appena fu nella stanza si coprì col velo dicendo al sultano sire sono molto sorpresa che vostra maestà mi faccia comparire alla presenza di uomini figlia disse al sultano non vedi che siamo qui solamente le eunuco e dio che entrambi abbiamo la libertà di guardarti in viso perché abbassi il velo e mi accusi di averti fatto venire sì re replicò la principessa vostra maestra sappia che io ho ragione questa scimmia quantunque ne abbia la forma è un giovane principe figlio d'un re egli è stato mutato in scimmia per incantesimo un genio figlio della figlia di blis gli ha fatto questa cattiva azione dopo aver crudelmente tolto la vita alla principessa dell'isola d'ebano figlia del re epitimaro il sultano sorpreso da questo discorso si volse verso di me e non parlandomi più a segni mi domandò se era vero quanto diceva sua figlia poiché io non potevo parlare mi posi la mano sulla testa per confermare che la principessa aveva detto la verità figlia esclamò allora il sultano come sai che questo principe è stato trasformato in scimmia per incantesimo sire rispose la principessa donna di bellezza vostra maestà può ricordarsi che quando ero bambina viveva con me una vecchia donna essa era una valentissima maga e mi ha insegnato 60 regole della sua scienza per virtù delle quali potrei in un batter d'occhio trasportare la capitale nel mezzo dell'oceano o al di là del caucaso con questa scienza riconosco tutte le persone soggette a un incantesimo perciò non vi meravigli se ha scoperto questo principe malgrado l'incantesimo che gli impedisce di apparire ai vostri occhi qual è realmente figlia le disse il sultano io non ti credevo così abile sire rispose la principessa ci sono cose curiose buone a sapersi ma mi parve sempre sconveniente vantarmene poiché è così riprese il sultano potresti togliere l'incantesimo al principe sì sire rispose lei posso rendergli la sua forma umana fallo dunque interruppe il sultano non potresti farmi un piacere maggiore perché voglio che egli sia il mio gran vizir e che ti prenda in sposa sire disse la principessa sono pronta ad obbedire ai vostri ordini e standò nel suo appartamento dove preso un coltello che aveva incise sulla lama delle parole ebraiche poi fece scendere in un cortile segreto del palazzo il sultano il capo degli unuchi e me e qui lasciandoci in una galleria che girava tutto intorno avanzò nel mezzo del cortile dove disegnò un gran cerchio e vi scrisse molte parole in caratteri egiziani quando ebbe terminato si collocò nel mezzo del cerchio e fece degli scontri giuri e recitò dei versetti del corano ma poco a poco l'aria si oscurò e parve che tutto il mondo si dissolvesse noi ci sentimmo prendere d'immenso spavento tanto più quando vedemmo all'improvviso comparire il genio figlio di bliss sotto forma di un leone immensamente grande appena la principessa vide quel mostro gli disse perché invece di inchinarti innanzi a me osi presentarti sotto questa orribile sembianza credi di spaventarmi e tu rispose il leone non temi di contravvenire al trattato fatto tra noi e confermato da un solenne giuramento di non mocersi l'un l'altro tu pagherai la pena che meriti per avermi fatto venire e con la bocca orrendamente spalancata avanzò verso di lei per divorarla ma lei fece un salto indietro si strappò un capello pronunciò due o tre parole e il capello si trasformò in una spada affilata con la quale tagliò in due il corpo del leone le due parti del leone scomparvero e rimase solo la testa che si mutò in un grosso scorpione allora la principessa si trasformò in un serpente e ingaggiò un fiero combattimento con lo scorpione il quale vedendosi inferiore prese la forma d'aquila e volò via ma il serpente diventò allora un'aquila nera più potente e inseguì il nemico finché li perdemmo di vista poco dopo la terra si dischiuse innanzi a noi e ne uscì un gatto nero e bianco col pelo irsuto che miagolava orribilmente un gallo nero lo seguiva da vicino senza dargli posa il gatto si mutò in verme e si fermò vicino a una melograna caduta per caso da un albero che era piantato sulla riva di un canale questo verme in un momento bucò la melagrana e vi si nascose allora la melagrana si gonfiò divenne grossa quanto una zucca e salì sul tetto della galleria dove cadde nel cortile e si ruppe in due pezzi il gallo si gettò sugli acini della melagrana e si mise ad inghiottirli l'un dopo l'altro quando non ne vide più venne a noi con le ali spiegate come per domandarci se vi fossero altri granelli ne restava uno sul margine del canale del quale si accorse volgendosi e volò subito al suo posto ma nel momento in cui stava per portarvi sopra il becco il granello rotolò nel canale e si cambiò in un pesciolino il gallo zettandosi nel canale si mutò in luccio e inseguì il pesciolino uno e l'altro rimasero per due o tre ore sott'acqua e non sapevamo che fosse accaduto quando udimmo grida orribili che ci fecero fremere poco dopo vedemmo il genio e la principessa l'uno e l'altra lanciavano fiamme dalla bocca fino a che cominciarono a lottare corpo a corpo allora le due fiamme aumentarono e mandarono un fumo denso e infuocato che si levò altissimo avevamo paura e con ragione che si incendiasse il palazzo ma subito sopraggiunse un motivo più forte di paura perché il genio essendosi staccato dalla principessa venne fino alla galleria dove eravamo noi e ci soffiò contro dei globi di fuoco era finita per noi ma la principessa correndo in nostro soccorso lo obbligò con le sue grida ad allontanarsi e a difendersi da lei non di meno non potei impedire che l'eunuco fosse soffocato e consumato all'istante e che una scintilla entrasse nel mio occhio destro rendendomi cieco il sultano ed io credemmo di morire ma poi udimmo gridare vittoria vittoria e vedemmo a un tratto la principessa sotto la sua forma umana e il genio ridotto in un mucchio di cenere essa si avvicinò a noi e senza perder tempo domandò una tazza piena d'acqua che le venne recata da un giovane schiavo a cui il fuoco non aveva fatto alcun male la prese e dopo aver pronunciato alcune parole gettò su di me l'acqua dicendo se tu sei scimmia per incantesimo muta figura e prendi quella di uomo che avevi prima non appena finì di pronunciare queste parole io tornai uomo come prima ma cieco d'un occhio cominciavo a ringraziare la principessa quando essa rivolgendosi al sultano suo padre gli disse sire io ho riportato la vittoria sul genio come vostra maestà ha potuto vedere ma è una vittoria che mi costa cara mi restano soltanto pochi momenti di vita e voi non avrete la soddisfazione di concludere il matrimonio propostomi ciò non sarebbe avvenuto se io mi fossi accorta dell'ultimo acino di melagrana e l'avessi inghiottito come gli altri quando ero mutata in gallo il genio vi si era rifugiato e da quello dipendeva il successo del combattimento che sarebbe stato felice senza pericolo per me tale mancanza mi obbligò a ricorrere al fuoco e a combattere con armi portentose come ho fatto in vostra presenza ad onta del potere della sua arte formidabile e della sua esperienza ho fatto vedere al genio che ne sapevo più di lui l'ho vinto e l'ho ridotto in cenere ma io non posso sfuggire alla morte che si avvicina il monaco parlando sempre a zobeida le disse signora il sultano lasciò che la principessa donna di bellezza terminasse il racconto del suo combattimento e quando ebbe finito le disse con un tono pervaso di tremendo dolore figlia vedi in che stato è tuo padre ahi sono meravigliato di vedermi ancora in vita neunque morto e il principe che hai salvato dall'incantesimo ha perduto un occhio non pote dire di più perché le lacrime i sospiri e i singhiozzi gli troncarono la parola fummo tutti commossi della sua afflizione e sua figlia e io piangemmo con lui poi tutt'antratto la principessa cominciò a gridare ah brucio brucio il fuoco che la consumava sarà infatti impadronito del suo corpo e lei non cessava di gridare brucio la morte finalmente pose termine ai suoi insopportabili dolori l'effetto di quel fuoco fu così straordinario da ridurla in poco tempo in cenere non vi dirò signora quanto fui commosso e turbato da quello spettacolo così funesto il sultano afflitto oltre ogni dire lanciò grida pietose percuotendosi con forza la testa e il petto finché soccombendo al dolore svenne e mi fece temere per la sua vita accorsero gli unuchi e gli ufficiali e durarono non poca fatica a farlo riprendere dalla sua debolezza il sultano ed io non avemmo bisogno di far loro un lungo racconto di questa avventura per persuaderli del nostro dolore i due monticelli di cenere in cui erano stati ridotti la principessa e il genio gliela fecero immaginare il sultano potendo appena sostenersi fu obbligato ad appoggiarsi a loro per tornare nel suo appartamento quando la voce di questo tragico avvenimento si sparse per il palazzo e per la città tutti piansero la principessa donna di bellezza e parteciparono al dolore del sultano il lutto durò sette giorni si fecero molte cerimonie vennero gettate al vento le ceneri del genio e si raccolsero in un'urna preziosa quelle della principessa per essere conservate in un magnifico mausoleo costruito nel medesimo luogo dove erano state raccolte il dolore provato dal sultano per la perdita di sua figlia il cagionone malattia che lo tenne a letto per un buon mese non aveva ancora recuperato interamente la salute quando mi fece chiamare e mi disse principe udite l'ordine che debbo darvi ne va della vostra vita se non le seguite quando gli ebbe assicurato la mia obbedienza aggiunse io ero sempre vissuto in perfetta felicità e nessun dolore aveva mai attraversato la mia esistenza il vostro arrivo ha fatto svanire ogni mia gioia mia figlia è morta e io sono vivo per miracolo voi siete stato la causa di tutte queste sventure partite dunque al più presto e non tornate mai più nei miei stati io volevo parlare ma egli mi chiuse la bocca con parole piene di collera e fui obbligato a partire dal suo palazzo respinto scacciato abbandonato da tutti mi feci radere la barba e le sopracciglia e vestii l'abito di monaco mi posi in via piangendo più per la morte della bella principessa che per la mia sventura traversai molti paesi senza farmi conoscere e decisi di venire a Baghdad con la speranza di farmi presentare al sultano e di ottenere la sua compassione col racconto di una storia così strana sono giunto questa sera e mi sono imbattuto nel monaco che ha parlato prima di me il resto lo sapete signora quando il secondo monaco ebbe terminato la sua storia Zobeida a cui si era rivolto gli disse va bene andate ritiratevi dove più vi piace ve lo permetto ma invece di uscire egli supplicò la signora di fargli la grazia concessa al primo monaco e di lasciargli ascoltare le storie degli altri il che gli fu concesso allora il terzo monaco cominciò storia del terzo monaco onorevolissima signora quello che vi racconterò io è assai di simile da quanto avete udito i due principi che hanno parlato prima di me persero un occhio per pura effetto del loro destino io invece l'ho perduto unicamente per colpa mia io mi chiamo Aghib e sono figlio di un re che si chiamava Cassib dopo la sua morte è preso il possesso dei suoi stati e mi stabili nella città dove aveva dimorato tale città è situata sulla riva del mare ed ha un porto bellissimo e sicuro con un arsenale grandissimo fornito di 150 navi da guerra molte province componevano il mio regno che ha inoltre un gran numero di isole considerevoli quasi tutte situate in vista della mia capitale da prima visitai le province poi feci equipaggiare la flotta e andai nelle isole per conciliarmi con la presenza e il cuore dei sudditi avendo conquistata qualche conoscenza nell'arte della navigazione risolvetti di compiere un viaggio di esplorazione al di là delle mie isole feci equipaggiare 10 navi e imbarcatomi sciogliemmo le vele la nostra navigazione fu felice per 40 giorni di seguito ma la notte del 41esimo il vento divenne furioso e fummo travolti da una violentissima tempesta non di meno sul fare del giorno il vento si calmò le nuvole si dissiparono e ritornò il bel tempo approdammo in un'isola dove ci fermammo due giorni per fare provviste poi riprendemmo il mare dopo dieci giorni di navigazione cominciammo a sperare di vedere terra perché dopo la tempesta avevo cambiato i miei progetti ed ero deciso a tornare a casa dopo altri dieci giorni un marinaio di guardia annunciò che a destra e a sinistra non si vedevano che cielo e mare ma di rimpetto cioè dalla parte della prua c'era una gran macchia nera a tale notizia il pilota scolorò in viso con una mano gettò il turbante sulla tolda e battendosi il volto con l'altra esclamò ah Sira siamo perduti nessuno di noi può scampare dal pericolo in cui ci troviamo e con tutta la mia esperienza non posso evitarlo dicendo queste parole si mise a piangere come chissà che la sua perdita è inevitabile e il suo dolore seminò in tutta la nave lo spavento gli domandai quale ragione avesse per disperarsi tanto ed egli mi rispose ah Sira domani a mezzogiorno ci troveremo presso quella macchia scura chiamata la montagna nera essa non è altro che una miniera di minerali magnetici che già sta attirando a sé la nostra flotta a causa dei chiodi e dei ferri che entrano nella struttura delle navi domani quando saremo a una certa distanza la forza della calamita sarà così violenta che tutti i chiodi delle nostre navi si staccheranno e andranno ad attaccarsi alla montagna sulle sue sommità c'è una cupola di bronzo sostenuta da colonne dello stesso metallo al di sopra si innalza un cavallo che ha il petto coperto da una piastra di piombo sulla quale sono incisi dei caratteri talismanici la tradizione dice che quella statua è la causa principale per cui tanti vascelli e tanti uomini sono stati finora affondati in questo luogo ciò detto il pilota si mise a piangere e le sue lacrime provocarono quelle di tutto l'equipaggio e io non dubitai di essere alla fine dei miei giorni purtuttavia ognuno pensò alla propria salvezza e cercò qualche espediente ma nell'incertezza dell'avvenire tutti si nominarono vicendevolmente eredi con un testamento in favore di chi si sarebbe salvato l'indomani vedemmo chiaramente la montagna nera e l'idea che ne avevamo concepita ce la fece vedere ancor più spaventosa di quanto non fosse a mezzogiorno ci trovammo così vicini da sperimentare tutto quanto ci aveva predetto il pilota vedemmo volare verso la montagna i chiodi e tutti gli altri ferri che per la violenza dell'attrazione si attaccavano alla roccia con un orribile fracasso le navi si aprirono e si navissarono nel mare tutta la mia gente affogò ma Dio ebbe pietà di me e permise che io mi salvassi afferrandomi a una tavola che fu spinta dal vento ai piedi della montagna non mi fece alcun male avendomi la fortuna fatto approdare in un luogo dove c'erano dei gradini per salire sino alla sommità alla vista di quei giardini proseguì il monaco cominciai a salire giunto alla sommità senza nessun incidente entrai sotto la cupola e prostrandomi in terra ringraziai Dio della grazia fattami passai la notte sotto quella cupola e mentre dormivo mi apparve un vecchio venerabile il quale mi disse Agib ascolta quando sarai sveglio scava sotto i tuoi piedi la terra vi troverai un arco di bronzo e tre frecce di piombo scocca le tre frecce contro la statua il cavaliere cadrà nel mare e il cavallo vicino a te e tu lo sotterrerai nel luogo dove avrai trovato le frecce quando avrai fatto ciò il mare si gonfierà e salirà fino ai piedi della cupola posta sulla cima della montagna allora vedrai approdare una scialuppa che porterà un uomo di bronzo diverso da quello rovesciato imbarcati con lui senza pronunciare il nome di Dio e lasciati condurre ti porterai in dieci giorni in un altro mare dove troverai il mezzo per tornare a casa tua sano e salvo purché come ti ho detto tu non pronunci mai il nome di Dio tale fu il discorso del vecchio e quando mi fui svegliato mi alzai estremamente consolato e non mancai di seguire il suo consiglio vi sotterrai l'arco e le frecce e le scagliai contro il cavaliere con la terza frezza lo rovesciai nel mare e il cavallo cadde vicino a me lo sotterrai dove erano prima l'arco e le frezze e nel tempo il mare si gonfiò a poco a poco quando fu arrivato ai piedi della cupola vale a dire alla sommità della montagna vidi avvicinarsi una scialuppa benedissi Dio vedendo che le cose succedevano proprio come mi aveva detto il vecchio nel sogno la scialuppa prodò e vidi l'uomo di bronzo che mi era stato descritto mi imbarcai guardandomi bene dal proferire il nome di Dio anzi non dissi neppure una parola mi si è detti e l'uomo di bronzo cominciò a vogare allontanandosi dalla montagna remò senza posa fino al nono giorno quando vidi delle isole che mi fecero sperare di poter essere fuori pericolo l'eccesso della gioia mi fece dimenticare la proibizione fattami e dissi Dio sia benedetto Dio sia lodato avevo appena terminate tali parole che la scialuppa affondò con un uomo di bronzo io restai in acqua e nuotai per tutto il giorno dirigendomi verso terra venne la notte e non sapendo dove andare nuotai a caso finché le mie forze si esaurirono e disperai di salvarmi ma essendosi levato il vento un'onda più alta della montagna mi gettò su una spiaggia il giorno dopo il sole mi asciugò l'abito lo indossai e mi incamminai per scoprire dove fossi mi accorsi ben presto che ero in una piccola isola disabitata bellissima e piena di molte specie di alberi da frutto mentre affidavo a Dio la mia vita perché ne facesse ciò che voleva scopri un piccolo bastimento che veniva a gonfie vele verso terra ignorando però se la gente che portava fosse amica o nemica credete opportuno non mostrarmi subito salì sopra un albero foltissimo da dove potevo non visto osservare ogni cosa il bastimento si fermò in una insenatura sbarcarono dieci schiavi che portavano una pala e altri strumenti adatti a lavorare la terra camminarono verso il centro dell'isola poi li vidi di arrestarsi e smuovere per qualche tempo il terreno dai loro atti mi parve che sollevassero una botola tornarono poi al bastimento sbarcarono molte provviste e ognuno se ne caricò una parte che portò dove avevano smossa la terra e discesero compresi che là doveva esserci un sotterraneo li vidi un'altra volta andare sulla nave ed uscirne con un vecchio che conduceva un giovane bellissimo di 14 o 15 anni tutti discesero nella botola e quando furono risaliti l'abbassarono la coprirono di terra e poi si diressero verso la nave mi accorsi allora che il giovane non era con loro e perciò conclusi che doveva essere rimasto nel sotterraneo e restai meravigliato il vecchio e gli schiavi si imbarcarono il bastimento sciolte le vele riprese la via del continente quando lo vidi abbastanza lontano da non poter essere visto dall'equipaggio scesi dall'albero e andai difilato nel luogo dove avevo veduto smuovere la terra la smosso io pure finché trovata una pietra di due o tre piedi quadrati l'alzai e vidi che copriva l'entrata di una scala pure di pietra scesi e mi trovai in una grande stanza con un tappeto e con un sofà guarnito di cuscini di ricca stoffa su cui stava seduto un giovane con un ventaglio in mano questi fu sorpreso nel vedermi ma per rassicurarlo gli disse entrando chiunque siate o signore non temete nulla un re figlio di re come io sono non è capace di farvi offesa al contrario è la vostra buona sorte che mi manda per trarvi da questa tomba dove siete stato sotterrato per ragioni che io ignoro ma ciò che più mi stupisce e che non posso comprendere perché io sono stato testimonio di quanto avvenne da che siete nell'isola e che vi siete lasciato seppellire senza resistenza il giovane si rassicurò a tali parole e mi pregò con volto ridente di sedermi vicino a lui poi mi disse principe vi intratterrò di cose che vi faranno meraviglia tanto sono singolari mio padre è mercante di gioielli e ha acquistato molti beni con le sue fatiche e con la sua abilità possiede molti schiavi e commissionari che fanno viaggi per mare su navi che gli appartengono per mantenere la corrispondenza con varie corti alle quali fornisce le pietre preziosi di cui abbisognano per lungo tempo era ammogliato senza avere figliuoli quando fu avvertito in sogno che avrebbe avuto un figlio la cui vita però non sarebbe stata di lunga durata alcuni giorni dopo mia madre annunciò di essere incinta pensava di aver concepito proprio nel giorno del sogno poi nacque io e si fecero in famiglia grandi feste mio padre che aveva esattamente osservato il momento della mia nascita consultò gli astrologhi i quali gli dissero vostro figlio vivrà senza incidenti fino all'età di 15 anni ma allora correrà il rischio di perdere la vita la statua di bronzo che è sulla cima della montagna nera sarà rovesciata in mare dal principe Aghib figlio di Re Kassib e gli astri annunciano che 50 giorni dopo nostro figlio dovrà essere ucciso da quello stesso principe siccome questa predizione concordava col sogno di mio padre egli ne fu veramente commosso e addolorato non lasciò tuttavia di prendere molta cura nella mia educazione fino a quest'anno che è il quindicesimo della mia vita ha saputo ieri che il cavaliere di bronzo è stato gettato in mare dal principe tale notizia gli è stata causa di tante lacrime da non essere più riconoscibile nello stato in cui si trova basandosi sulle predizioni degli astrologhi egli ha cercato il mezzo di smentire il mio oroscopo e conservarmi la vita da molto tempo ha fatto costruire questa dimora per tenermi nascosto durante 50 giorni da quando la statua sarebbe stata rovesciata perciò quando ha saputo la notizia è venuto subito a nascondermi qui promettendomi che verrà a riprendermi quando sarà passato il pericolo per me nutro buone speranze e non credo che il principe Aghib venga a cercarmi sottoterra in mezzo a un'isola disabitata ecco signore ciò che avevo da dirvi mentre il figlio del gioielliere mi parlava in tal modo io mi burlavo fra me e degli astrologhi che avevano predetto che io gli avrei tolto la vita e senza alcun timore che si avverasse la predizione gli dissi con trasporto caro signore confidate nella bontà di dio e non temete di nulla sono lieto dopo aver fatto un naufragio di trovarmi felicemente qui per difendervi contro chiunque volesse attentare ai vostri giorni io non vi abbandonerò durante tutto questo tempo aiutandovi per quanto dipenderà da me dopo profitterò dell'occasione di tornare sul continente imbarcandomi in vostra compagnia sul vostro bastimento col permesso di vostro padre e quando sarò di ritorno nel mio regno non dimenticherò gli obblighi che ho verso di voi e cercherò di mostrarvi la mia riconoscenza come si conviene con tale discorso rassicurai il figlio del gioielliere e me ne riconquistai la fiducia per paura di spaventarlo non gli dissi che ero il temuto a Gib ed ebbi cura di non dargine alcun sospetto ci intrattenemmo su molte cose fino alla notte e mi accorsi che il giovane aveva molto ingegno mangiamo insieme delle sue provviste perché ne aveva in abbondanza e gliene sarebbero avanzate anche se avesse avuto più ospiti dopo la cena continuammo a intrattenerci per qualche tempo e poi ci riposammo il mattino gli presentai il catino e l'acqua ed egli si lavò poi preparai il pranzo e lo servii quando fu il momento dopo pranzo inventai un gioco per divertirci quel giorno e i giorni seguenti preparai la cena come il pranzo e cenammo e ci coricammo come i giorni innanzi durante questi giorni stringemmo una grande amicizia e accortomi che egli aveva molta simpatia per me come io per lui dissi sovente a me stesso che gli astrologhi che avevano predetto quel destino erano impostori insomma in quel sotterraneo passammo 39 giorni col più gran piacere del mondo giunse il quarantesimo e la mattina il giovane svegliandosi mi disse allegramente principe eccomi oggi al quarantesimo giorno e grazie a dio e alla vostra buona compagnia non sono ancora morto mio padre non mancherà di mostrarvi la sua riconoscenza e di fornirvi tutti i mezzi necessari per tornare nel vostro regno intanto soggiunse vi supplico di voler scaldare un poco d'acqua per lavarmi tutto il corpo in un bagno portatile mi voglio ripulire e cambiare per meglio ricevere mio padre posi l'acqua sul fuoco e quando fu tiepida ne riempì il bagno portatile il giovane vi si immerse e lo lavai e asciugai io stesso poi egli si coricò nel suo letto e lo coprì bene quando fu riposato ed ebbe dormito qualche tempo mi disse principe compiacetevi di portarmi un melone e dello zucchero per rinfrescarmi dai molti meloni che restavano scelsi il migliore e lo posi su un piatto e siccome non trovavo un coltello per tagliarlo domandai al giovane se sapesse dove fossero bene uno mi rispose su questa cornice al di sopra della mia testa infatti lo vidi mi affrettai talmente per prenderlo che quando l'ebbi in mano inciampai in modo tale nella coperta che caddi sul giovane e involontariamente lo colpì col coltello al cuore e gli ispirò all'istante a tale spettacolo mandai un grido di dolore mi percossi la testa il viso e il petto mi lascerai l'abito mi gettai a terra pianzendo disperatamente poi alzando la testa e le mani al cielo esclamai signore vi domando perdono e se sono colpevole della morte di questo giovane non mi lasciate vivere più a lungo ciò nonostante riflettendo che le mie lacrime non potevano far rivivere il giovane e che sarei stato sorpreso da suo padre uscì dal sotterraneo abbassando la grossa pietra sull'entrata e coprendola di terra appena terminato questo lavoro volgendo l'occhio verso il mare scorsi il bastimento che veniva a riprendere il giovane pensando al partito da prendere disse a me stesso se mi faccio vedere il vecchio mi farà uccidere dai suoi schiavi quando troverà suo figlio ucciso tutto quello che potrei dire per giustificarmi non lo persuaderebbe mai della mia innocenza e poiché ne ho l'opportunità va il meglio sottrarmi al suo risentimento anziché affrontarlo mi era vicino al sotterraneo un grande albero e quei fronde foltissime mi parvero adatte per nascondermi mi arrampicai in modo da non poter essere scoperto e aspettai gli eventi il vecchio e gli schiavi sbarcarono e tosto avanzarono verso il sotterraneo ma quando videro la terra smossa di fresco impallidirono poi alzarono la pietra e scesero chiamarono il giovane per nome ma non risponde si raddoppia il loro timore lo cercano e lo trovano finalmente sul letto col coltello in mezzo al cuore poiché non aveva avuto il coraggio di strappargilo a tale vista ruppero in grida di dolore il vecchio cadde svenuto gli schiavi per fargli prendere aria lo portarono ai piedi dell'albero su cui mi trovavo ma ad onda di tutte le loro cure lo sventurato padre restò a lungo in quello stato e fece più di una volta a temere per la sua vita alla fine però rinvenne dal lungo svenimento allora gli schiavi portarono via il corpo di suo figlio scavarono una fossa e lo seppellirono il vecchio sostenuto da due servi col viso bagnato di lacrime gettò sopra il cadavere un pugno di terra poi gli schiavi riempirono la fossa fatto ciò imbarcarono le provviste rimaste e il vecchio oppresso dal dolore non potendo sostenersi fu posto su una specie di lettiga e trasportato a bordo subito il bastimento partì dopo la partenza del vecchio degli schiavi e del naviglio io restai solo disse il terzo monaco passavo la notte nel sotterraneo che non era stato coperto e di giorno camminavo intorno all'isola dopo un mese di simile vita avvertì che il mare calava considerevolmente e che non rimaneva più tra il continente e me che un piccolo tratto d'acqua posto lo attraversai scorgendo in lontananza un gran fuoco che mi diede qualche letizia se non che avvicinandomi scoprì di essere in errore invece di un fuoco era un castello di rame rosso che i raggi del sole facevano parere infiammato vedendolo da lontano mi sedetti vicino a quell'edificio sia per osservare la struttura ammirabile sia per rimettermi dalla stanchezza posto vi di dieci giovani che venivano verso di me erano tutti ciechi dall'occhio destro ed accompagnavano un vecchio di alta statura e di aspetto venerando si accostarono a me manifestando una grande gioia nel vedermi e domandandomi quale motivo mi avesse condotto là risposi che la mia storia era un po' lunga e che se volevano prendersi la pena di sedersi avrai appagato il loro desiderio si sedettero ed io narrai ciò che mi era accaduto da che ero uscito dal mio regno fino ad allora quando ebbi terminato il mio discorso questi giovani signori mi pregarono di entrare nel castello ed io accettai la loro offerta attraversammo un'infinità di sale di anticamere e di salotti elegantemente arredati e giungemmo in un gran salotto dove c'erano dieci piccoli sofà turchini che potevano servire tanto per sedersi e riposarsi durante il giorno quanto per dormirvi la notte in mezzo a quel circolo c'era un altro sofà meno elevato e del medesimo colore sul quale si stragiò il vecchio di cui si è parlato mentre i giovani si sedettero sugli altri dieci siccome ogni sofà non poteva contenere più di una persona uno di quei giovani mi disse amico sedetevi qui in mezzo su questo tappeto ma non fateci domande su ciò che ci riguarda né sulla ragione per cui siamo tutti ciechi dell'occhio destro contentatevi di vedere e non spingete più oltre la vostra curiosità il vecchio si alzò ed uscì ritornando con la cena per tutti mi diede pure la mia e sul finire del pasto presentò ad ognuno una tazza di vino la mia storia era loro sembrata così straordinaria che me la fecero ripetere alla fine della cena poi il vecchio si alzò ed entrato in un gabinetto portò sulla testa dieci catini l'uno dopo l'altro tutti coperti di una stoffa turchina e ne pose uno davanti a ciascuno dei giovani con una fiaccola ciascuno coprì il suo catino in essi c'era della cenere del carbone polverizzato e del nero fumo mescolarono tutte quelle sostanze e cominciarono a fregarsi e macchiarsi il viso così da fare orrore a vederli dopo essersi tinti così si misero a piangere e a battersi la testa ed il petto gridando incessantemente ecco il frutto del nostro odio e della nostra sregolatezza passarono quasi tutta la notte in quella strana occupazione alla fine cessarono ed il vecchio portò loro dell'acqua con la quale si lavarono il viso e le mani poi si spogliarono dei loro abiti sudici e ne indossarono altri puliti il giorno appresso appena fummo alzati uscimmo per prendere aria ed allora dissi loro qualunque sventura possa accadermi non saprei trattenermi dal chiedervi perché tutti quanti avete un occhio solo mi risposero che ciò non mi riguardava minimamente passammo la giornata intrattenendoci su cose indifferenti e quando venne la notte dopo aver cenato separatamente il vecchio portò di nuovo i catini e i giovani si imbrattarono piansero si batterono il petto e gridarono ecco il frutto del nostro ozio e della nostra sregolatezza il giorno appresso e l'altro ancora fecero lo stesso infine io non potei resistere alla mia curiosità e ripregai seriamente di appagarla o di insegnarmi per quale via potessi ritornare al mio regno uno di loro mi rispose per tutti gli altri non ti meravigli la nostra condotta se finora non abbiamo ceduto alle tue preghiere è stato per pura amicizia verso di te per risparmiarti la sventura di essere ridotto nel nostro stato se vuoi provare il nostro crudello destino dillo e ti daremo la soddisfazione che domanderai risposi che ero pronto ad ogni avvenimento ancora una volta riprese lo stesso uomo ti consigliamo di moderare la curiosità ne va della perdita del tuo occhio destro non importa ripresi vi dichiaro che se mi tocca simile sventura non vi riterrò colpevoli ma la imputerò a me solo mi disse ancora che anche quando avessi perduto l'occhio non potevo sperare di rimanere con loro supposto che io nutrissi simile pensiero perché il loro numero era compiuto e non poteva essere aumentato io replicai che non avrei voluto separarmi da gente così gentile ma che se la necessità lo richiedeva ero anche pronto a sottomettermici perché volevo che mi accontentassero a qualunque condizione e di essi signori vedendomi irremovibile nella mia risoluzione presero un montone e lo scannarono dopo avergli tolta la pelle mi presentarono il coltello di cui s'erano serviti dicendomi prendi questo coltello ti servirà presto noi ti cuceremo in quella pelle poi un uccello di enorme grandezza chiamato rock apparirà nell'aria e prendendoti per un montone piomberà su di te e ti alzerà fin sulle nubi ma non temere egli riprenderà il volo verso terra e ti poserà sulla cima di una montagna allora quel coltello sbarazzati dell'involucro cammina finché non sarai giunto a un castello di grandezza prodigiosa tutto coperto di rami d'oro di grossi smeraldi e di altre pietre preziose presentati alla porta che è sempre aperta ed entra noi siamo stati tutti in quel castello non ti diciamo nulla di ciò che vi abbiamo veduto né di quello che ci è capitato perché lo vedrai da te ti basti sapere che per essere stati là abbiamo perso l'occhio destro e dobbiamo fare la penitenza di cui sei stato testimonio la storia di ciascuno di noi in particolare è piena di avventure straordinarie e se ne farebbe un grosso libro ma noi non possiamo dirti di più dopo tale discorso ma vi luppai nella pelle di montone e mi impadronì del coltello quei giovani si presero la pena di cucirmi dentro mi lasciarono là e si ritirarono nel loro salone il rock di cui mi avevano parlato non tardò a farsi vedere piombò su di me mi prese fra gli artigli come un montone e mi trasportò sulla sommità di una montagna quando mi sentì a terra feci uso del coltello e mi sbarazzai della pelle correndo a difilato al castello l'uscio era aperto entrae in un cortile quadrato e vastissimo con novantanove porte di legno di sandalo e di aloe e una ad oro senza contare quelle alla sommità di molte scalinate magnifiche che conducevano agli appartamenti superiori ed altre ancora che non vedevo le cento porte in questione si aprivano su giardini e luoghi meravigliosi scorsi di fronte a me una porta aperta per la quale entrai in un gran salone dove erano sedute quaranta donzelle di una bellezza così perfetta da superare ogni ammirazione appena mi videro si alzarono tutte insieme e senza aspettare i miei complimenti mi dissero con grandi mostrazioni di gioia bravo signore siate il benvenuto dopo molta resistenza da parte mia mi obbligarono a sedermi in un posto un po' più elevato del loro e siccome dimostravo di averne rincrescimento mi dissero questo è il vostro posto da questo momento voi siete il nostro signore il nostro padrone il nostro giudice e noi siamo vostre schiave pronti a ricevere i vostri comandi nulla al mondo signora mi meravigliò tanto come l'ardore di quelle belle ragazze a rendermi ogni specie di favori una portò dell'acqua calda e mi lavò i piedi un'altra mi versò dell'acqua profumata sulle mani le altre portarono tutto quanto era necessario per farmi mutare di vestito mi prepararono una colazione magnifica io bevi e mangiai poi feci loro un esteso racconto delle mie avventure quando ebbe terminato di raccontare la mia storia alle 40 donne alcune di loro sedute più vicino a me restarono per intrattenermi mentre le altre si alzavano per andare in cerca di lumi ne portarono tanti da eguagliare meravigliosamente la chiarezza del giorno altre donne apparecchiarono una tavola di frutta secca di confetti e di bevande altre ne caricarono un'altra di molte specie di liquori ed altre infine comparvero con strumenti musicali quando tutto fu pronto mi invitarono a prendere posto dopo la cena i concerti e il ballo una delle donne mi disse voi siete stanco per il cammino fatto oggi è tempo di riposarvi il vostro appartamento è preparato ma prima di riterarvi scegliete fra noi una che vi serva io risposi che mi sarei guardato bene dal fare la scelta poiché erano tutte ugualmente belle e spiritose degne del mio rispetto e dei miei servigi e che mai non avrei commesso l'inciviltà di preferire l'una all'altra siamo persuase replicò lei della vostra gentilezza e vediamo bene che il timore di far nascere gelosia fra noi vi trattiene ma non temete vi avvertiamo che la vostra scelta non farà nascere gelosia perché è convenuto che ogni giorno una dopo l'altra avremo il medesimo onore scegliete dunque liberamente dovetti cedere alla loro insistenza tesi la mano alla donna che parlava a nome delle altre e la mi diede la sua e mi condusse in un magnifico appartamento così passò quella notte al mattino dopo avevo appena terminato di vestirmi quando le altre trentanove donne vennero nel mio appartamento tutte ornate diversamente dal giorno innanzi mi condussero al bagno ovesse medesime mio malgrado mi rendettero tutti i servigi di cui avevo bisogno e quando ne uscì mi fecero indossare un altro abito assai più bello del primo passammo il giorno quasi sempre a tavola e quando venne l'ora del riposo mi pregarono di fare la mia scelta infine signora per non tediarvi ripetendo sempre la stessa cosa vi dirò che passai un anno intero in quel modo e che durante tutto quel tempo la mia vita fu interamente felice alla fine dell'anno nulla poteva sorprendermi di più le 40 donne invece di presentarsi a me con l'ordinaria gaiezza e domandarmi come stessi entrarono un mattino nel mio appartamento con le guance bagnate di pianto vennero ad abbracciarmi teneramente una dopo l'altra e mi dissero addio caro principe addio bisogna abbandonarvi le loro lacrime mi intenerirono e io le pregai di dirmi la causa del loro dolore e della separazione di cui mi parlavano in nome di dio ditemi se è il mio potere di consolarvi o se il mio soccorso è inutile molti cavalieri prima di voi ci hanno fatto l'onore di visitarci ma nessuno ebbe mai la grazia la dolcezza e la giocondità vostra non sappiamo come vivere senza di voi terminando queste parole ricominciarono a piangere amaramente mie amabili donne ripresi allora per carità non fatemi languire di più ditemi la ragione del vostro dolore ma disposero quale altra ragione sarebbe capace di affliggerci se non quella di separarci da voi forse non vi rivedremo mai più se però lo vorrete e ne avrete abbastanza dominio su voi stesso non sarebbe impossibile ricongiungerci donne ripresi non comprendo nulla di ciò che dite vi prego di parlare più chiaro ebbene disse una di loro per soddisfarvi vi diremo che siamo tutte principesse figlie di re viviamo qui insieme in Letizia come avete veduto ma alla fine di ogni anno siamo obbligati ad allontanarci per 40 giorni onde soddisfare certi doveri indispensabili che non ci è permesso rivelare poi ritorniamo in questo castello l'anno è finito ieri bisogna oggi lasciarvi questa è la ragione della nostra afflizione prima di uscire vi lasceremo tutte le chiavi in particolare quella delle cento porte così troverete di che soddisfare la vostra curiosità e raddolcire la vostra solitudine durante la nostra assenza ma per il nostro bene per il nostro comune interesse vi raccomandiamo di non aprire la porta d'oro se l'aprirete non vi vedremo mai più speriamo che interrettamente questa raccomandazione ne va del nostro riposo e della felicità della vostra vita vi scongiuriamo dunque di non commettere simile errore e di darci la consolazione di trovarvi qui dopo 40 giorni porteremmo con noi la chiave della porta d'oro se non fosse un'offesa per voi dubitare della vostra discrezione il discorso di quelle belle principesse mi diede molta pena non mancai di dir loro che quella assenza mi addolorava assai e ringraziandole del buon avvertimento datomi le rassicurai che ne avrei tenuto conto e che avrei fatto cose ancora più difficili per procurarmi il piacere di passare il resto dei miei giorni con donne di tale merito i nostri addii furono tenerissimi e abbracciai una dopo l'altra poi partirono ed io restai solo nel castello la piacevole compagnia il buon trattamento i concerti le gioie mi avevano talmente occupato tutto l'anno che non avevo avuto il tempo né il desiderio di vedere le meraviglie di quel castello incantato non avevo fatto neppure attenzione ai mille oggetti ammirabili che avevo tutti i giorni innanzi agli occhi tanto ero stato rapito dalla bellezza delle donne e dal piacere di vederle occupate unicamente con me fui vivamente afflitto dalla loro partenza e quantunque la loro lontananza dovesse essere solo di 40 giorni mi parvi di dover passare un secolo senza di loro mi ripromettevo di mi ripromettevo mi ripromettevo di non dimenticare l'avvertimento importante di non aprire cioè la porta d'oro ma siccome salvo quell'eccezione mi era permesso di soddisfare la mia curiosità presi secondo l'ordine in cui erano messe la prima chiave aprì la prima porta ed entrai in un frutteto al quale credo nessun altro al mondo possa paragonarsi e penso che quello che ci viene promesso dopo la morte dalla nostra religione non possa essere più bello la simmetria l'eleganza la mirabile disposizione degli alberi l'abbondanza e la diversità dei frutti di mille specie sconosciute la loro freschezza la loro bellezza tutto incantava la vista non debbo omettere signora di farvi osservare che questo giardino delizioso era irrigato in modo assai singolare rigagnoli scavati con arte e proporzione portavano abbondante acqua alle radici degli alberi che ne avevano bisogno per far spuntare le prime foglie e i fiori altri ne portavano meno a quelli dove i frutti erano già formati altri anche meno a quelli dove i frutti ingrossavano altri portavano solo lo stretto necessario a quelli i cui frutti avevano acquistato la giusta grossezza e aspettavano la maturazione ma tale grossezza sorpassava assai quella dei frutti ordinari dai nostri giardini gli altri rigagnoli infine che terminavano agli alberi i quali avevano i frutti maturi non avevano se non l'umidità necessaria per conservarli nel medesimo stato senza corromperli io non cessavo di esaminare ed ammirare quel luogo così bello e non ne sarei uscito mai se non avessi desiderato scoprire le altre bellezze ancora non viste uscii con l'animo pieno di quelle meraviglie chiusi la porta e apri quella che veniva dopo invece di un frutteto trovai un giardino che non era meno singolare nel suo genere era uno spazio grandissimo irrigato non con la medesima profusione del precedente ma con maggior cura perché non si desse acqua ai fiori più del bisogno rose gelsomini violette narcisi giacinti anemoni tulipani ranuncoli garofani e un'infinità ad altri fiori che altrove sbocciavano in diversi tempi qui si trovavano fioriti insieme e non vè cosa più dolce dell'aria che si respira in quel giardino aprì la terza porta e trovai una vastissima uccelliera era una stricata di marmo e la gabbia era di sandero e di legno d'aloe racchiudevo un'infinità di usignoli cardellini canarini lodolette e altri uccelli ancora più armoniosi dei quali non avevo mai sentito parlare in tutta la mia vita i vasi per il cibo erano di diaspro o d'agata inoltre quell'uccelliera era elegantissima vedendo la sua grandezza giudicai che occorressero non meno di cento persone per tenerla pulita eppure non vidi nessuno il sole era al tramonto e io mi ritirai dal suo avecanto di quella moltitudine di uccelli tornando al mio appartamento deciso ad aprire le altre porte nei giorni seguenti ad eccezione della centesima l'indomani andai ad aprire la quarta e se quello che avevo visto il giorno innanzi era stato capace di entusiasmarmi quello che vidi allora mi rapina estasi posì il piede in un grande cortile circondato da un edificio di meravigliosa architettura di cui non farò la descrizione essendomi ciò impossibile quell'edificio aveva 40 porte tutte aperte ciascuna delle quali conduceva a un tesoro ne vidi alcuni che valevano più di un grandissimo regno il primo conteneva mucchi di perle e ciò che sorpassa ogni immaginazione perle preziosissime grosse come uova di piccione nel secondo tesoro vi erano diamanti carbon chierubini nel terzo smeraldi nel quarto oro in verghe nel quinto oro monetato nel sesto argento in verghe nei due seguenti monetato gli altri contenevano ametiste crisoliti topazzi opali turchesi e tutte le altre pietre che conosciamo senza parlare dell'agata del diaspro della corniola del corallo di cui vera un magazzino pieno dopo aver veduto tutte quelle ricchezze esclamai no se tutti i tesori di tutti i regni della terra fossero uniti in un medesimo luogo non potrebbero uguagliare questi io non mi arresterò signora a farvi la narrazione di tutte le cose rare che vidi nei giorni seguenti ma vi dirò soltanto che non mi bastarono meno di 39 giorni per aprire le 99 porte ed ammirare tutto ciò che si offerse alla mia vista giunse il 40esimo giorno dopo la partenza delle principesse seguitò a dire il terzo monaco ah se avessi saputo mantenere quel giorno il controllo della mia volontà sarai oggi il più felice di tutti gli uomini invece di sarai oggi il più felice di tutti gli uomini invece di essere il più sventurato e se dovevano arrivare il mattino dopo e il piacere di rivederle avrebbe dovuto frenare la mia curiosità ma per una debolezza di cui non cesserò mai di pentirmi soccombetti alla tentazione del demonio il quale non mi diede riposo finché non mi liberai della pena che provavo aprii la porta fatale che avevo promesso di non aprire e non appena ebbi mosso il piede per entrare un odore piacevolissimo ma contrario al mio gusto mi fece cadere svenuto tornai in me e invece di profittare di questo avvertimento chiudere la porta e vincere per sempre il desiderio di soddisfare la mia curiosità entrai dopo aver aspettato che l'aria pura avesse moderato quell'odore così da non esserne più infastidito trovai un logo vasto a volta con pavimento sparso di zafferano molti candelieri d'oro massiccio con lumi accesi mandavano un odore d'aloe ed ambra grigia e quella illuminazione era ancora aumentata da lampade d'oro ed argento ripiene d'olio misto a diverse specie di profumi fra un numero molto grande di oggetti che attiravano la mia curiosità scopersi un cavallo nero così bello che non se ne può trovare uno migliore mi avvicinai per ammirarlo e trovai che aveva sella e briglie d'oro massiccio la sua mangiatoia era piena d'orzonetto e di sesamo e per bere aveva acqua di rose lo presi per la briglia e lo trassi fuori vi montai su e vogli farlo camminare ma non si muoveva allora lo percossi con uno scudiscio che avevo preso nella magnifica scuderia appena si sentì colpito cominciò a nitrire con orribile strepito poi spiegando due ali di cui non mi ero accorto si levò nell'aria io pensai a tenermi saldo e ad onta dello spavento che mi aveva assalito riuscì a sostenermi ripreso il suo volo verso la terra si fermò sul terrazzo di un castello dove senza darmi tempo di metter piedi a terra mi scrollò via così violentamente che mi fece cadere indietro e con l'estremità della corda mi cavò l'occhio destro ecco e in qual modo sono diventato cieco mi ricordai allora di quello che mi avevano predetto i dieci giovani il cavallo riprese il suo volo e scomparve e mi rialzai afflittissimo della sventura di cui ero il solo responsabile i dieci giovani secchi non erano nel salone li aspettai finché poco tempo dopo giunsero col vecchio essi non parvero meravigliati di rivedermi né della perdita del mio occhio e mi dissero siamo ben dolenti di non poterci felicitare per il tuo ritorno come desideravamo ma non siamo noi la causa della tua sventura avrai torto se vi accusassi risposi loro me la sono attirata da me e a me solo da tutta la colpa se è un conforto per gli sventurati ripresero avere dei compagni di sventura il nostro esempio può dartene è avvenuto a noi ciò che hai sperimentato tu pure noi abbiamo provato tutti i piaceri per un anno intero e avremmo continuato a godere della stessa felicità se non avessimo aperto la porta d'oro durante l'assenza delle principesse non sei stato più saggio di noi e hai sofferto la stessa pena vorremmo tenerti qui per fare la stessa penitenza che facciamo noi e di cui non sappiamo la durata ma ti abbiamo già dichiarato la ragione che ce lo impedisce perciò va alla corte di bagdad dove troverai di che decidere del tuo destino mi insegnarono la via che dovevo percorrere e mi separai da loro durante il cammino mi feci radere la barba e le sopracciglia e presi l'abito da monaco è molto tempo che cammino e oggi all'inizio della notte sono giunto in questa città ho incontrato alla porta questi monaci miei confratelli e tutti e tre fummo sorpresi di vederci ciechi del medesimo occhio non potemmo però trattenerci sulla disgrazia comune abbiamo avuto appena il tempo di venire a implorare quel soccorso che voi ci avete generosamente accordato il terzo monaco aveva così terminato di raccontare la sua storia e zobeida rivolgendosi a lui e ai suoi confratelli disse andate siete liberi tutti e tre ritiratevi dove più vi piace ma uno di essi rispose signora vi supplichiamo di perdonare la nostra curiosità e di permetterci di ascoltare la storia di questi signori che non hanno ancora parlato allora la donna volgendosi al califo al visir jahafar ed a marsur che essa stessa non conosceva per quello che erano disse loro tocca a voi raccontare la vostra storia il gran visir jahafar rispose a zobeida signora per obbedirvi non abbiamo che a ripetervi ciò che vi abbiamo detto prima di entrare in casa vostra noi siamo mercanti di mossul e veniamo a bagdad per negoziare le nostre mercanzie che sono in un magazzino dentro un albergo dove siamo alloggiati abbiamo pranzato oggi con molte altre persone della nostra professione verso un mercante di questa città il quale dopo aversi trattato con delicate vivande e squisiti vini ha fatto venire ballerini ballerine cantanti e musici il gran rumore che insieme facevano attirò la guardia che arrestò una parte della brigata noi per fortuna ci salvammo ma siccome era già tardi e la porta del nostro albergo era chiusa non sapevamo dove ritirarci per caso passammo per la vostra strada e udimmo il rumore gaio che si faceva qui ciò ci spinse a bussare alla vostra porta ed ecco quanto dovevamo dirvi per obbedire ai vostri ordini Zabeda dopo aver ascoltato simile discorso sembrò esitare su ciò che dovesse dire i tre monaci se ne accorsero e la supplicarono di avere per i tre mercanti di Mosul la stessa bontà usata a loro riguardo ebbene disse acconsento voglio che tutti mi dobbiate la stessa riconoscenza vi faccio grazia a condizione che usciate da questa casa subito e vi riteriate dove vi piacerà avendo Zabeda dato questo ordine con un tono che dimostrava che voleva essere obbedita il califo il visir marsur i tre monaci e il facchino uscirono senza replicare perché la presenza dei sette schiavi armati gli incuteva rispetto quando furono fuori dalla casa e la porta fu chiusa il califo disse ai monaci senza rivelare loro chi fosse voi signori che siete stranieri e giunti recentemente in questa città dove pensate di andare signore questo appunto ci preoccupa seguiteci rispose il califo vi aiuteremo noi poi disse il gran visir conducete lì a casa vostra e domattina accompagnateli da me voglio far scrivere le loro storie meritano di avere un posto negli affari del mio regno il visir Zafar condusse con sai tre monaci il facchino si ritirò in casa sua ed il califo accompagnato da Masrur andò nel suo palazzo si coricò ma non poté chiudere occhio tanto aveva lo spirito pieno di tutto ciò che aveva veduto e udito soprattutto era ansioso di sapere chi fosse Zobeida quale ragione potesse avere di maltrattare le sue cagne nere e perché Amina avesse il seno pieno di cicatrici ed era ancora occupato in tali pensieri quando spuntò il giorno si alzò andò nella sala dove teneva il suo consiglio e dava udienza e si sedette sul trono il gran visir giunse qualche tempo dopo facendogli i consueti omaggi visir gli disse il califo gli affari che dobbiamo regolare adesso non sono molto interessanti è più importante quello delle tre donne e delle cagne nere io non avrò l'animo in pace prima di aver chiarito completamente quanto abbiamo visto ieri sera andate fate venire quelle donne e conducete nel medesimo tempo i monaci il visir che conosceva lo spirito vivo e ardente del suo padrone si affrettò ad obbedire giunse in casa delle donne e spose loro in modo gentilissimo l'ordine che aveva di condurle dal califo senza parlare peraltro di ciò che era accaduto in casa loro le donne si coprirono con veli e uscirono col visir il quale passando da casa sua prese con sé tre monaci che avevano avuto il tempo di sapere che avevano veduto il califo e gli avevano parlato senza saperlo il visir li condusse al palazzo e si disimpegnò della sua missione con tanta dirigenza che il califo ne fu molto soddisfatto questo principe per mantenere il decoro davanti agli ufficiali della sua casa che erano presenti fece sistemare le donne dietro la cortina della sala che metteva nel suo appartamento e trattenne presso di sé i tre monaci i quali mostrarono col loro rispettoso contegno di non ignorare davanti a chi avevano l'onore di comparire quando le donne furono al loro posto il califo rivoltosi a loro disse signore facendovi conoscere che mi sono introdotto stanotte in casa vostra travestito da mercante certo vi susciterò timore temerete di avermi offeso e crederete forse che vi abbia fatto venire qui per mostrarvi il mio risentimento ma rassicuratevi siate persuase che sono anzi contento della vostra condotta io desidererai che tutte le donne di bagdad avessero tanta saggezza quanta ne avete mostrata voi mi ricorderò sempre della vostra moderazione dopo l'inciviltà commessa da noi io ero allora un mercante di musulma ma ora sono Harun al Rashid il quinto califo della gloriosa stirpe di Abbas che occupa il posto del nostro gran profeta vi ho chiamate soltanto per conoscere chi siete e domandarvi per quale ragione una di voi dopo aver maltrattato le due cagne nere ha pianto con loro e perché un'altra di voi ha il seno coperto di cicatrici qualunque califo avesse pronunciato queste parole con voce chiara e le tre donne le avessero intese il visir Jafar non tralasciò di ripeterle storia di Zobeida grande sultano disse Zobeida al califo la storia che devo raccontare a vostra maestà è una delle più sorprendenti di cui si sia mai sentito parlare le due cagne nere ed io siamo tre sorelle nate da una stessa madre e da uno stesso padre e vi dirò per quale caso straordinario siano state mutate in cagne le due donne che stanno con me sono anch'esse sorelle mie per via di padre ma di un'altra madre quella che ha il seno coperto di cicatrici si chiama Amina l'altra Sofia e io Zobeida dopo la morte di mio padre i beni che ci aveva lasciati furono divisi ugualmente fra noi e quando queste due ultime sorelle ebbero presa la loro parte si separarono e andarono ad abitare con la loro madre le altre due sorelle ed io restammo con nostra madre la quale viveva ancora ma che morendo lasciò a ciascuna di noi mille dinar ciascuna ebbe ciò che le apparteneva poi le due sorelle maggiori poiché sono io la minore si maritarono e seguendo i loro mariti mi lasciarono sola poco tempo dopo il loro matrimonio il marito della prima vendette tutto ciò che aveva di beni e di mobili e col denaro ricavato andò in africa con la moglie là il marito sciupò in divertimenti tutti i suoi beni e quel che gli aveva portato la moglie poi vedendosi ridotto all'estrema miseria trovò il pretesto di ripudiarla e la scacciò essa ritornò a bagdad non senza aver sofferto disagi incredibili durante il lungo viaggio venne a rifugiarci da me in uno stato così degno di pietà che ne avrebbe ispirata ai cuori più duri io la ricevetti con affezione le domandai perché fosse in così miserabile stato e lei mi confidò piangendo la cattiva condotta del marito e l'indegno trattamento che le aveva fatto subire fui commossa dalla sua sventura e piansi con lei la feci poi mettere in un bagno le diedi degli abiti e le dissi sorella tu sei la maggiore e io voglio considerarti come mia madre durante la tua assenza Dio ha benedetto i pochi beni che mi sono capitati in sorte e l'impiego che ne ho fatto allevando bacchi da seta io non ho nulla che non ti appartenga e di cui tu non possa disporre come un'altra me stessa vivemmo insieme molti mesi d'accordo e mentre ci trattenevamo sovente sulla nostra terza sorella ed eravamo meravigliate di non averne notizie essa giunse nello stesso cattivo stato dell'altra suo marito l'aveva maltrattata nello stesso modo e io la ricevetti con uguale amorevolezza qualche tempo dopo le mie due sorelle sotto pretesto che mi erano di peso dissero che avevano deciso di rimaritarsi io risposi che se non avevano altra ragione che quella di adottarmi potevano continuare ad abitare con me in tutta sicurezza che i miei beni sarebbero bastati per mantenerci tutte e tre secondo la nostra condizione soggiungendo come potete dopo l'esperienza fatta pensare al matrimonio una seconda volta sapete quanto sia raro trovare un marito perfettamente gentile credetemi continuiamo a vivere insieme il meglio che ci sarà possibile tutto ciò che dissi fu perfettamente inutile si rimaritarono poi tornarono a trovarmi dopo qualche mese facendomi mille scuse per non aver seguito il mio consiglio tu sei giovane assai mi dissero ma sei più saggia di noi se vuoi accoglierci un'altra volta e considerarci tue schiave non ci capiterà più di commettere un errore così grande care sorelle risposi io non sono mutata ritornate e godete con me di quello che ho allora le abbracciai e restammo insieme come prima era un anno che stavamo in perfetta unione vedendo che Dio aveva benedetto le mie ricchezze formai il disegno di fare un viaggio per mare e di rischiare qualche cosa nel commercio perciò andai con le mie due sorelle a Bastora dove comprai una nave tutta equipaggiata che caricai di mercanzie fatte venire da Bagdad sciogliemmo la vela con un vento favorevole ed uscimmo subito dal Golfo Persico quando fummo in alto mare prendemmo la via delle Indie e dopo 20 giorni di navigazione vedemmo terra era una montagna altissima ai piedi della quale scoprimmo una città che sembrava molto grande siccome avevamo il vento favorevole arrivammo di buon'ora al porto e vi gettammo l'ancora non ebbi la pazienza di aspettare le mie sorelle mi feci sbarcare da sola e andai in città qui trovai un gran numero di persone sedute e altre in piedi avvicinatemi a loro riconobbi che erano pietrificate entrai nella città e passai in molte strade dove vi erano uomini in tutte le attitudini ma tutti pietrificati nel quartiere dei mercanti trovai la maggior parte delle botteghe chiuse e scopersi in quelle aperte delle persone pietrificate giunta in una gran piazza vidi una gran porta coperta di lamine d'oro i cui battenti erano aperti dopo aver considerato l'edificio mi persuasi che dovesse essere il palazzo del principe che regnava su quel paese e vi entrai attraversai un gran cortile passai in un secondo e da quello in un altro ma non trovai che silenzio e uomini pietrificati essendo penetrata in un quarto cortile osservai nel fondo un bellissimo edificio le cui finestre erano chiuse con un'inferriata d'oro massiccio e vi entrai in una sala c'erano molti eunuchi neri pietrificati passai in un'altra sala riccamente ammobiliata dove vidi una donna pure mutata in pietra capii che era la regina da una corona d'oro che aveva in testa e da una collana di perle rotondissime di una grandezza spropositata esaminai da vicino e mi parve che non ci potesse essere nulla di più bello ammirai per qualche tempo le ricchezze e la magnificenza di quella stanza e soprattutto il tappeto i cuscini ed il sofà sire disse zobeida continuando a parlare al califo nella stanza della regina pietrificata passai in molti altri appartamenti e gabinetti eleganti e magnifici e giunsi in una stanza di grandezza straordinaria dove c'era un trono d'oro massiccio smaltato di grossi smeraldi e un letto di ricca stoffa sulla quale splendeva un ricamo di perle ciò che maggiormente mi sorprese fu una luce brillante sopra il letto curiosa di sapere da dove venisse salì e sporsi la testa e vidi su un piccolo scapello un diamante grosso quanto un uovo di struzzo vera a capo del letto dall'uno e dall'altro lato un lume acceso di cui non compresi l'uso ma simile circostanza mi fece credere che vi fosse qualche vivente in quel superbo palazzo perché non potevo credere che quei lumi potessero restare accesi per virtù propria siccome tutte le porte erano aperte o soltanto socchiuse scorsi anche altri appartamenti belli quanto quelli già visti andai fino alla credenza e ai guardaroba pieni di ricchezze infinite e mi occupai talmente di tutte quelle meraviglie che dimenticai me stessa non badai più alla mia nave né alle mie sorelle e pensai solo a soddisfare la mia curiosità intanto si avvicinava la notte avvertendomi che era tempo di ritirarmi vogli riprendere il cammino per dove ero venuta ma non mi fu facile ritrovarlo mi persi negli appartamenti e quando mi trovai nella grande stanza dove erano il trono il letto il grande diamante i lumi accesi era così tardi che risolvetti di passarvi la notte e rimandare al giorno seguente prestissimo il ritorno alla mia nave mi gettai sul letto non senza qualche paura di vedermi sola in quel luogo deserto e fu senza dubbio la paura che mi impedì di dormire era circa mezzanotte quando udì la voce di un uomo che leggeva il corano mi alzai subito e prendendo un lume andai distanza in stanza verso il luogo da dove mi pareva provenisse la voce mi arrestai finalmente alla porta ad una stanza non potevo dubitare che la voce venisse da lì posato il lume a terra e guardando attraverso una fessura mi parve che fosse un oratorio infatti vi erano come nei nostri templi una nicchia che mostrava dove bisognava volgersi per fare la preghiera delle lampade sospese e accese e due candelieri con grossi e bianchi ceri accesi vidi anche un piccolo tappeto steso a guida di quelli che si usano presso di noi per mettervisi a pregare un giovane di bello aspetto seduto su quel tappeto recitava con grande attenzione il corano che era posato innanzi a lui su un piccolo leggio a tale vista rapita d'ammirazione cercavo nella mia mente come potesse essere che ci fosse un solo vivente in una città dove tutti erano pietrificati e non dubitai che vi fosse in ciò qualche cosa di meraviglioso siccome la porta era appena socchiusa l'aprì entrai e stando in piedi davanti alla nicchia feci ad alta voce questa preghiera lode a dio che mi ha favorito ad una felice navigazione mi faccia la grazia di proteggermi fino al nostro arrivo al paese ascoltatemi signore esaudite la mia preghiera il giovane si volse verso di me e disse mia buona donna vi prego di dirmi chi siete e ciò che vi ha condotta in questa desolata città in compenso vi dirò chi sono io quel che mi è avvenuto per quale ragione gli abitanti di questa città sono ridotti nello stato in cui li avete visti e perché io soltanto sono sano e salvo in così spaventevole disastro mi raccontai in poche parole dove venivo ciò che mi aveva spinto a fare quel viaggio e in quel modo ero giunta felicemente in porto dopo una navigazione di venti giorni terminando lo pregai di mantenere a sua volta la promessa fattami mostrandogli quanto fossi meravigliata della spaventevole desolazione osservata in tutti i luoghi in cui ero passata mia cara signora disse allora il giovane abbiate un po' di pazienza dette queste parole chiuse il corano lo mise in un astuccio prezioso e lo ripose nella nicchia io approfittai di questo tempo per esaminarlo attentamente e trovai in lui tanta grazia e bellezza provai una commozione mai sentita prima e gli mi fece sedere vicino a sé e prima che cominciasse il suo discorso non potei trattenermi dal dirgli amabile e caro oggetto dell'anima mia non potei aspettare con più impazienza la spiegazione di tante cose meravigliose che hanno colpito la mia vista dal primo passo fatto per entrare nella vostra città e la mia curiosità non potrà essere soddisfatta mai abbastanza presto parlatevene a scongiuro ditemi per quale miracolo siete solo in vita fra tante persone morte in modo inaudito signora mi disse il giovane voi mi avete dimostrato di avere fede nel vero dio una preghiera che gli avete rivolta udirete una prova evidente della sua grandezza e della sua potenza questa città era la capitale di un potente regno di cui era il mio padre questo principe la sua corte tutta gli abitanti della città e tutti gli altri suoi sudditi erano maghi adoratori del gran fuoco di Nardun l'antico re dei giganti ribelli a dio quantunque nato da un padre e da una madre idolatri io ebbi la fortuna di avere nell'infanzia una governante una buona donna che sapeva a memoria il corano e lo spiegava mio principe mi diceva sovente non vi è che un vero dio guardatevi per riconoscerne e adorarne altri mi insegnò a leggere l'arabo e il libro che mi diede per esercitarmi fu il corano quando fui cresciuto essa mi spiegò tutti i punti di questo eccellente libro e me ne pervase tutto lo spirito ignorando mio padre e ogni altro morì ma dopo avermi insegnato tutto ciò che si riferiva alla religione musulmana dopo la sua morte persistetti costantemente nel sentimento che essa mi aveva insegnato ed ebbe in orrore il falso dio Nardun e l'adorazione del fuoco passarono tre anni e qualche mese poi una voce tonante fece udire le seguenti parole abitanti abbandonate il culto di Nardun del fuoco e adorate il dio unico e misericordioso la stessa voce si fece udire per tre giorni di seguito ma non essendosi convertito nessuno l'ultimo dei tre giorni alle tre o alle quattro del mattino tutti gli abitanti furono in un istante mutati in pietra ognuno allo stato e nella posizione in cui si trovava anche il re mio padre subì questa sorte e fu mutato in una pietra nera che è in un angolo di questo palazzo e la regina mia madre ebbe lo stesso destino io sono il solo su cui dio non ha fatto cadere il suo terribile castigo da allora continuo a servirlo con più fervore di prima e sono persuaso mia bella signora che gli vi abbia inviato per mia consolazione io gliene rendo infinite grazie perché vi confesso che questa solitudine mi riesce assai pesante tale racconto e specialmente le ultime parole terminarono di infiammarmi per lui e gli dissi principe non bisogna dubitare che la provvidenza mi abbia spinta nel vostro porto per offrirvi l'occasione di abbandonare un luogo così funesto la nave con la quale sono venuta può dimostrarvi che godo di qualche considerazione a bagdad dove ho lasciato ricchezze assai considerevoli posso offrirvi un asilo finché il vostro sultano vicario del gran profeta che voi riconoscete non vi avrà reso gli onori che meritate questo celebre principe vive a bagdad e non appena sarà informato del vostro arrivo nella sua capitale vi dimostrerà che non si implora in vano il suo aiuto non è possibile che restiate in una città dove tutto deve riuscirvi insopportabile la mia nave è il vostro servizio e potete disporne egli accettò l'offerta e passammo il resto della notte intrattenendoci sul nostro imbarco quando spuntò il giorno uscimmo dal palazzo e andammo al porto dove trovammo le mie sorelle il capitano e i miei schiavi inquieti sul mio conto dopo aver presentato le mie sorelle al principe raccontai loro ciò che mi aveva impedito di ritornare alla nave il giorno precedente l'incontro col giovane principe la sua storia e la ragione della desolazione della bella città i marinai impiegarono più giorni a sbarcare le merci che io avevo portato e a imbarcarvi in loro vese tutto ciò che vi era di più prezioso nel palazzo pietre, oro e argento lasciamo i mobili e un'infinità di lavori di oreficeria perché non potevamo portarli sarebbero corse molte navi per trasportare a Bagdad tutte le ricchezze che avevamo davanti agli occhi dopo aver caricato la nave delle cose che più ci piacquero prendemmo le provviste e l'acqua che ci parvero necessarie per il nostro viaggio e indipartimmo col vento favorevole il giovane principe le mie sorelle ed io ci intrattenemmo tutti i giorni piacevolmente ma e me la nostra unione non durò molto a lungo le mie sorelle si ingelosirono dell'intesa che scoprirono fra il giovane principe e me e mi domandarono un giorno maliziosamente che cosa avrei fatto di lui giungendo a Bagdad mi accorsi benissimo che mi facevano questa domanda per scoprire i miei sentimenti e fingendo di volgerla cosa a scherzo risposi loro che lo avrei preso per sposo e poi volgendomi al principe gli dissi vi prego di acconsentire appena saremo a Bagdad vorrei offrirvi la mia persona per essere la vostra umile schiava per offrirvi i miei servizi e riconoscervi come padrone assoluto della mia volontà signora rispose il principe non so se scherziate in quanto a me vi dichiaro seriamente davanti alle vostre sorelle che fin da questo momento accetto di buon cuore la vostra offerta non già per considerarvi come una schiava ma come una padrona non pretendo infatti di avere alcuna autorità sulle vostre azioni a simile discorso le mie sorelle mutarono colore e osservai fin da allora che non nutrivano più per me gli stessi sentimenti di prima eravamo nel golfo persico e ci avvicinavamo a Bassora dove col vento favorevole si sperava di giungere l'indomani ma la notte mentre dormivo le mie sorelle mi gettarono in mare insieme al principe il quale annegò io mi mantenni qualche tempo a galla e poi per fortuna o piuttosto per miracolo toccai il fondo mi tiressi verso un punto nero che sembrava terra per quanto l'oscurità mi permetteva di vedere infatti giunse a una spiaggia e la luce del giorno mi fece capire che ero su un'isola deserta situata a circa venti miglia da Bassora feci subito asciugare i miei abiti al sole e camminando osservai molte specie di frutta per cui non perdetti la speranza di poter conservare la vita mi riposavo all'ombra quando vidi un serpente alato grossissimo e lunghissimo che avanzava verso di me agitando la lingua mi alzai e vedendo che era seguito da un altro serpente ancora più grosso che lo teneva per la coda e faceva grandi sforzi per divorarlo ne ebbi pietà invece di fuggire ebbi l'arditezza e il coraggio di prendere una pietra scagliarla con tutte le mie forze contro il serpente più grosso quello se ne volò via io lo seguì a lungo con lo sguardo ma avendolo perso di vista tornai a sedere all'ombra di un albero nel destarmi pensate quale fu il mio stupore quando vidi accanto a me una donna nera di fisionomia vivace e piacevole che teneva legate due cagne nere mi drizzai e le domandai chi fosse e lei mi rispose io sono il serpente da te poc'anzi liberato dal suo crudele nemico ho creduto di poterti ringraziare dell'importante favore che mi hai reso facendo ciò che ho fatto ho saputo del tradimento delle tue sorelle e per vendicarti appena liberata grazie al tuo generoso soccorso ho chiamato molte fate mie compagne abbiamo portato tutte le merci della tua nave nei tuoi magazzini di bagdad e queste due cagne nere sono le tue sorelle alle quali ho dato questa forma ma un tale castigo non basta voglio ancora che tu le tratti nel modo che ti dirò a queste parole la fata mi abbracciò strettamente mi trasportò nella mia casa di bagdad e vidi nel mio magazzino tutte le ricchezze che erano sulla nave prima di abbandonarmi mi lasciò le due cagne e mi disse sotto pena di essere mutata anche tu in cagna ti ordino a nome di colui che agita i mari di dare ogni notte cento frustate a ciascuna delle tue sorelle per punirle del delitto commesso contro di te e contro il giovane principe da loro annegato fui obbligata a prometterle di obbedire ai suoi ordini da allora le ho trattate ogni sera a malincuore come è veduto vostra maestà mostro loro con le mie lacrime quanto dolore e ripugnanza mi costi adempieri al crudo dovere e voi vedete che invece ad essere biasimata merito ad essere compianta se vi è qualche altra cosa che mi riguardi e di cui possiate desiderare d'essere informato mia sorella Amina ve ne darà spiegazione col racconto della sua storia il califo dopo aver ascoltato Zobeida con ammirazione incaricò il visir di pregare la graziosa Amina di vorergli spiegare perché fosse segnata da cicatrici allora Amina per compiacere il califo raccontò storia di Amina gran califo disse Amina il califo per non ripetere le cose di cui vostra maestà è stata informata da mia sorella vi dirò solo che mia madre avendo preso una casa per passarvi la sua vedovanza mi maritò coi beni lasciatimi da mio padre con uno dei più ricchi proprietari di questa città il primo anno del nostro matrimonio non era ancora trascorso quando restai vedova e in possesso di tutti i beni di mio marito che ammontavano a 90.000 dinar la sola rendita di tale somma bastava a sufficienza per farmi vivere largamente intanto trascorsi i primi sei mesi del lutto mi feci fare dieci abiti differenti di tale magnificenza che ognuno d'essi costava mille dinar e alla fine dell'anno cominciai a indossarli un giorno che ero sola occupata nelle mie faccende domestiche mi fu detto che una donna voleva parlarmi ordinai che entrasse era una persona di età avanzata che mi salutò baciando la terra e mi disse restando in ginocchio mia buona signora vi prego di scusare la libertà che mi prendo venendovi ad importunare ma la fiducia che ho nella vostra carità mi dà questo ardimento vi dirò mia onorevole signora che ho una figliola orfana di padre la quale deve meritarsi oggi e che essa e io siamo straniere e non abbiamo nessuna conoscenza di questa città questo ci confonde perché vorremmo mostrare alla famiglia con la quale ci imparentiamo che noi non siamo gente qualunque e che abbiamo credito perciò mia caritatevole signora se vi piacesse onorare con la vostra presenza queste nozze vi saremmo oltre ogni dire obbligate le donne del nostro paese apprenderanno che qui non siamo guardate come miserabili perché una signora della vostra sfera non ha disdegnato di farci tanto onore ma oimè quale mortificazione per noi se respingeste la mia preghiera non sapremmo a chi rivolgerci questo discorso che la povera donna frammischiò di lacrime mi commosse a compassione e le dissi mia buona madre non vi affliggete vi farò volentieri il piacere che mi chiedete ditemi dove devo andare e lasciatemi solo il tempo di vestirmi decentemente la vecchia trasportata dalla gioia a questa risposta fu più pronta a baciarmi i piedi di quanto non fu io ad impedirglielo mia caritatevole signora disalzandosi Dio vi darà merito della bontà che avete per la vostra serva e colmerà il vostro cuore di felicità come fate a noi non è necessario che vi prendiate subito questo disturbo basta che veniate verso sera nell'ora in cui verrò a prendervi addio signora soggiunse fino a quando avrò l'onore di rivedervi appena mi belasciata presi quello dei miei abiti che più mi piaceva con la collana di grosse perle brazzaletti anelli e d'orecchini di diamanti avendo quasi un presentimento di quanto doveva accadermi cominciava a scendere la notte quando la vecchia giunse con aspetto molto lieto mi baciò la mano e mi disse mia cara signora le parenti del mio genero che sono le prime signore della città sono già riunite se vi piace potete venire eccomi pronta a servirvi da guida subito partimmo lei camminava davanti a me e io la seguivo accompagnata da molte mie schiave decorosamente vestite in una lunghissima strada spazzata ed innaffiata di recente ci fermammo a una porta rischiarata da un fanale la cui luce mi fece leggere le seguenti iscrizioni in lettere d'oro questo è l'eterno albero dei piaceri e della gioia la vecchia bussò e la porta fu aperta all'istante condotta in una gran sala in fondo alla corte mi fu ricevuta da una giovane ed imparezzabile bellezza la quale dopo avermi abbrazzata e fatta sedere accanto a lei su un sofà ovvero un trono di legno prezioso ornato di diamanti signora mi disse voi siete stata invitata qui per assistere a queste nozze e io spero che siano differenti da quelle che vi immaginate io ho un fratello che è il più bello ed il più compito fra tutti gli uomini egli è così preso dalla descrizione che gli fu fatta della vostra bellezza che la sua sorte dipende da voi sarà sventuratissimo se non avrete pietà di lui egli sa il grado da voi occupato ma posso assicurarvi che non è indegno della vostra unione se le mie preghiere signora hanno qualche potere su di voi le unisco alle sue e vi supplico di non respingere la sua offerta dopo la morte di mio marito non mi era ancora venuto il pensiero di rimaritarmi ma non ebbi allora la forza di resistere a una così bella donna appena ebbi acconsentito col silenzio la giovane batte le mani e subito si aprì una porta dalla quale uscì un giovane di aspetto maestoso e di tanta grazia che mi stimai felice di aver fatto una così bella conquista egli prese posto vicino a me e dai suoi discorsi intuì che era superiore a quanto me ne aveva detto la sorella quando lei vide che eravamo contenti l'una dell'altro batte le mani una seconda volta ed entrò un cadì il quale stese il nostro contratto di matrimonio lo firmò facendolo anche sottoscrivere da quattro testimoni che aveva con sé la sola cosa che il nuovo sposo mi chiese fu che non vedessi né parlassi con alcun altro uomo all'infuori di lui così fu concluso il nostro matrimonio così io fui la principale attrice delle nozze alle quali ero stata solamente invitata un mese dopo il nostro matrimonio avendo bisogno di qualche stoffa domandai a mio marito il permesso di uscire per farne l'acquisto egli me l'accordò e io presi per accompagnarmi la vecchia e i due mie schiave quando fummo sulla via delle merci la vecchia disse mia buona padrona poiché cercate stoffa di seta bisogna che io vi conduca da un giovane mercante che conosco ne ha tutte le qualità e senza affannarvi a correre di bottega in bottega posso assicurarvi che troverete da lui ciò che non trovereste altrove io mi lasciai condurre ed entrammo nella bottega di un giovane mercante molto bello mi sedetti e gli feci dire dalla vecchia di mostrarmi le più belle stoffe di seta che avesse la vecchia volle che gli facessi la domanda io stessa ma io le dissi che una delle condizioni del mio matrimonio era di non parlare ad altro uomo fuorché a mio marito e che non dovevo contravvenirvi il mercante mi mostrò molte stoffe una delle quali essendomi piaciuta più delle altre gliene feci domandare il prezzo e gli rispose alla vecchia io non la vendo a nessun prezzo ma gliene farò un regalo se vuole permettermi di baciarle la guanza ordinai alla vecchia di dirgli che era molto ardito nel farmi simile proposta ed ella invece di obbedirmi mi disse che la domanda del giovane non era poi tanto importante non si trattava di parlare ma solo di presentare la guancia e sarebbe subito fatto io avevo tanto desiderio di quella stoffa che fui così ingelma da seguire il consiglio della vecchia le mie schiave si posero davanti a me perché non fossi vista ed io mi tolsi il velo ma invece di baciarmi il mercante mi morsicò fino a farmi uscire il sangue in dolore e la sorpresa furono tali da farmi cadere svenuta rimanendo in tale stato per così lungo tempo che il mercante nel frattempo poteva chiudere bottega e fuggire quando ripresi i sensi sentii la guancia tutta insanguinata la vecchia che mi accompagnava estremamente mortificata dell'incidente occorso mi procurò di confortarmi dicendo mia buona padrona vi domando perdono sono io la causa di tale sventura vi ho condotta da questo mercante perché è del mio paese e non l'avrei creduto capace di una così grande perversità ma non vi affliggete non perdiamo tempo torniamo a casa e io vi darò un rimedio che vi guarirà perfettamente in tre giorni così da non lasciarvi nessun segno il mio svenimento mi aveva resa così debole da poter appena camminare giunsi nonostante ciò a casa ma entrando nella mia stanza svenni di nuovo intanto la vecchia mi applicò il suo rimedio ed io tornata in me mi mise a letto venuta la notte tornò mio marito si accorse che io tenevo avviluppata la testa e me ne domandò la ragione risposi che avevo mal di capo ma egli prese un lumino e vedendo che ero ferita alla guancia mi disse da chi proviene questa ferita non potevo risolvermi a confessargli l'accaduto gli disse allora che mentre andavo a comprare la stoffa di seta col suo permesso un facchino carico di legna era passato tanto rasente a me in un viottolo stretto che un legno mi aveva fatto una graffiatura al viso questa ragione irritò mio marito che disse questa azione non resterà impunita darò domani ordine al luogotenente della polizia di far arrestare tutti i facchini ed impiccarli per timore di essere io la causa della morte di tanti innocenti gli dissi signore sarei dolente se si facesse tanta ingiustizia guardatevi dal commetterla mi crederei indegna del perdono se avessi causato una simile sventura ditemi dunque sinceramente egli rispose che debbo pensare della vostra ferita gli dissi che mi era stata cagionata da un venditore di scope che cavalcava sul suo asino e veniva dietro a me con la testa voltata altrove l'animale mi aveva urtata tanto violentemente da farmi cadere su un vetro stando così le cose disse allora mio marito il sole non si leverà domani senza che il gran giafar non sia avvertito di questa insolenza egli farà morire tutti i mercanti di scope in nome di dio signore vi supplico di perdonare essi non sono colpevoli come dunque signora disse che debbo credere parlate voglio conoscere dalla vostra bocca la verità signore gli risposi mi venne uno stordimento e cadde ecco il fatto a queste ultime parole il mio sposo perse la pazienza ed esclamò ho udito troppe menzogne detto ciò batte le mani ed entrarono tre schiavi tiratela fuori dal letto disse loro e stendetela in mezzo alla stanza gli schiavi eseguirono il suo ordine e siccome uno mi teneva per la testa e l'altro per i piedi comandò al terzo di andare a prendere la sciabola e quando l'ebbe portata disse troncatele il capo e va a gettarlo nel tigri in pasto ai pesci questo è il castigo che do alle persone a cui ho accordato il mio cuore e che tradiscono la fede vedendo che lo schiavo non obbediva subito continuò animo dunque che cosa ti trattiene che cosa aspetti signora mi disse allora lo schiavo voi siete all'ultimo momento della vostra vita ditemi se prima di morire volete disporre di qualche cosa io domandai la libertà di dire una parola e mi fu accordato allora sollevai la testa e guardando teneramente lo sposo gli dissi ahimè in quale stato sono ridotta devo dunque morire nei più bei giorni della mia vita volevo proseguire ma le lacrime e i sospiri me lo impedirono questo non lo commosse anzi mi fece duri rimproveri a cui fu inutile rispondere ricorse alle preghiere ma non le udì e ordinò allo schiavo di fare il suo dovere in questo frattempo la vecchia che era stata nutrice del mio sposo entrò e gettandosi ai suoi piedi per cercare di placarlo gli disse per compenso di avervi nutrito e allevato mi scongiuro di concedermi la sua grazia pensate che si uccide soltanto chi uccide e la preferita le parole con atteggiamento commovente e le accompagnò con tante lacrime che fecero grande impressione sull'animo del mio sposo ebbene disse per amor vostro le dono la vita ma voglio che porti dei segni che le facciano ricordare il suo delitto a queste parole uno schiavo per suo ordine mi diede con tutta la forza dei colpi sul petto con una canna pieghevole e strappandomi pelle e carne mi fecero perdere i sensi poi mi si portò in una casa dove la vecchia ebbe gran cura di me dopo quattro mesi guarì ma le cicatrici rimasero appena fu in condizione di camminare e uscire voglio tornare alla casa del mio primo marito ma la trovai distrutta il mio sposo nell'eccesso della sua ira aveva fatto distruggere non solo la mia casa ma tutta la strada era una crudeltà inaudita ma non avrei potuto vendicarmene perché il mio sposo si era nascosto e io non sapevo neppure chi fosse e anche se l'avessi saputo che avrei potuto fare sola priva di tutto ricorsi alla mia cara sorella zobeida la quale mi ricevette con la sua abituale bontà aveva già accolto l'altra mia sorella dopo la morte di nostra madre il califo soddisfatto di queste spiegazioni volle dar segno della sua grandezza e della sua generosità ai monaci figli di re e far sperimentare alle tre donne gli effetti della sua bontà senza servirsi del ministero del suo gran visir disse egli stesso a zobeida quella fata che si fece vedere da voi sotto la figura di serpente e che vi ha imposto quella legge rigorosa quella fata non vi ha parlato della sua dimora o piuttosto non vi ha promesso di rivedervi e di far ritornare donne le cagne bran califo rispogge anche al di là del caucaso signora riprese il califo dov'è la ciocca dei capelli lei rispose fin da allora ho sempre avuto cura di portarla con me infatti la trasse fuori e aprendo un po' l'involto che la nascondeva gliela mostrò ebbene replicò il califo facciamo venire qui la fata non potreste chiamarla più a proposito perché io la desidero avendo Zobeda consentito fu portato del fuoco ed ella vi posò sopra la ciocca nel medesimo istante il palazzo tremò e la fata apparve davanti al califo sotto l'aspetto di una donna vestita magnificamente dicendogli grande califo eccomi pronta a ricevere i vostri comandi la donna che mi ha chiamata per ordine vostro mi ha fatto un gran bene e io per mostrare la mia riconoscenza l'ho vendicata dell'offesa fatta alle dalle sue sorelle mutandole in cagne ma se vostra maestà lo vuole restituirò loro la forma umana bella fata le rispose il califo non potete rendermi maggior piacere fate loro questa grazia e poi cercherò io il mezzo di consolarle della crudele penitenza ma prima di tutto debbo rivolgervi un'altra preghiera in favore della donna che è stata così crudelmente maltrattata da un marito sconosciuto siccome voi sapete molte cose credo non ignoriate questa ditemi il nome del barbaro che non si è contentato di esercitare su di lei tanta crudeltà ma le ha tolto anche tutti i suoi beni mi sorprende come un'azione così ingiusta così inumana che fa torto alla mia autorità non si è giunta fino a me per far piacere a vostra maestà replicò la fata restituirò alle cagne la loro forma umana guarirò la donna delle sue cicatrici e poi vi nominerò chi la maltrattata in tal modo il califo mandò a prendere le due cagne in casa di zobeida e quando furono venute la fata chiese una tazza d'acqua pronunciò delle parole che nessuno comprese gettò un po' d'acqua su Amina e sulle due cagne e queste furono mutate in due donne di meravigliosa bellezza e le cicatrici di Amina disparvero allora la fata disse al califo bisogna adesso che vi riveli chi è lo sposo sconosciuto che cercate egli vi appartiene da vicino essendo il principe Elamin vostro figliuolo primogenito fratello del principe Mamun suo cadetto essendosi appassionatamente innamorato di questa donna al racconto fattogli della bellezza di lei trovò un pretesto per farla andare a casa sua e la sposò per i colpi che le ha fatto dare egli è in certo modo scusabile sua moglie era stata un po' leggera e le scusi che aveva adottato erano tali da far credere che fosse più colpevole di quanto realmente fosse ciò e quanto posso dire per soddisfare la vostra curiosità dette queste parole salutò il califo e disparve il principe pieno d'ammirazione e contento di quanto si stava facendo però per la sua compie azioni di cui si parlerà eternamente prima fece chiamare il amin suo figlio e gli disse che sapeva del suo matrimonio segreto e gli spiegò la causa delle ferite di amina il principe non aspettò che suo padre gli dicesse di perdonarla e la riprese all'istante il califo dichiarò poi che dava il suo cuore e la sua mano a zobeida e propose le tre altre sorelle ai tre monaci figli di re che le accettarono come mogli con molta riconoscenza il califo assegnò a ciascuno di loro un magnifico palazzo nella città di Baghdad li innalzò alle prime cariche dell'impero e li ammise nel suo consiglio il primo calì di Baghdad chiamato coi testimoni stese i contratti di matrimonio e il famoso califo Harun al-Rashid facendo la felicità di tante persone ci attirò mille benedizioni non era ancora giorno quando Shahrad terminò questa storia che era stata per molte notti interrotta e ripresa ebbe così la possibilità di cominciarne subito un'altra infatti rivolgendosi al sultano raccontò quanto segue di cominciarne